Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti. Apriamo questa seconda giornata del convegno dedicato a Massimo Castri, cominciando ad esplorare la seconda area tematica, quindi partiamo col discorso sulle pedagogie. Ieri abbiamo approfondito vari aspetti di quello che era il rapporto di Massimo con la testualità, con la scrittura, con la funzione del dramaturg, con i suoi tacquini di regia che questa scrittura documentano. Oggi invece ci spostiamo su un'area un po' più concreta, e quello che riguarda l'attività pratica, attraverso un discorso sulla pedagogia. Diciamo che il titolo di questa mattinata, che poi si svilupperà come un dialogo con alcuni degli attori che hanno avuto Castri sia come insegnante e poi come regista invece in occasione di produzione di spettacoli. Il titolo, dicevo, è Cosa fate quando recitate? Allora, questa è una domanda che ho sentito fare a Castri più volte in occasione delle esperienze di formazione alle quali ho potuto assistere, che sono quelle del suo ultimo periodo di attività, l'insegnamento in un seminario breve alla Scuola Civica Paolo Grassi di Milano nel 2004 e poi nei due corsi di alta formazione che ho tenuto per Emilia Romagna Teatro tra il 2006 e il 2008. Questa domanda cosa ci dice? Una domanda che lasciava gli interrogati un po' spiazzati, gli intervetti. Cosa facciamo quando recitiamo? È una domanda che chiede all'allievo, all'attore in generale, un discorso di consapevolezza, cioè di sapere non soltanto di avere strumenti espressivi adatti a comunicare un senso, ma anche di saperli utilizzare, di sapere quali sono e come vengono gestiti. Questo discorso sulla consapevolezza che è un po' trasversale all'approccio di Castri a tanti temi. È una domanda che Castri stesso si è fatto. Ha varie interviste, occasioni di dibattito su questo argomento, lui ha sempre raccontato di avere fatto l'attore per circa 8 anni, tra il 64 e il 72 e di avere smesso perché non sapeva che cosa stava facendo. Poi questo è parziale rispetto al suo percorso, insomma poi si è trovato a fare il regista e quindi è cambiata la sua prospettiva, però questa domanda, cioè cosa faccio, come controllo, cosa sto mettendo in moto, vissuto all'inizio dall'interno, quindi dal punto di vista dell'attore e poi dal regista, cioè mosso dalla necessità di trovare un terreno di dialogo, di comprensione, un territorio comune per poter andare insieme agli attori nella stessa direzione verso la costruzione di un senso. Un altro aspetto appunto, non è soltanto, cioè che caratterizza il personaggio, è proprio quello della ricerca di un senso, quindi di una grande attenzione anche poi al momento della verifica della comunicazione. l'attore deve sapere che cosa sta facendo perché solo così sa che cosa sta comunicando, cioè qualcosa che sta, come sto andando verso il pubblico, che vuol dire anche a un certo livello sapere qual è il sistema di segni, quindi qual è l'insieme di elementi che fanno lo spettacolo, qual è il progetto di regia che si costruisce insieme ma che l'attore non controlla completamente e quindi un movimento verso rendere efficace la comunicazione. Diciamo che dopo una fase di attività, quindi dopo questo scarto da essere attore, quindi porsi il problema rispetto a se stesso e poi porsi rispetto alla dimensione del regista, quindi come faccio a trovare questo modo, come riesco a parlare con gli attori che sono quegli strumenti attraverso i quali voglio dire qualcosa e che è il momento di ricerca che si svolge nel periodo di lavoro a Brescia, quindi tra il 72 e l'81, questo primo arco di lavoro. Per rispondere a questa domanda, Castri che appunto non ha una formazione accademica perché è un autodidatta, attraversa come attore tante esperienze molto diverse, lavora negli stabili ma ha iniziato col cabaret, lavora con Portucci, accumula una serie di esperienze tra con quella della comunità teatrale dell'Uniglia Romagna dove incontra Giancarlo Cobelli e dove questa comunità ha proprio come tema di lavoro una dimensione di training dell'attore continuo che si rifà a dei modelli che sono dei modelli che vengono anche dalla dimensione del teatro di gruppo e dai modelli di influenze anche straniere, uno dei riferimenti è proprio il learning. Dopo tutto questo insieme di percorsi che sono variegati ma disorganizzati dove cerca dei maestri, oltre appunto all'esperienza molto importante con Cobelli, ma dove cerca dei maestri. Castri che ha un po' bisogno di sistematizzare, cioè di mettere in fila le cose, cerca i maestri nei testi e quindi come riferimento mette insieme due rami, anche di due poli distanti, tra loro apparentemente distanti, che sono Brecht da una parte e Stanislaschi dall'altra. E nella prima fase appunto di lavoro sulle regie è evidente che lui si sposta e cerca di lavorare anche con gli attori tenendo conto di questi due elementi. Le cose cambiano un po' a partire dal momento in cui, tramite di Ettore Capriolo, si trova invece a essere chiamato come pedagogo alla scuola civica del piccolo teatro che adesso è la Paolo Grassi, perché si trova in un'altra dimensione. Lui senza maestri si trova a dover insegnare qualcosa. Lavora sia con i corsi per attori, ma probabilmente con i corsi per i registi e assistenti alla regia, dove conosce tra gli altri Cristina Pezzoli, che poi diventerà una delle sue collaboratrici FIS per moltissimo tempo e che ritroveremo nel corso della mattinata. E si pone, cioè fa uno scalino in più, cioè si considera la recitazione proprio all'interno del sistema di formazione, pensando a come si può tradurre e in qualche modo organizzare un metodo della recitazione nel momento in cui si trova a lavorare. Nel 1986, con il terzo anno del corso di recitazione, prepara un lavoro molto sperimentale, perché mescola il teatro con il linguaggio della televisione, a partire da Girotondo di Schnitzler. Vediamo adesso un'intervista in cui Castri ci parla di questo lavoro. Dunque è semplice, nel senso che nel terzo anno della scuola, io credo, perché poi sempre le cose vanno così, ma comunque credo che il problema fondamentale dal punto di vista didattico che dovrebbe essere affrontato è appunto quello del personaggio. Nel primo e nel secondo anno si fanno altre cose, si fa un approccio all'espressività, si fa un approccio all'uso del corpo, eccetera. Ma il terzo anno come problema specifico dovrebbe avere, secondo me, il personaggio. Il personaggio che è una struttura portante del lavoro, del tipo di teatro che affronteranno i ragazzi una volta usciti da scuola. Cioè, come si costruisce il personaggio, quali sono i metodi di costruzione del personaggio, come si inventa il personaggio sul palcoscenico e così via. Ora, da questo punto di vista non c'è neanche molta tradizione in Italia, perché non c'è una metodologia precisa, non c'è stato neanche appunto un arrivo, diciamo così, scientifico, comunque sia regolare, appunto, ad esempio del metodo Stanislavski che è arrivato a pezzetti, è arrivato così in maniera molto sparsa. Questo testo è un piccolo classico, no? Composto di dieci scene staccate. In una di queste scene ci sono due personaggi molto disegnati, molto individuati, presi così tagliati, staccati, come fosse una specie appunto di tranche devine, di pezzo di vita di questo personaggio. Quindi sembrava che il testo, da questo punto di vista, fosse particolarmente adatto di qua mettere l'allievo appunto di fronte del problema, appunto, della costruzione del personaggio, non visto tanto nella sua totalità, diciamo che un personaggio ricerco, fra l'attraverso tre atti, quanto visto proprio così nella sua dimensione minimale e quindi, dico, più adatta da certi punti di vista, di farci un lavoro di approccio ai metodi e ai problemi, appunto di dire così via. Ha una sua funzionalità anche da altri punti di vista, cioè dal punto di vista che Schnitzler più scrivendo appunto in ambito, diciamo così, decadentistico da certi punti, però deriva sicuramente appunto a una sua partenza che parte dal naturalismo. Quindi questi suoi personaggi, pur essendo iscritti all'interno di una struttura, all'interno di una, diciamo così, drammaturgia di tipo decadentistico, decadente, libertissima in qualche modo, sono però frammenti, sono frammenti di naturalismo, sono frammenti di realismo, no? Ritagliati, scorporati, però sono pur sempre dei frammenti. Da questo punto di vista questi personaggi sono adatti, appunto, a affrontare, appunto, di quel problema del rapporto attore al personaggio nella sua dimensione psicologica, nella sua dimensione realistica e così via. E lì a rimassi, ma dico, io ritengo che ancora a tutt'oggi quello che potrebbe essere molto interessante e utile, direi, per l'Italia, sarebbe, appunto, di riportare, appunto, e affrontare, modificandolo naturalmente, appunto, il vecchio metodo Stanillaski. Dico vecchio perché evidentemente è una matrice dalla quale poi sono germogliati una serie di metodi diversi, appunto, da quello americano, appunto, dico che è particolarmente adatto per i cinema e così via. Però io ritengo che per affrontare, appunto, il personaggio, il metodo migliore è pur sempre quello, appunto, dell'inventato dal vecchio Stanillaski. Riadattato, evidentemente riciclato, riportato, appunto, ai nostri bisogni. Detto in poche parole, quindi, la creazione, appunto, di un sottotesto permanente che percorre sotterraneamente tutto il testo e che anima, appunto, e permette di rivivere tutto quanto il testo del personaggio. Ora, quindi, lo sforzo didattico maggiore, in questo caso, si svolge, appunto, su due piani. Da una parte è voluto mettere in grado il ragazzo di, dall'allievo, insomma, di stimolare la propria immaginazione, appunto, e essere capaci, attraverso la propria immaginazione, appunto, di inventare un sottotesto permanente rispetto al testo. E dall'altra parte, una volta inventato questo sottotesto, mettere in attrito il sottotesto con il testo, e questo produce, evidentemente, il gesto, produce, appunto, il gesto fonico e il gesto fisico. E la terza fase di questo lavoro, appunto, controllare se, appunto, la emissione di questa comunicazione, di questo messaggio, frutto di questo attrito, poi è, in realtà, quello che si voleva. Quindi un controllo, appunto, del messaggio verso la platea. Ecco, quindi, fatto, i tre stagli di lavoro sono questi, insomma, di mettere in grado, appunto, di avere questa invenzione di sottotesto, in attrito il sottotesto con il testo, e poi, in un terzo momento, appunto, avere la capacità di essere dentro e fuori, insieme, da parte dell'attore, in realtà, fare, appunto, che possa emettere il messaggio, ma anche, contemporaneamente, controllare il messaggio, appunto, nel rapporto di quelli che hanno l'intenzione di base. Questo è il grande schema, il grande schema di lavoro, appunto, che però, come dico, dovrebbe essere ancora più radicato nella realtà tutta, in qualche modo, del sistema scolastico che stiamo usando. Ecco, c'è un rapporto con il testo, un rapporto con il personaggio, e il rapporto con il testo e il personaggio all'interno di una griglia di regia. Questo è quello che è, diciamo così, il punto terminale del nostro teatro occidentale in questo momento, e questo è quello a cui deve abituarsi, a cui deve essere pronto, in qualche modo, l'attore che esce dalla scuola. Questo viene affrontato sicuramente soltanto nella parte terminale del terzo anno, in qualche modo, la parte di questa scuola. Per cui, io riterrei, quindi, molto importante che ci fossero delle scuole di specializzazioni, come ci sono, per esempio, giustamente, ritengo, per le scuole musicali, che hanno, appunto, questo lungo procedimento, apprendimento grammaticale e sintattico, che poi, dopo termina, però, in anni di specializzazione, per essere adatti, appunto, a affrontare problemi più complessi. Questo in Italia manca, e mi sembra, appunto, mi sembrava molto importante, per esempio, quello che stava nascendo qua a Milano, cioè, appunto, lo Streller annunciava, appunto, che avrebbe formato una scuola di specializzazione. Questo mi sembrava molto interessante, perché, appunto, quello che mancava, cioè, lavorare, appunto, con attori già formati, che però devono, appunto, approfondire i metodi, appunto, approfondire la propria maturità e così. In realtà, poi, invece, sembra che anche la scuola di istituzione diventi una scuola di, diciamo, dalle elementari alle medie, insomma, in qualche modo, e non di più. Invece sarebbe giusto, secondo me, e questo sarebbe possibile, però, soltanto se le scuole avessero un rapporto diretto con un teatro, cioè, se ogni scuola fosse in rapporto con un teatro o con un sistema teatrale, meglio, molto attivo, in maniera tale che, terminati i primi tre anni di scuola o i due anni di scuola, poi questo momento di specializzazione avvenisse dentro la prassi, una prassi permanente, appunto, che soltanto, però, dico, la prossimità di un teatro alla scuola potrebbe permetterci. Allora, cominciamo ad aprire, no, questo, come dire, questo doloroso scrimmio dei ricordi scolastici vostri, miei, perché io dico solo che sono molto felice di essere qui con loro perché, quando io ho cominciato a lavorare con Castri, lui ci ha parlato sempre del gruppo, il gruppo, il gruppo, il gruppo, come essere al tavolo con i supereroi di quando ero piccolo, per cui è molto piacevole come è questa situazione. Allora, voi siete stati allievi di Massimo in anni diversi, no? Anche se poi vi siete riuniti nell'esperienza dell'atelier della Costa Avest. Allora, io credo che sia interessante per tutti il fatto di cercare di vedere il percorso di cui voi siete testimoni, fatto con Massimo a partire da cosa succedeva dentro la scuola, dentro la civica, cosa è successo quando questa esperienza è uscita dalla scuola, è finita appunto nell'atelier della Costa Avest, ma rimanendo di fatto un'esperienza intermedia, no? In gran parte formativa, laboratoriale, per avere un esito che però non era un esito produttivo in senso stretto. E poi cosa è successo quando voi stessi vi siete ritrovati a lavorare col vostro maestro in una condizione invece specificamente produttiva, senza laboratori di mediazione. Quindi io terrei questa chiacchierata che facciamo di circa un'ora e mezza, adesso un po' meno, su questi tre filoni e poi magari, ma questo vediamo se ci arriviamo se ne avete voglia, capire come invece quel mestiere acquisito attraverso l'aiuto di Massimo, siete riusciti a utilizzarlo al di fuori del rapporto professionale con Massimo, perché poi tutti voi avete avuto carriere ben più complesse che non rimanere attaccati al babbo, insomma. Quindi io comincerei con, se siete d'accordo, con un giro relativo all'insegnamento di Massimo dentro la scuola. Sì, io non l'ho avuto a scuola, l'ho avuto lui. Francesco. Francesco è il decano direi. Sì, e anche io in un'ora, 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 però io prima, purtroppo. Il decano è stato il primo, mi intendeva. Sì, sì, sì. Sì, perché io sono l'unico qua presente, purtroppo doveva esserci anche Mauro, ma l'inverno che per ragioni di salute credo non è riuscito a venire, credo che Mauro sia del nostro gruppo, quello che Massimo citava spesso, sia la memoria più ricca rispetto a questo passaggio dall'essere allievo all'essere poi professionista con Massimo. Spero che ci sarà un'altra occasione per cui Mauro possa parlare della sua straordinaria esperienza con Castri. Io quello che posso dire è, appunto, siccome sono l'unico testimone dell'esperienza del girotondo di Schnitzler, io posso dire questo, che purtroppo sarò deludente perché io mi sono trovato ad essere allievo a mia insaputa di Massimo perché ero stato cacciato dalla scuola del piccolo teatro perché avevo deciso di andare a lavorare con Branciaroli, però mi trovavo libero per fare il girotondo e Massimo sapeva di questa cosa. Brevemente i miei compagni si sono ribellati e hanno detto noi non facciamo messaggio se non torno al nostro compagno, cosa che io ovviamente non dimenticherò mai. E quindi mi sono ritrovato nella fase finale del percorso didattico di Castri alla Civica e quindi sono andato a fare quello che poi sarebbe diventato il mio lavoro, che in parte era già iniziato. Però dall'esperienza del girotondo io mi guardavo sempre molto circospetto perché vedevo dei pazzi intorno a me che continuavano ad essere straordinariamente bravi ma nello stesso tempo deliravano sui sottotesti, sulle che tu non hai portato avanti quel sottotesto, io non li capivo. Cosa che poi ho capito successivamente del progetto Euripide, che anche lì sono arrivato dopo. Quindi io sono sempre arrivato un po' invitato, ho sempre preso il primo in corsa e forse questo mi ha aiutato a fare uno sforzo in più per capire il lavoro di Massimo. Mi fa molta tenerezza sentire Massimo che parla di noi, dicendo, chiamandoci ragazzi. Non soltanto per un fatto anagrafico, ma per un anno, eravamo ragazzi inconsapevoli. Forse oggi c'è una consapevolezza maggiore che dobbiamo tenere a freno perché nessuno è migliore di un altro. E quindi per quanto riguarda l'esperienza di Schnitzler io seguivo perisseguamente le indicazioni di Massimo che, alla luce di come poi sono andate le cose nel teatro in Italia, non erano solo delle indicazioni di orecchia, ma erano istruzioni al lavoro. Era un capo artigiano e banista che ti diceva come fare al meglio il lavoro di rimatura e di rasatura del pezzo che avevi in mano. Questa cosa è stato un insegnamento però senza che io mi rendessi conto che fosse un insegnamento e me ne sono poi reso conto successivamente. Non mi è mai più successo di fare qualsiasi cosa, piccolo o grande, che fosse in teatro senza mai evitare il testo. Questa è la cosa che mi è rimasta di più, infatti adesso se io avessi un testo sarei brevissimo, siccome non ho un testo rischio di essere più lisso. Una cosa che mi trovo sempre anche a scontrarmi in senso buono con altri colleghi e colleghe è che non si può mai creare niente di importante se poi non c'è la conferma sul testo, se non c'è la prova del 9 sul testo. Tu puoi fare qualsiasi cosa sarà sempre vana se poi non ritorna al testo e il testo non ti dice sì ok hai ragione, puoi fare questa cosa. Sembra limitante questo tipo di procedimento ma in realtà invece è esaltante perché il testo lo puoi, e questo è massimo, lo puoi manipolare nel totale rispetto del testo. Quindi e questo anche attraverso i sottotesti. Io ho sempre utilizzato dei sottotesti sessuali perché li trovo più divertenti, più intriganti e soprattutto mi diverto ad avere questi sottotesti senza che nessuno se ne renda conto. E quindi io ho fatto questa scelta. E devo dire che, adesso ovviamente non voglio però, devo dire che con Massimo ci si divertiva anche rispetto a questa cosa e non mi ha mai detto se lo stai facendo una cazzata. Niente, solo questo perché quindi sull'esperienza di Schnitzler purtroppo non posso aiutarvi, ma ci sono Maria e Bruna. Adesso poi passiamo velocemente a Maria e Bruna. Però il piano operativo di Massimo che monta con degli allievi, i pazzi di cui parlavi prima, passando per il sottotesto, le brevi scene di Schnitzler. te lo ricordi un po', le brevi scene di Schnitzler. Riesci a ricordartelo un po' come era il processo di lavoro? No. Cioè a te davo i toni, questo lo abbiamo detto. E' no, no, no. No, no, non mi dava i toni. Mi faceva... a 21 anni... a quanti anni avevo? 22 anni? A 22 anni sei un puledro irascibile, quindi e a questo divertiva molto Massimo, e io... Gli voglio un bene eterno perché Massimo era un autentico pedagogo anche dal punto di vista dell'affetto che aveva nei confronti degli allievi, credo che forse è lui a mia memoria. E lo testimone tutto il suo percorso e il suo accanimento, per quanto riguarda abbiamo anche sentito sulla problematica della formazione degli attori, anche degli attori dopo le scuole tradizionali. Quindi no, non mi dava i toni, però io purtroppo ho perso il percorso iniziale, quindi non ho fatto le prove a tavolino. Io sono arrivato con la parte memoria e l'ho fatta e lui ha lavorato in quella direzione lì. Posso dire solo questo, che forse su quel lavoro che ho fatto sul conte lui poi ha deciso di farmi fare il maestro Dienko nel gabbiano da quel lavoro che avevo fatto. Quindi non... non... probabilmente non gli era interessato se... E mi colpì moltissimo e chiudo, mi colpì moltissimo come lui me lo propose e disse vorrei che tu collaborassi a questo spettacolo. E ha detto ti prendo, vieni, stai zitto, accetta e basta. ha detto vorrei che tu collaborassi, è una formula che io non ho più sentito nella mia carriera quando ti propongono lavoro, questa è una cosa molto bella. Allora, molto brevemente, io ero in corso con Bruna Rossi, con Tommaso Ragno che c'è anche nel progetto Uripide, con lui abbiamo lavorato un periodo breve al secondo anno di scuola, il testo era La ragione degli altri quindi una regia da lui fatta, il periodo già abbastanza breve che era previsto di una ventina di giorni si è accorciato per la morte della madre di Massimo, quindi abbiamo interrotto prima. Cosa, più o meno il percorso di lavoro è stato questo, lettura ovviamente del testo, un testo che lui aveva fatto in maniera assolutamente maieutica, quindi lui non ci raccontava la sua regia che nessuno di noi aveva visto perché non essendoci poi supporti audiovisivi, non è come adesso che uno, insomma, in maniera manieutica facevo una lettura analizzando tutta la declinazione dei sottotesti quindi il sottotesto complessivo dell'opera, quello che erano dei personaggi però cercando di farci, sempre a giro di tavolo, alternando quindi la lettura dei personaggi facendo a giro di tavolo emergere una delle nostre proposte analisi su quello, sui dati che il testo Daniel riprendeva, rianalizzava riassestava e attraverso questo riassestamento sul testo ci enunciava quello che lui aveva fatto come percorso di regia. Quindi, seconda fase, dopo una prima analisi tutta abbastanza veloce, quindi andavamo a mettere, appunto, come diceva nell'intervista in attrito, in frammenti di scena, il sottotesto che veniva, che era stato, diciamo, elaborato partendo da noi, nella recitazione, quindi rimanevamo su alcune scene dove venivano utilizzati da parte sua sottotesti concreti, cioè mi ricordo una battuta dove il sottotesto concreto, faccio per fare un esempio, non è anedotti, questo è un gioco che gli premeva, quindi, era che noi giocare, come fare una giocata di poker con gli allievi a carte scoperte, lui faceva vedere le carte che aveva, le carte della sua regia in modo che noi, sempre in maniera maiale, sempre cercando di farlo emergere da noi vedessimo quello che era stato il suo processo di pensiero, quindi non ci diceva poi perché era arrivato a mettere il Natale, ma tutto il percorso che aveva fatto sì e in cui trovava dei collegamenti con quello che dicevamo, veniva sviluppato un'immagine, ad esempio, del Natale in questo testo, quindi, appunto, una griglia, aprendo anche la griglia di regia in questo, non era tanto di simile a quello che faceva con i registi, quindi non è che trattasse gli attori in maniera molto diversa dalla pedagogia che aveva quei registi, quello che facevamo in più noi era quello che poi dovevamo mettere in atto nella recitazione questo lavoro. No, è stata bravissima, ha detto tutto lei, io ho un ricordo meno preciso di quei giorni, ricordo purtroppo anche il fatto che, vabbè, il seminario si interruppe brutalmente perché proprio morì la madre, quindi lui partì da un giorno all'altro e ci siamo trovati che la cosa si era interrotta e quindi, così, non fu molto piacevole e conclusivo. Poi, vabbè, gli altri nostri compagni in corso, Gaeta Naronica, Rita Ricucci, Paola Baldini, vabbè, Tomasone l'hai già detto, oddio, sto invecchiando, non mi ricordo. Vabbè, per chi vuole li diciamo, no? Perché i nomi bisogna dire, insomma. Poi, poi diremo, quando vengono in mente. Poi siamo ancora a vedere. Anna Coppola, Anna Coppola. Volevo, non so se, noi parliamo di sottotesto, magari non è così scontato a cosa sia, ecco, ma in realtà sono degli strumenti che usiamo, immagino che usate, che ci vengono naturalmente. Massimo, avendo questa tendenza, buongiorno, sono Sergio Romano. Massimo, avendo questa tendenza a, come dire, a sistematizzare, a capire quello che faceva, inoltre avendo questo desiderio di trasmettere, quindi di insegnare, cercava di dare i nomi alle esperienze, no? Di classificarle, no? Quando parla di Stanislavski, io, non so se sono d'accordo con lui o se me l'ha proprio insegnato lui e mi è rimasto dentro. In Italia Stanislavski non sappiamo neanche cosa sia. Però quando Stanislavski parla dell'obiettivo complessivo del personaggio e poi, in realtà, alla fine il metodo Stanislavski è semplicemente la storia di una vita, di un uomo che si è dedicato con amore alla passione dell'arte, del recitare, del teatro e ha fatto esperienze, se li ha cercati di sistematizzare, ma in una sistematizzazione che poi è in continuo movimento. Quindi non è che è giusta una cosa, non è giusta un'altra, e ce ne sono tanti di attori che hanno lasciato testimonianze del genere. Ma per arrivare al sottotesto era solo per dare, quando lei parlava del trapano, quindi sono tutta quella serie di stimoli che possono essere l'obiettivo complessivo. Ieri in un video, Massimo, in un video che abbiamo visto rispetto alla messa in scena dell'Iffigenia in Tauride che aveva fatto a Torino, nell'intervista dove racconta lo spazio, questo meraviglioso spazio, quindi questa destesa enorme di sabbia nel quale ci sono qua e là delle rovine, e racconta di cosa arriva a fare Oreste lì, in quel luogo. Ora Oreste è questo giovane che si ritrova coinvolto in una vendetta di famiglia perché forse il motore della vendetta su Egisto è molto più elettra di quanto non sia lui stesso come vendicatore. In Euripide arriva un po' indeciso, tant'è che anche Massimo non ne parla in questi termini, mentre l'Ettra è questa ragazzina piena di livore, lui arriva, compie questa cosa, dopo di che arriva alle rinni, il rimorso e fugge dalle rinni, per cui abbiamo l'Oreste di Euripide, questi due che scappano, che sono disposti a fare tutto, come si chiama, living in Las Vegas, insomma questi disperati, che poi per trovare, e qua vengo a cosa volevo dire, per trovare pace, per trovare la salute arrivano in Tauride, quindi un personaggio, una persona che ricerca la propria salute, io non so per voi ma a me rimanda comunque un movimento, cioè uno strumento importante, cioè se io parto ovviamente costruendo tutto un immaginario intorno a delle persone che vivono una disgrazia di questo genere, che attraversano, che sono perseguitati, che scappano e fuggono da questo rimorso che diventano delle specie di CIA, di poliziotti, di servizi segreti che ti inseguono per farti fuori e dopo di che passano gli anni in mezzo e vai alla ricerca di un senso della tua vita ma non puoi fare niente, non puoi lavorare, non puoi, no? Dopodiché ti ritrovi in questo luogo, terra di nessuno, dove non c'è più nulla, non c'è più civiltà, dove c'è una tribù che gestisce il luogo di rozzi, no? Che però compiono sacrifici umani, per cui non sei proprio arrivato nel posto più tranquillo del mondo. Quindi questo, come dire, questa esposizione, questa definizione, l'obiettivo del personaggio, se tu te lo racconti, vanno a cercare la salute, che è la salute fisica, la salute mentale, la salute rispetto a un passato che non c'è più, diventa uno strumento. però il sottotesto è da un lato anche questo, ma poi anche i sottotesti di altro tipo, sessuali, per dire, di cui parlavano, no? Sono i motori primordiali che ci muovono, no? Quindi sono tutti quegli strumenti che ti servono per mettere insieme degli stimoli al processo creativo e che ti danno la possibilità di condurre il personaggio all'interno di un immaginario e poi anche proprio di agire, no? Concretamente, no? Non so perché... Ecco, era solo per dare... No, 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 non so se è stato utile per avere un'idea di cosa possa essere questo sottotesto. No, 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 mi sembra interessante anche perché appunto oggi abbiamo anche gli allievi attuali della Paolo Grassi, quindi magari sembra sempre che stiamo rivolgendo tutto a loro oggi, no? che peraltro mi sembra la ragione per cui si fanno queste cose. Ok, abbiamo attraversato il momento della civica con i vari incidenti tipici di chiunque abbia mai lavorato con Massimo, di interruzioni, riprese, interruzioni e riprese, ed era appunto la fase che Tea diceva prima che è quella che viene definita, che lui stesso a un certo momento sente che gli sta stretta perché lì si fa la grammatica, lì si fa un lavoro che lui non riesce a sviluppare, no? Anche per i problemi tecnici di cui parlavate voi. e crea questo interessantissimo laboratorio sulla costa ovest, fra Rosignano e Castiglioncello, in cui confluiscono non una sola classe che era l'immaginario che io mi ero sempre portato dietro, ma una serie di attori, quasi tutti provenienti dalla civica, ma non tutti provenienti dalla civica, che si incontrano con Massimo sulla costa ovest e nasce questo laboratorio in cui poter sviluppare appunto il lavoro del sottotesto attraverso quelli che lui chiamava i tre pezzi facili, cioè Diffigenia, Elettera e Oreste e al di là della narrazione di come poi è andata dalla storia, che magari fra le righe uscirà fuori. C'è il video? No, no, sì, sì, partiamo da lì, quindi? No, no, partiamo dal video e poi faccio la domanda. Ok, ok, allora vediamo qui. E' contratto, lo sento, è contratto, è contratto, è contratto, è contratto. C'è come un disegno che tu fai, Comunque i tempi sono questi, e questo è il tempo della cena tutta poi. Come fai a fare così? Non mi riuscirebbe neanche di qua, con la cura del medico di 15 giorni. Ma perché? Ma perché? Come succede? Non lo so. Eh, adesso, non c'è te, allora. Noi abbiamo cominciato a settembre dell'anno scorso e abbiamo fatto una prima fase di seminario durata 27 giorni, credo esattamente, poco meno di un mese, e questo seminario era articolato in questo modo. Si è proceduto prima di tutto a una lettura dei testi, che erano questi testi di Euripide, l'Elettra, l'Oreste, l'Ipigenia e l'Intauride. Si è partita dall'ipotesi che questi testi potessero virtualmente costituire una specie di trilogia. Non una trilogia, evidentemente, nella forma, ma quanto nei contenuti, cioè si è preso l'aspetto tematico di questi figli, degli eroi, tra virgolette, e si è cercato di sviluppare un percorso all'interno di questi tre testi su temi che potessero riguardare fortemente, si sperava almeno, un gruppo di giovani attori. Allora, si è proceduto in questo modo, si è fatta una lettura prima dei tre testi, direi abbastanza rapida, non tanto approfondita, e poi i ragazzi sono stati invitati da Castri a produrre immediatamente delle immagini in tipo associativo su queste letture fatte. Allora, si è proceduto in questo modo, si è individuata una scena molto breve, tratta dall'Oreste, che era la scena del risveglio di Oreste, una scena due, e quindi lavorare su una scena con materiale ristretto, due persone, e in più è stata fatta una analisi critica da parte di Castri su questa scena che in qualche modo evitasse un altro tipo di disfunzione che c'era stata, che era l'aver affrontato questo materiale testuale e non con gli strumenti critici giusti, e in qualche modo magari essere partiti un po' per delle tangenti, avere fantasticato, avere cercato delle congruenze su parole che poi magari erano state tradotte male dal greco, insomma, con un'analisi che era diventata un po' scorretta. Non ci vedo! Povero, resta ricorda! Tutta l'urte selvaggia, non ti larga tanto! No! Non ti metti qui giù! Non ti metti qui giù! La situazione dell'attore in Italia in questo momento non è facile, è brutta, insomma, la situazione appunto della didattica è brutta altrettanto. Adesso, questo per essere molto sintetici, per alcuni motivi molto precisi, direi due sostanzialmente. Uno, che è quello appunto di una tradizione storica che è scomparsa e che non è stata sostituita appunto da una tradizione appunto di teoria, appunto di prassi, appunto tipica del Novecento. Noi abbiamo un vuoto nel Novecento appunto che invece in altri paesi è stato colmato attraverso un uso attivo della lezione di Stanislavski. Qui in Italia non è passata, quindi abbiamo questo vuoto che ora sta diventando appunto particolarmente evidente e drammatico, proprio perché non sanno più come formare le compagnie, appunto e così via. Questo è un motivo. Il secondo motivo è il fallimento del teatro pubblico. È un motivo più strutturale, meno storico, però altrettanto importante, perché uno dei compiti del teatro pubblico è quello di rimettere in condizione appunto il teatro di elaborare una propria professionalità. Il teatro pubblico sappiamo tutti che o meno come è andato a finire, appunto quindi quel fallimento ha provocato anche un fallimento di speranze, di rinnovo appunto della didattica, appunto della professionalità degli attori. Questi sono i due fattori. Ora, noi abbiamo fatto questa cosa qua proprio all'interno appunto di questa consapevolezza, di una consapevolezza di una situazione difficile che non poteva essere sicuramente presa alle basi, perché non possiamo tentare di ricambiare un sistema che non funziona. L'unica idea plausibile era quella di tentare di creare una piccola struttura molto efficace che tentasse di catturare alcune forze importanti di giovani appunto con dei talenti e che potessero essere messi in grado di maturare in maniera ottimale rispetto a un sistema invece che non permette loro appunto di crescere e così via. Quindi praticamente il concetto è di scuola di specializzazione. La scuola di specializzazione permette forse appunto di creare una sorta appunto di enclave, insomma, dentro la quale appunto si può tentare appunto di dare occasione di maturazione a dei giovani appunto che vengono scelti in maniera molto oculata, insomma. Possiamo morire con la destra schiacciata sotto un cane che il suono non accolga il mio suono né il cielo luminoso lo accolga se io ti tradisco e per salvare la mia vita lascio a te! Siamo un po' sempre alla posizione appunto della scena dell'altra volta io ho un po' di posizione cioè di una pasta che bolle ma anche poi viene fatta scuola nella nasce a non scuocere l'avete messo dentro gli spaghetti dentro la pentola e ci esso bollono 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 ma alla fine sono scotti per cui viene fuori un po' un po' un po' doveva essere dei spaghetti viene fuori un po' una ripollita insomma non sono chiari l'inizio non mi è chiaro non del tutto o troppo poco vuol dire insomma anche se è chiaro non si abbattete cose sono chiare le sezioni di scena non mi sono chiare e quindi vuol dire che non mi è chiaro il rapporto quindi vuol dire che non è chiaro lui diceva questo noi non abbiamo mai detto no la psicologia che schifo non ci interessa però non interessa la psicologia che in qualche modo non diventa gesto cioè domandarsi se il personaggio è stato picchiato da piccolo picchiato da piccolo dalla mamma è abbastanza poco interessante in tutto sommato se in qualche modo questa domanda o questa serie di domande se ne ho detta una molto banale però tutte le domande che ti puoi fare anche di tipo psicologico intorno al personaggio devi comunque tradurle una volta che hai individuato i suoi temi di cui il personaggio consiste devi comunque tradurle in comportamenti devi comunque renderle in qualcosa che sia leggibile che sia comunicabile che sia leggibile proprio da fuori da chi ti guarda altrimenti è chiaro che la psicologia ritorno a quello che si diceva prima dire qui il personaggio odia qui il personaggio ama non ti serve assolutamente a niente se non gli dai dei contenuti se non trovi come ama quello lì come odia quello lì e per quale motivo e come è fatto lui e quindi se quando odia dalle testate nei muri invece si si strappa le unghie dei piedi cioè adesso si cercava sempre di riportare tutta una dimensione molto concreta cioè di gesto teatrale se tu lo devi sciogliere cioè tu pretendi di completare il gesto della spada e poi vedi come fai ti è così e poi ti fai male è una stifania e una stifania e una stifania e una stifania e una stifania va bene va bene allora che cante è tornato per esempio quel cante no è davvero bene 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 scusa e Ulisse non ho ancora rivisto la sua nella parte dopo con dei tempi che sicuramente non sono giusti perché non sono i tempi del rapporto non perché i tempi sono giusti nel senso che devono essere in tutti i modi uno due possono anche essere uno due tre ma se il rapporto si è creato ha creato i suoi tempi mi chiedo e invece quando arrivate non ce l'avete è chiaro che sento una macchina che si mette molto lentamente infatti lui fa appena te pausa lunghissima perché tu c'hai un altro tempo a questo punto non il tempo del rapporto perché non è che devi avere il suo o lui il tuo il tempo del rapporto quello che li lega se tu sei arrivato così infatti non potevi entrare nel tempo perché era uno che gli risponde ma stava morendo non so si pensa di tutto cioè dove si accasciata per terra invece no non ti accasci per terra il colpo di fare secondo me si mi spiego il cosiddetto continua come deve continuare cioè senza avere appunto delle smaglie produttivistiche continuando il lavoro sostanzialmente in un modo omologo a quello dell'anno scorso cioè adesso si focalizza appunto un po' di più il lavoro intorno al problema del personaggio della costruzione del personaggio che è un po' una fase ultimativa di tutto il lavoro che abbiamo fatto anche perché si passa dal lavoro sul frammento piccolo magari si passa dal lavoro o sul testo intero o sul grosso frammento comunque si rimette in discussione anche quello che si è fatto l'anno precedente appunto dentro un'ottica del personaggio più completa e quindi vabbè è un passo in avanti che dovrebbe portare secondo me a non lo so può darsi in totale libertà diciamo così a un gioco finale insomma che deve restare un po' un gioco non deve restare non deve diventare comunque una smagna di produzione appunto di una grande cosa un grande spettacolo un gioco finale appunto che avrà caratteristiche simili un po' a quella dell'anno scorso con grossi frammenti dei testi oppure addirittura in qualche caso magari può essere anche il testo intero o una sintesi del testo insomma una cosa da inventare insomma da inventare appunto non ripetendo esattamente la cosa già accaduta ma in qualche modo ripetendo il clima di gioco teatrale finale insomma un po' che era la caratteristica della cosa finale dell'anno scorso e ora e fammi qui convinto dai discorsi di Apollo in questa landa ignota inospitale e la lei ecco lo chiedo a te che hai affrontato tutta l'impresa con me cosa dobbiamo fare le altre nuva tutti intorno le vedi le scavalchiamo con l'aiuto di scale e poi che non ci scoprano o proviamo a forzare con una sbarra e chiamistelli tutti di bronzo delle porte tra l'altro ignorando tutto su queste porte e se ci sorprendono a scassinarle o a fabbricarci un'entrata la morte è garantita no mi sono detto no prima di lasciare la pelle è meglio tornare alla nave da cui siamo sbarcati e gli orifizi e i condotti della bile annunziavano l'incombere di funesti assalti a chi gli esaminava e Gisto si accigliò e Oreste gli chiese come maete i turbi oh straniero temo insidie esterne è la vita il più abborrito degli uomini il figlio di Agamellone che è nemico delle mie case allora dicevo appunto Massimo in qualche modo è insoddisfatto del del fatto che a scuola non si può e di fatto è così tuttora andare oltre una certa grammatica e quindi crea questo strambo esperimento che è il laboratorio della costa ovest e mette insieme gran parte dei suoi ex allievi della civica e con anche altri contributi di allievi che venivano da altre scuole quindi fa dei veri promini più o meno in cui sviluppa comincia a sviluppare una cosa di cui voi ci avete già parlato dentro la scuola quando Massimo era dentro la scuola sviluppa appunto un lavoro molto grosso sui sottotesti a me la cosa che ha sempre molto colpito di come Massimo affrontava il lavoro didattico era il fatto che era del tutto o quasi del tutto sfornito di quelli che sono quello che è il linguaggio tecnico standard della didattica e allora quali sono le circostanze da cui venite qual è l'obiettivo dove costruiamo il conflitto cioè quella traduzione un po' freddina del processo che dovrebbe fare l'attore Massimo per come l'ho conosciuto io già trasformava tutto in immagini da passare che già contenevano tutto ciò e mi interessava molto che per esempio nella fase in cui era più didattico il suo lavoro questo fosse più freddato fosse più spiegato momento per momento rispetto alla scuadice nella parte della quando avete lavorato alla costa allora intanto questi giorni ho ripreso in mano gli appunti Massimo aveva i taccuini io avevo le cose come dieci block notes pieni pieni di appunti li ho così velocemente riguardati e la cosa il termine che compare di più è immaginare immaginazione racconta fabulazione infatti per me il ricordo che ne ho io di questo di questo laboratorio che si divise in tre tranche qui ne abbiamo viste due perché ci fu il settembre 89 la primavera del 90 e poi il 91 ci fu la parte finale del 91 di cui lui parla a un certo punto ma poi non si vede e la parte più interessante quella che più mi ha colpito più mi è rimasta è il settembre dell'89 in cui si fece proprio un lavoro come diceva prima Cristina e no si fece sì la lettura e a un certo punto però si verificarono delle anomalie diciamo così nell'utilizzo di quella che era stata la nostra produzione immaginaria o fantastica rispetto al testo allora cosa è successo nel settembre 89 la prima cosa che lui ci invitò a fare fu dopo una prima lettura fu proprio solo un lavoro proprio sull'immaginazione prima fantastica produzione di racconto filmico di come vedevamo di cosa ci ricordavamo in seguito alla prima lettura questo era proprio il metodologico suo diceva dopo la prima lettura che dobbiamo fare in maniera quanto più ingenua possibile quanto più fresca e pulita possibile come se non avessimo mai visto il testo raccontiamo quello che ci ricordiamo per immagini doveva sempre tutto essere raccontato per immagini prima fantastiche cioè era proprio un film mi ricordo io produssi un film sull'Iffigenia chiaramente con la soggettiva gli occhi di Iffigenia nel momento del 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 sacrificio che mi fu comunque poi molto utile anche se poi fu messo da parte perché era faceva parte del mio bagaglio sottotestuale diciamo che mi portai che portai con me e comunque tutto solo per immagini anche la raccolta da ogni lettura che facevano nel testo non so raccogliere i dati veniva sempre tradotto in immagini non era un'elencazione diceva non mi elencate i dati del personaggio vedete immaginateli parlava di immaginazione visiva diceva la più semplice però è la più concreta perché voi dovete vedere che cosa sta facendo il personaggio come agisce e perché agisce in questo modo dovete vederlo immaginazione emotiva diceva se scatta diceva l'immaginazione emotiva su uno stato del personaggio bene se non scatta ciccia non la recuperate più quindi diceva fate ricorrete a tutti i tipi di immaginazione che volete ma immaginate perché diceva la lettura di un testo teatrale è come leggere un romanzo dovete attivare lo stesso tipo di immaginazione dovete vedere perché quanto più vivida e ricca è l'immaginazione che avete fatto rispetto al testo quanto più ve lo ricordate quanto più potete affabularlo raccontarlo possederlo e quindi vedere no? poi potete iniziare a immaginare il personaggio le azioni come si sviluppa il racconto però sicuramente immaginazione prima di tutto voglio solo aggiungere una cosa adesso Pruna ha detto appunto leggere un testo teatrale come leggere un romanzo io appunterei che leggevamo un testo teatrale e il romanzo lo dovevamo scrivere noi quindi c'era una richiesta parliamo sempre secondo me per me c'è stato un grosso salto nella didattica dalla scuola a qui vi dico la mia pensiero che sarà soggettivo però quello che ci chiedeva sempre era una una produzione creativa molto forte si parlava di la prima cosa i primi appunti che ho scritto mi ricordo diceva dovete avere un atteggiamento di gioco lui è stato il regista con cui ho lavorato che sicuramente ha giocato di più ma in assoluto la persona che più si divertiva molto esigente molto insomma vabbè inutile che lo diciamo ma chiedeva gioco elasticità disponibilità non solo all'immaginazione ma a mettersi in gioco e al giocare con lui e con i compagni come si vede dalle immagini Maria mi sembra interessante passare per il percorso di cambiamento che hai percepito per me il cambiamento è stato che da ripeto che a scuola come vi ho già detto prima solo due settimane lavoro breve però quello era uno schema che era quello della creazione di questo fiume carsico del sottotesto che permettesse all'attore di essere concreto e preciso nella sua comunicazione verso lo spettatore nel rispetto della griglia registrica questo è il sintesone l'apertura di questa affabulazione altra parola che ha citato Bruna che è stata costante la richiesta costante affabulazione prima attraverso le parole a tavolino affabulazione anche quando abbiamo messo in piedi dei frammenti ci hanno dato un 2000 3000 lire potevamo prendere un po' di attrezzeria li mettevamo in alto ma anche questa era una affabulazione facevamo la regia di noi stessi quindi era una affabulazione concreta e ha come aperto quindi non solo più il fiume carsico del sottotesto parlo dalla parte dell'attore ma l'apertura di un panorama maggiore che era quello della fabulazione che dava un substratto poi più ampio alla tua nel tuo atto poi finale che doveva essere interpretativo sebbene era ancora in un livello di studio di gioco mentre quello che io provavo nel sottotesto un pochino la sensazione che io provavo era dicimi in catena un pochino di più e in questo panorama immaginifico permettendoci anche di provarlo praticamente per cui io appunto in mutande con Mauro Malinverno e le sue scene che non ci sono ti ricordi che facevamo quella si occhiette sul cadavere di Egisto che era lui perché era uno dei più del corso per cui faceva il cadavere facevamo di tutto ti avevamo nastrato ah si lo riposo e per queste esperienze cambiano no dico aspetta mi sono persa ma non una cosa importante si ecco che ti sganciavo un po' da perché il sottotesto può essere una cosa molto utile però poteva essere anche un po' costritto questa apertura qua che lui ci ha fatto fare per un mese tanto non dovevamo fare spettacolo non dovevamo fare sagge non ce ne fregava niente per cui ci ha lanciati liberi volendo no questa incitando questa libertà ci dava poi maggiore consapevolezza poi quando dovevamo ritornare al testo magari alla però per me ha fatto un salto ha fatto un salto in cui ha fatto entrare anche ne parlavamo un pochino ieri di più il corpo forse perché era con questo gruppo di ragazzi di vent'anni che non so appunto per essere ragazzi loro ne parlavamo un po' complini cioè aveva la sensibilità che l'energia di un gruppo di vent'anni doveva no doveva scocciare anche non li può tenere incatenati come magari faceva con attori con una con un percorso più lungo e complesso no ricordavo anche la mia parte che loro si ricordano tutto sono fantastiche che meraviglia anche io ricordo questo primo periodo di settembre veramente con uno scoppio di creatività ti dava degli stimoli incredibili in una primissima fase abbiamo avuto anche un momento di lezione da parte di Ettore Capriolo che era insegnante alla scuola insegnante al corso di regia è stato un intellettuale importantissimo per il teatro un traduttore eccetera lui ha tradotto ad esempio un libro molto importante che racconta la storia diciamo di tutto quel movimento americano che poi è confluito nell'actor studio eccetera eccetera Casano insomma ne racconta le basi il suo sviluppo comunque sto cercando di ricordare il nome ma non mi viene non mi viene è il nome di questo gruppo qua insomma il gruppo esatto esatto l'esperienza del gruppo che tra l'altro l'esperienza del gruppo che poi nasce da una serie di personaggi che vanno a vedere la tournée di Stanislavski e vedono come lavora quello che riportano è fondamentalmente un incredibile lavoro d'ensemble insieme il lavoro d'ensemble che Stanislavski sviluppa è estremamente come basato su questo quindi con una estrema presenza ricchissimo di particolari che crea questo lavoro d'ensemble quando parlava prima Massimo stava parlando con Paolo e Tommaso e gli diceva in questa vostra entrata in Ifigenia Anopila di Oreste che entrano dentro dice tu non è che devi avere il tuo ritmo e tu il tuo ritmo dovete avere il ritmo vostro il ritmo della coppia che poi quello che noi come attori facciamo mille volte ma che si sviluppa attraverso una sensibilità che non passa solo attraverso un conto razionale numerico ma attraverso un sentire quello che accade sul palco insieme va bene ma tutta sta pipa e quindi parlavo di Ettore Capriolo che ci ha raccontato questo anche inquadrando la vicenda diciamo del teatro greco del quinto secolo la vicenda di Euripi in un certo mondo e poi questa appunto questa fase relativa appunto all'immaginazione ancora una volta io insisto su questo c'è una frase che ho riportato che ho ritrovato di Massimo che quando rifletteva sul suo percorso sul suo approccio alla recitazione lui dice posso recitare solo quello che reinvento in questo momento che mi sembra una frase che a me evoca parecchio quello che sento come autentico rispetto alla recitazione cioè un atto creativo continuo che accade ora così come dovrebbe accadere il teatro quello che sta accadendo in questo momento ci sta accadendo ora se manca questo del teatro è una grandissima cultura di coglioni e questo ne fa la peculiarità dello spettacolo dal vivo a mio modo di vedere non so io questo è quello che amo per ottenere questo lui poi si è rifatto a Stanislavski ma ci dava questi questi stimoli e io ricordo che erano è stato c'è stato fantastico perché avevi una persona che ti dava veramente un'infinità di stimoli e con i quali si relazionava in modo adulto cioè ti dava dei feedback no avete sentito la pasta bollita lì magari fatto per immagini quando io e Monica presentavamo il nostro progetto di regia Monica mandò avanti me che è buciattini in realtà disse sembrate due che sono vanno all'esame ma non hanno studiato e se la raccontano un po' no e quindi ti metteva in un ma si metteva alla pari si metteva alla pari nel senso con uno stimolo adulto ecco rispetto anche all'insegnamento però questa cosa io ricordo una grande gioia insomma creativa un grande senso di libertà e anche di serietà perché poi ti dovevi confrontare con uno che non te ne faceva passare mezza proprio per cui ti metteva anche in un atteggiamento serio ecco questa di nessuno basta non ricordo altro ma voi riuscite a ricordare è una domanda difficile mi rendo molto il il processo esatto cioè dalla lettura del testo alle improvvisazioni vostre lasciamo stare alla parte produttiva che in questa fase ci interessa a me cioè riuscireste a riassumere dei passaggi precisi leggo il testo la prima volta il primo incontro d'amore di Stanislavski e poi qual è il passaggio dopo e poi qual è il passaggio cioè riuscireste a ricordarlo questo come lo vivevate io lo aggiungiamo ma quello che ricordo è un primo passaggio che è quello della lettura e di proprio di sentire attraverso con la produzione di immagini ma anche di sentire cosa ti ha rilasciato questa prima lettura quindi non è solo relativo a un racconto una fabulazione che tu fai fatta di immagini che possono essere di mille di mille di allucinazioni anche ma che sono comunque una produzione ma anche rispetto a quello che la cosa ti lascia proprio anche fisicamente con la percezione di sé poi c'è un processo anche di individuazione però ti chiedo scusa Sergio più schematicamente cioè qual è la procedura che usavate scusa no 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 prima faccio questa lettura intro comunque c'era un intro storico c'è stato vedi c'è tu certo quando hanno detto prima fase che dipende dalle funzioni intro c'era certo sì un intro che ti consente no no certo un intro che ti consente di mettere anche l'opera ti dà comunque degli stimoli ti mette anche l'opera all'interno di un contesto di uno spazio perché ricollegare Euripide il diciamo la funzione del teatro che viveva l'invenzione di quel teatro in quella società poi per questo spazio era molto importante che diventavano uno spazio concreto proprio perché è fatto da persone poi ripeto io quello che ricordo la lettura la come dire anche uno stimolo a percepire cosa ti aveva lasciato cioè qual era il tuo rapporto intimo anche rispetto all'opera la fabulazione fatta per immagini e poi c'erano come dire anche successivi passi che erano quelli di andare a ritrovare l'azione pura il più possibile pura diciamo che è sia gli accadimenti che a volte non è così immediato riscontrare ad esempio anche in una forma così come dire codificata poetica come quella della tragedia greca non è scritta espressamente in modo realistico per cui ti dice quelli che sono gli accadimenti ci sono degli spazi che tu puoi riempire attraverso attraverso un'immaginazione perché hai bisogno di riempire attraverso un'immaginazione realistica voglio dire cioè di che cosa è successo a questi personaggi io questo ricordo quindi andare a individuare l'azione cioè cosa accade davvero e io quello che scoprivo che scopro continuamente che non le continue riletture dei testi mi portano a raffinare il cogliere qual è l'azione anche perché come diceva l'azione non è solo lui uccide lei ma l'azione comincia a essere come lo fa cosa avviene quindi produce l'immagine perché lui uccide lei possono essere miliardi di immagini quando tu cominci a sviluppare una cioè gli date le bastonate con lo spazzolino del cesso mentre cerca di soffocarlo in bocca beh quello diventa un'immagine che ti racconta insomma la cosa poi mi ricordo un altro io dico solo aggiungo questa cosa improvvisazione in realtà lui non le faceva ok quello che ci chiedevano era una progettazione ok noi utilizzavamo poi quindi in maniera del lavoro autonomo ci staccavamo non è che stavamo sempre in seduta plenaria ci staccavamo utilizzavamo nostri strumenti anche un po' come si dice nella mia regione gli scondoni perché un po' ci faceva paura ci fa usavamo perché c'era quella scuola pezzoli improvvisazione cose intervista personaggio tutto un mondo che non perché secondo lui forse non aveva quella litera insomma che lui preferiva seguire e la progettazione magari partiva da un dato che avveniva che veniva proposto da un allievo e lui trovava interessante in plenaria che ne so lei è una elettra dell'oreste è una piccola borghese un po' sfigata legge i fotoromanzi non ha una grande cultura e basta se c'era qualcosa e c'è un attrito che ci può essere lo sviluppate prendi questo sviluppatelo quindi la progettazione veniva poi presentato un pezzo già lavorato un frammento già lavorato e poi c'era il confronto e l'analisi su quello che veniva quello che arrivava quello che non arrivava perché non facevamo vere e proprie improvvisazioni con il giusto mi riferivo alle autoregie di cui parlavi prima no appunto come diceva Maria ora appunto noi presentavamo un progetto come anche un po' si è visto nei video su una parte poteva essere una scena 2 o appunto nel caso mio di Maria il nono vengo sul cadavere di Egitto io ho ad esempio degli appunti dettagliatissimi su tutto quello che mi ero immaginata come regia io mi ero fatta su quel percorso e mi ricordo anche che lui mi mise immediatamente in crisi nel momento in cui io feci vedere la mia prima fase di lavoro perché mi fece notare lo scollamento tra appunto quando parlava prima di immagine immessa nel testo e l'attrito tra l'immagine e il testo mi fece notare lo scollamento tra l'immagine che io avevo avuto e il testo cioè io avevo avuto un'immagine di sintesi molto forte ma non non entrava nel testo non dava vita al testo era un'unica immagine molto forte come diciamo un'esplosione iniziale ma non è che poi ti reggeva che non si articolava perché non avevo ancora l'esperienza la capacità stavo cercando di capire lui mi fece notare subito questa cosa e quindi poi si ritornava a lavorare di nuovo sui nostri pezzi sui quali stavamo lavorando appunto o un monologo o una scena 2 portando avanti le indicazioni che lui citava e questo è stato diciamo un'altra fase ulteriore rispetto a del primo anno del settembre primo mese primo mese settembre 89 dobbiamo andare avanti sempre lì posso dire una cosa io c'è una mozione di te stiamo in ritardo si va bene volevo solo fare una domanda perché rispetto al tema del vedere e della produzione di immaginario da quello che avete raccontato a me sembra di vedere due fasi diverse cioè due momenti diversi un conto è un po' come sentivamo ieri nel tavolino degli innamorati il fatto di dire ok leggi il testo mentre leggi vedi che cosa accade e quindi tradurre in immagine in sequenza narrativa in film quello che dicevi Bruna e poi però secondo me c'è un altro livello che dovrebbe se ho capito bene andare a pescare in quel deposito della prima lettura c'è quello che ha più a che fare con cosa lascia a me personalmente dove tocca il testo che cosa muove e che cosa che non è come dire la descrizione e basta di questa sequenza ma che può spostarsi e quindi mi dì appunto l'esempio che tu facevi prima Maria è Elettra è una ragazza un po' sfigata che legge i fotoromanzi ora i fotoromanzi non sono nel testo di Euripide quindi c'è creare questo tipo di immaginario vuol dire spostare in qualche modo le coordinate che restano e che rimangono e che vengono da Euripide ma portarle e quindi Certo però dopo ad esempio questo non so se da me anche da altri partecipanti se è delle immagini c'è stato un po' racconto collettivo che è entrato poi nella regia perché questa lettera dell'Oreste poi è stata fatta col golfino cioè che dico solo immagini con il gemellino e la gonna cos'ha un po' sfigata un po' rientrava alcuni elementi entravano lì nella seconda fase però c'è stato l'immissione del suo idea di regia forte che è stato gli anni 50 il terrorismo per Oreste e un Beckett in qualche modo un'ambientazione dei day after un po' becchettiana per credo se dico correttamente io volevo solo dire una cosa per rimanere un po' sul pezzo dei bisogni di Massimo di una didattica seria e approfondita anche dopo aver fatto anni di esperienza professionale non entro nel me loro hanno spiegato benissimo i processi quello che mi piacerebbe dire è che io ho creduto molto in questo bisogno di Massimo in generale ho creduto molto e ci credo ancora molto perché ho potuto constatare negli anni allora ero ragazzo adesso sono vecchio ho potuto constatare negli anni che le scuole difettano le scuole di teatro difettano assai sulla sulla consapevolezza del lavoro dell'attore sul personaggio e sul testo quindi io vedo anche generazioni a me successive però è gente ormai grande che per esempio questo tipo di consapevolezza non è che non ce l'ha proprio non l'ha conosciuta credendo nel lavoro di Massimo io auspico che le scuole ma ci sei tu che le scuole possano in qualche modo fare un atto di autocritica e incominci ad ascoltare le le affermazioni di di Massimo e di altri e di non lasciar scivolare la didattica semplicemente su su dei versanti che hanno un inizio e una fine e lì si concludono e poi nella professione sono soltanto ostacoli e impedimenti il il lavoro didattico che ho potuto constatare in questi ultimi anni non aiuta attori e attrici ad affrontare poi la professione Massimo credo questo ponte questo link lui ce l'ha dato ce l'ha dato e continua a darcelo e continua a darcelo quindi io spero che si possa fare una una riflessione più approfondita proprio sulla sulla didattica sulla scuola io incontravo Massimo per caso in Toscana eravamo in vacanza e andavamo a cena assieme e lui ribadiva questa cosa a me a lei non ribadiva questa cosa con impeto con fuoco eccetera io a un certo punto gli ho detto ma Massimo ma scusa ma che te frega ci sono le scuole di teatro c'è l'Accademia Piccoli Friodarmatici Genova Torino ma che te frega di questa cosa lui mi ha guardato come per dire molti meno perché uno sguardo così e poi ha detto ma non ci sono non ci sono gli elementi per far crescere gli attori c'è bisogno queste famose scuole in formazione master dovrebbero essere dovrebbero essere la norma in Italia non c'è età per un attore per un'attrice per non tornare ad avere consapevolezza ulteriore il teatro è in fiori qua ci sono fiori di professori che me lo possono conferire il teatro è una forma d'arte in fieri quindi non ci sarà mai un punto d'arrivo di consapevolezza io credo che questo punti puntava anche a questo puntava Massimo quindi a di là poi appunto dei metodi eccetera credo che conveni di questo tipo debbano lanciare e poi solo una cosa soltanto brevissima in tutto questo io voglio ricordare Cristina Cristina Pezzoli perché lei è il la continuazione del del lavoro di Massimo nonostante abbia avuto la crisi con Massimo lei è sempre stata portatrice del 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 lavoro del lavoro di Massimo e lì con Cristina io forse ho capito quello che Massimo voleva comunicarmi a fatica durante lo schnitz e poi nel progetto gripide e cerchiamo di di lanciare sempre qualcosa per perché si possano realizzare i sogni di Massimo e di Cristina ok non ti risponderò sulle scuole perché il discorso è lunghissimo infinito rispetto alle scuole a quello che fanno a quello che devono fare invece siccome mi sa che manca poco tentiamo un ultimo salto se almeno che non abbiate delle cose importanti da aggiungere ovviamente tentiamo un ultimo salto tutti voi fatta l'atelier fatta questa esperienza che naturalmente è stata molto più complessa abbiamo potuto raccontare un pozzetto soltanto poi avete tutti lavorato con Massimo in uno spazio produttivo normale i 30 giorni i 40 giorni normali ok cosa riuscivate a riportare nel rapporto con Massimo e nel rapporto con il lavoro di questa grande esperienza che è stata l'atelier cioè quanto rimaneva chiaramente non nell'applicazione suppongo quotidiana però quanto rimaneva come come prospettiva di lavoro da condividere morti no video no brevissimamente questo condividere la creatività penso che non sia facile cioè difficilissimo e quindi da un lato lui chiedeva o desiderava questo no e quindi chiedeva di condividere il gioco no poi come si traduce questa nella voglia di giocare come dei bambini che ti metti a giocare ma lui arrivava a parte che aveva una creatività incredibile insomma piena ricca no e io non so come dire veramente in sintesi da un lato ti stimolava tantissimo dall'altro debordava insomma per cui quando tu hai bisogno di costruire la creatività tua è veramente anche un gioco intimo che per essere perché tu possa sostenerla nel tempo ha bisogno di essere continuamente attivo ed autonomo quando hai e mettere insieme questo con una creatività di un'altra persona ma pur voglio dire anche il tuo gioco può stare benissimo dentro all'interno di un progetto di regia poi assicuro star dentro gli spazi che Balò Gigi Franco inventavano insieme a Massimo o che comunque traducevano nel pensiero di Massimo era una figata perché era incoerente io ho fatto un sacco di spettacoli dove tu dicevi ma dove veramente i registi ti dicono delle cose e tu dici ok come la fai poi ti mettono all'interno di una situazione di spazio di relazioni che non hanno niente a che fare cioè fondamentalmente ti leggi il testo a casa tua e ognuno va lì e se la dice ma tanti spettacoli così è rarissimo è stato rarissimo in Italia cioè a meno di trovare una cosa del genere per cui insomma la difficoltà era quella di mettere insieme queste due creatività e a volte ti senti un po' schiacciato io comunque ho avuto alcune esperienze lavorative con Massimo devo dire che quello che si portava ci si portava da questa esperienza era comunque un linguaggio comune io credo che in realtà mi abbia dato tanta fiducia al punto che non mi diceva al fine quasi niente ma non perché io fossi chissà che ma perché ci si capiva io mi ricordo adesso non per gli aneddoti però nelle tre sorelle l'ultima esperienza che ho avuto con Massimo in cui io interpretavo Olga abbiamo passato credo forse 15 giorni a questa immagine ad entrare ad uscire con queste valigie perché a lui non tornava il senso l'immagine il senso che produceva l'immagine e quindi noi entravamo e non si andava avanti alla fine mi ricordo alla generale mi è venuto mi ha baciato sulla fronte e mi ha detto scusa Bruna e io ho detto perché non mi aveva detto niente sul monologo di Olga all'inizio quindi ero nella scusate l'ho fatto un po' soletta era un po' sole soletta si è scusato però questo voleva anche dire che in qualche modo poi l'ho fatto bene male non lo so però in qualche modo c'era fiducia ci si capiva i sottotesti sull'Orga quando ha il mal di testa cioè mi ha detto pochissimo quindi si era creato un linguaggio comune e quindi questa era la cosa secondo me più importante poi tornando scusa un attimo non voglio togliere da quello che si diceva prima noi abbiamo ci siamo concentrati soprattutto sul settembre diciamo dell'89 perché diciamo che è stato il momento più vivo vivificante perché poi c'è stato diciamo lo scontro con anche suo la crisi sua di massimo rispetto a ho messo in atto tanta creatività tante forze tante energie che sicuramente hanno anche modificato il suo modo di pensare poteva essere col quale poteva essere arrivato al progetto euripide e ora come le faccio entrare il rapporto con la regia lo dice anche prima nel video e quindi infatti ci sono state un po' di scollamenti al punto tale che poi l'ifigenia il terzo anno non si è fatta hanno fatto l'oresta hanno fatto l'elettrica ha portato avanti Cristina ma lui in qualche modo preda del suo essere critico profondo rispetto al proprio lavoro ci ha messo in condizione di dire l'ifigenia forse non è il caso di farlo lavoro didattica io ho lavorato molto contiguamente al progetto euripide amoretto vita e sogno gioco dell'amore del caso con anche gli stessi collaboratori quindi Bruno De Franceschi Franco Izioli Gigi eccetera quindi stesso gruppo un po' di collaboratori sia nella didattica sia nella produzione ovviamente due cose diverse i tempi erano più precisi siamo a molti più giorni di prova di adesso perché si arrivava quasi a 40 su alcune produzioni quindi c'erano più tempo però i tempi erano stretti la scenografia c'è il progetto di regia c'era già però un piccolo diciamo c'era appunto una battigia diciamo su cui si poteva ancora camminare tra formazione e poi produzione nella prima parte soprattutto di Tavolino anche ne parlavamo ieri della vita e sogno mi ricordo questo episodio molto carino in cui però non è quello che mi gioco quello no del di Tino a cui chiede a Tino Schirinzi a giro di tavolo di affabulare una scena su cui si stava lavorando e ho detto oddio adesso chissà cosa cosa fa perché insomma i ragazzi lavorano e lui invece è partito come un ragazzino di 15 anni a provare un altro modo diciamo di lavoro lui richiedeva delle cose quindi dava lui dei sottotesti però voleva che tu avesse una totale la didattica era nel senso che tu doveva avere una totale padronanza del sottotesto piuttosto dell'indicazione che lui ti dava il tono non funzionava questo è il punto è quello che fondamentalmente ha detto Bruno perché aver avuto l'esperienza aver assorbito in maniera magari più tecnica o in maniera più emotiva aver assorbito il lavoro nel progetto ripide di Massimo poi ci portava poi nell'allestimento dello spettacolo ad essere ad avere una consapevolezza comune che non c'era più bisogno di ribadire i codici piuttosto ho visto la difficoltà che Massimo aveva con altri attori e attrici di cui non farò il nome neanche visto la puntata della Tempia aveva delle difficoltà oggettive ma questo vuol dire che comunque il metodo Massimo Castri era giusto era vincente e portava dei risultati straordinari soprattutto su attori più giovani che avevano avuto a che fare con lui ed è una cosa che poi si è portata avanti con Cristina e Cristina riuscì a convincere dinosauri del teatro italiano straordinari dinosauri del teatro italiano lo dico non in termine dispregiativo a convincerli sull'improvvisazione io stesso mi sono ritrovato a dire ho lavorato 5 anni con Giulio Bosetti perché lo conosce sa chi era e io stesso ho raccontato a Bosetti l'improvvisazione soprattutto l'esperienza delle tre sorelle con Cristina straordinaria dove siamo arrivati a recitare tutte le tre sorelle non era previsto lo spettacolo dopo questo laboratorio però abbiamo recitato tutto il testo delle tre sorelle senza aver studiato una sola battuta del testo uno direbbe beh vabbè sì e allora sono capaci tutti no esattamente l'opposto sono capaci tutti a studiare a memoria e poi andare sul parco scenico e sciolinare le grandi capacità memoniche ma non ad essere dei personaggi ad essere convinti di quello che stanno facendo con quell'esperienza sì per questo io sono estremamente convinto sul valore dell'improvvisazione la spiegai a Bosetti e lui mi ascoltò perché lui diceva ma cosa improvvisi se c'è il testo e allora poi insomma lo ho spiegato attraverso questa cosa mi inorgoglisce mi inorgoglisce perché non è che glielo ho spiegato attenzione non l'ho spiegato a Bosetti non aveva niente non aveva bisogno che io glielo spiegassi ma ho condiviso con un attore di quel calibro di quell'esperienza ho condiviso un'esperienza che sembrava una roba giovanilistica in realtà non è così allora te filmate a che punto siamo come siamo messi che dobbiamo fare a Maria devo un aneddoto io devo un aneddoto a Maria dopodiché vai dove vuoi avevamo previsto un ultimo video siamo leggermente in ritardo però io ho letto nel programma aneddoto di Maria e quindi passiamo all'aneddoto di Maria facciamo il video no alle 10 alle 11 e 17 no c'è il video vai vai Maria non è molto semplice perché uno dei punti era quello cosa ti ha lasciato poi alla fine della fiera dopo che tu hai fatto la didà no che ci avevate detto cosa ti ha lasciato trasversalmente nella tua vita professionale e oserei dire anche umana questa esperienza allora uno è quella di comunque una cosa quasi di etica del lavoro cioè del fatto che questa roba qui del teatro che stavano facendo ha un'importanza pazzesca quindi bisogna star cioè non è che devi star lì ma proprio fino ti devi no perché poi aveva anche la Cristina anche perché stai usando dei soldi che sono del pubblico e tu li usi per qualcosa in cui devi restituire quindi non è una roba super importante è la vita una cosa la vita d'altro canto che è solo teatro e questo faccio l'aneddoto è legato a questo teatro storchi parlavamo di crisi tutti erano in crisi quando lavoravano con Massimo lui metteva in crisi ma metteva in crisi anche se stesso il bagno all'ingresso del teatro storchi sulla destra non so che allestimento fosse forse amoreto che è il sogno io nella pausa breve vado in bagno vergognavo a piangere davanti agli altri vado in bagno sotto e proprio riversa sul lavandino piango lacrima male perché non avrò saputo dire una battuta non lo so non lo dice non so perché Massimo entra forse ha aperto solo quel bagno lui entra e non riesco a ricompormi isce insomma e riesce senza dirmi et torniamo al tavolino e mi fa scusa Maria sei giovane sei madre ma cosa piangi per cui queste due cose che comunque è comunque solo teatro ecco grazie a tutti il finale era questo il contro finale ma dai qui sì sì Grazie a tutti. 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 No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va? Grazie a tutti. Grazie a tutti. No! Grazie a tutti. ho sentito... ho sentito... ho sentito... Basta... un culo... un culo... va bene? e vi prego... e vi prego... e vi prego... grazie a tutti. Allora... grazie a tutti. Allora... grazie a tutti. 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 Un numero di spettacoli... è un numero di spettacoli... che si aggira oltre i 300... se volete ve li leggo tutti. ... nell'ambito della prosa... e anche nell'ambito del teatro musicale... ha un po' creato insomma, ha ricreato questo mestiere che è diventato assolutamente indispensabile in tutti gli allestimenti sia di prosa sia di musica. Al suo fianco Maurizio Ballò e qui anche, cosa dico Maurizio? Niente, nel senso che è stata la sua attività di scenografo e anche di costumista, insomma è un'attività che spazia in tutti gli ambiti del teatro, anche nel suo caso l'opera, la prosa il numero di registi con i quali hai lavorato, insomma è qua, diciamo notevole, numerosissime produzioni in Italia e anche tante a l'estero, insomma dove hai portato anche un gusto che sicuramente è legato alla tua creazione artistica la tua creatività che nasce e mi fa piacere, no? Anche ricordare insomma con Luzzati, tanto ha attraversato veramente un periodo bellissimo Franco Visioni super premiato a Venezia e quindi insomma un leone d'oro, biennale e per drammaturgo del suono è bella questa definizione e anche nel suo caso insomma tu spesso hai voluto ricordare sempre Massimo Castri come insomma un regista che ha segnato il tuo lavoro, che poi è continuato con tantissimi, anche qui tutti ricordo Antonio Latella perché insomma è uno dei più, forse delle persone con le quali più recentemente hai lavorato in maniera intensa e con spettacoli di grande pregio Ci ho detto, io penserei di condurre questa oretta parlando io pochissimo ma facendo soprattutto parlare ai nostri ospiti che hanno anche generosamente preparato dei materiali ognuno ha scelto di preparare o delle diapositive o dei brani, dei piccoli brani di video dai quali poi spero possa nascere insomma l'occasione di capire un po' che cosa succedeva in quel laboratorio Castri no? Siamo un pochino più per quello non so da chi partire, ditemi voi partiamo da Maurizio come da Locandina come da Locandina dunque io con te abbiamo scelto il materiale di quattro produzioni la scelta è stata un po' non dico casuale ma insomma non ha una ragione proprio precisa però quello che mi sembra interessante è che sono quattro produzioni non tradizionalmente di palcoscenico quindi sono una perché è l'epoca di Siracusa quindi è uno spettacolo all'aperto e tre invece che sono produzioni fatte all'interno dello spazio tradizionale del palcoscenico ma usato in maniera diciamo anomala questo poi mi interessa cioè mi è interessato scegliere queste perché poi ne parlerò magari un attimo c'è un aspetto diciamo del lavoro con Massimo che non è emerso mai in questo diciamo ci sono stati una serie di lavori che noi abbiamo fatto insieme che sono diventati anche alla fine spettacoli di un certo rilievo che per noi in qualche maniera erano quasi dei richiedi invece perché originariamente il lavoro di drammaturgia da lui effettuato portava poi a una definizione dello spazio che non doveva essere quello proprio del palcoscenico però le condizioni produttive in cui lavoravamo spesso hanno impedito di poter realizzare quegli spettacoli e la cosa è partita molto da lontano per esempio non so chi conosce magari per immagini già il Rosmerson era uno spettacolo che secondo lui io ho degli schizzi sui miei album del Rosmerson doveva essere uno spettacolo fatto in uno spazio anomalo in cui la dualità diciamo il fatto di aver affidato ai due protagonisti tutto il testo quella dualità doveva in qualche maniera riguardare anche il pubblico tipo lo spettacolo doveva svolgersi in uno spazio diciamo tipo Fabricone anche se noi eravamo a Brescia non so dove avremmo dovuto trovare un luogo analogo doveva esserci un muro che chiudeva proprio a metà questo spazio con una grande porta al centro due praticabili che facevano da piccoli palcoscenici uno di qua uno di là e il pubblico su due gradinate diviso in due porzioni di pubblico in maniera che quando il pubblico entrava non immaginava che dall'altra parte ci fosse anche il pubblico perché vedeva solo il personaggio che usciva dalla porta e che parlava a lui cercando di tirarlo dalla sua parte nel racconto mentre dall'altra parte l'altro personaggio faceva lo stesso con quell'altra parte di pubblico poi a un certo punto si avrebbero dovuto scambiarsi il personaggio che per la prima volta il secondo personaggio il pubblico vedeva tentava di nuovo di convincere che non era il racconto fatto dall'altro che era giusto ma il suo finché solo nel finale si doveva aprire questa grande porta in contemporanea anche una porzione di muro il pubblico si specchiava nel pubblico dall'altra parte e il finale era quello quindi diciamo qual è stato a un certo punto avendo lavorato tanto su questa ipotesi quando poi si è capito che comunque non si poteva fare che andava fatto in palcoscenico il mio compito è stato quello di trasferire in palcoscenico al meglio questa idea per cui è venuto quell'ipotesi della stanza divisa eccetera per esempio adesso abbiamo visto l'immagine dell'ifigenia del laboratorio della Costa Ove quello che invece abbiamo visto ieri di Perugia del palcoscenico per me per esempio quella io personalmente non lo ritengo cioè lo ritengo non dico banale il lavoro mio parlo proprio del lavoro mio perché è evidente che fare un palcoscenico il problema qual era? era proprio quel tipo di immagine perché fare un deserto in un palcoscenico di prosa per quanto tutti sforzi non avrà mai la forza magari alla scala cioè con un palcoscenico della scala riesce a fare un deserto ma lì in qualche modo quindi quello per me era un altro esempio brevissimo è stata le avventure della villeggiatura perché le avventure della villeggiatura che poi la cena era erano questi due cortili uno davanti alla villa e uno di servizio dietro la villa Massimo aveva questa capacità proprio immediata di darti queste immagini come input lui parlava intanto odiava viaggiare proprio quindi era proprio divertente proprio lui facendo la... io per esempio che invece amavo viaggiare soprattutto in quegli anni e lui mi ricorda ancora proprio allora quando si progettava che magari io dovevo fare un viaggio in estate che vai a fare che vai a fare ma dove vai guardandomi un po' cioè un po' come e una volta anzi mi ha proprio anche proprio prima di un viaggio mi ha proprio citato Proust mi ha detto guarda sai cosa ha scritto Proust è vero? io no ha scritto che insomma meglio vedere con occhi sempre diversi nello stesso posto che in posti diversi con gli stessi occhi come augurio per uno che stava partendo era proprio il massimo ecco per esempio lì subito lui mi ha dato quest'idea di questo gruppo di nuovi ricchi che volevano andare che vanno in villeggiatura in questi luoghi dove l'alta porchesia quella colta è sempre andata e che però sono totalmente disinteressati a quello che trovano la natura così stanno tutto il giorno a giocare a carte a un tavolino quindi l'idea era che l'azione doveva svolgersi tutta in platea in mezzo al pubblico dove ci sarebbe stato solo un palcoscenico con un tavolino da gioco e queste sedie sul palcoscenico doveva essere rappresentata una natura grandiosa poi non avendo soldi uno si chiedeva come e come io mi ero immaginato poteva anche essere divertente e realizzarla con una scena dipinta settecentesca però questa natura questa natura nel palcoscenico non ci andava mai nessuno cioè stava lì tutta la sera e questo poi si è trasferito appunto nell'idea per questi due cortili perché i cortili erano queste specie di carceri in cui la natura era negata in qualche modo poi prima di passare un attimo alle immagini solo un breve racconto di come praticamente il metodo di lavoro con Massimo è nato un po' così istintivamente diciamo lui aveva i suoi vacuini io per conto mio però già da prima di lavorare con lui schizzavo tutte le cose preparatorie degli spettacoli su degli album io ne ho circa 26 di questi album per la maggior parte occupati dalle produzioni di Massimo cosa succedeva naturalmente a seconda del lavoro a seconda di quando iniziava il nostro lavoro insieme cioè se lui aveva già fatto portato avanti il lavoro di drammaturgia abbastanza oppure in altri spettacoli si partiva proprio da zero quindi a seconda del punto in cui ci incontravamo ci sono negli album ci sono schizzi diciamo che all'inizio sembrano portare da tutt'altra parte non capisce oppure schizzi che sono proprio non la scena definitiva ma insomma già l'idea è già quella lì naturalmente col passare degli anni questi album appunto essendoci tanto tanto materiale perché ogni volta teoricamente diciamo per una produzione c'era si produceva materiale che bastava per quattro spettacoli secondo me comunque però mai una volta allora delle volte lui mi diceva per esempio quando poi avevamo messo insieme tanto materiale degli spettacoli fatti insieme diceva magari mi dai l'album dove c'erano gli schizzi del gabbiano per esempio per ripartire su una nuova produzione però mai diciamo è stata presa un'immagine di una vecchia di una ricerca vecchia come così nuda e cruda insomma magari era un'immagine per ripartire su una progettazione ecco questo sembrava un po' metaforicamente era un po' come una partita di ping pong perché facilitati anche dal fatto che stavamo a tutte e due a Firenze anche un po' vicini di casa delle volte lui veniva insomma era se andava avanti lui andava avanti con il suo lavoro se c'era qualcosa da visualizzare io la visualizzavo se era importante se sembrava importante se arrivava anche a un piccolo modellino di prova oppure erano solo schizzi dopodiché se non andava bene cioè questo era tutto un passarsi naturalmente questo prendeva ogni volta comunque minimo cioè un mese due mesi di lavoro non è che fosse detto questo gli spettacoli che abbiamo scelto così anzi abbiamo la Elettra Elettra quella di Spoleto poi Ecuba quella di Roma quella di Siracusa e le tre sorelle per l'Elettra di Spoleto lui aveva già infatti gli schizzi c'era già l'idea del campo e come mi raccontava ieri la dottoressa ci sono stati fatti tante ipotesi c'era per esempio intanto c'è un aneddoto che una volta stavamo andando a Perugia proprio al teatro dell'Umbria in macchina lui guidava e a un certo punto sulla destra in una provinciale ci siamo trovati proprio un campo arato una collina così e guardando ecco la scena non così quindi l'idea era quella si sapeva e quindi ora qui ci sono una serie di ipotesi per esempio appunto i mobili in mezzo alla natura qui però l'idea era quella di un campo di grano qui invece è già cominciata l'idea delle zolle sempre un tentativo dei mobili ecco in qualche modo a questo punto sì io ho inserito queste sono quelle cose forse degli scenografi cioè un po' istintive io ho inserito quest'idea della porta perché la porta e scom'è dovevo liberare tutto l'arcoscenico da tutto il materiale si pari arlecchini e tutta questa cosa qua però per me l'arcoscenico è comunque un luogo che si chiude anche e quindi ho introdotto l'idea della porta prima e questi sarebbero invertiti cioè prima pensavo a una porta appunto legata all'immaginario del Cannes della natura quindi una porta un po' tipo da un fienile legata all'agricoltura eccetera e poi invece è diventata una porta tradizionale il luogo sempre di più doveva diventare una natura dura dove lei potesse svolgere questo duro lavoro quindi appunto non il liragno non il coso cioè un lavoro che una donna che una contadina avrebbe potuto fare il fatto che fossimo perché la natura poteva essere doveva essere una natura mediterranea naturalmente però poteva essere tante cose e quella là su era proprio invece una tipicamente toscana perché quelle insomma con le torrette sono queste case coloniche che si chiamano Leopoldine in Toscana e quindi niente continuava questa progettazione il tavolo di qua poi a un certo punto l'idea di una strada naturalmente non è che c'era sempre un po' di giorni fra un lavoro e un altro questo qui è già in fondo ecco poi c'era questo qua è quello più o meno definitivo questa storia della porta mi fa ricordare che il lavoro con Massimo aveva questo di meraviglioso tipo io ho introdotto la porta lui ha intuito che questa porta poteva servire ma ne ha fatto un uso che ha trasformato questa porta diciamo in una grande idea da quello che poteva essere semplicemente magari un altro regista per esempio questa porta era sempre aperta e si chiudeva solo alla fine dello spettacolo quindi da un punto di vista della percezione dello spettatore che era stato quasi due ore su questa immagine fissa così solo la chiusura di questa porta era di un'emozione incredibile poi a cosa è servita questa porta perché forse qui c'è un'immagine ecco alla fine doveva esserci quest'idea cattolica diciamo così di una come di un dio biblico che li puniva infatti lassù il tentativo era un po' quello lì poi naturalmente non è stato fatto niente di tutto questo ma la porta io qui ho una foto fatta da me durante una prova alla fine non è bella però fa capire queste sono foto che ho fatto io durante una prova si apriva appena questa porta con una luce divina chiamiamola così violentissima e loro uscivano come due come i due cacciati dal paradiso terrestre e secondo me lui aveva proprio in mente l'immagine di Masaccio che è questa ecco io vedendoli così vedo proprio l'immagine di Masaccio dei due nudi di Adamedeva e questo era il finale infatti ecco questa invece è l'ecuba quella di Roma l'idea era quella di portarla alla prima guerra mondiale che poi era l'epoca in cui sono finiti i grandi regni io ero quindi anche qui io non mi ricordo però i primi schizzi sono questi quindi evidentemente l'idea delle rovine era stata già elaborata perché se no avrei sarei andato da altre parti io ero partito naturalmente da questi schizzi così un po' operistici perché io facevo anche l'opera e anzi spesso lui me lo riproverava e quindi niente era un continuo ricercare ricercare quella che poteva essere l'immagine lo spettacolo sarebbe stato fatto all'argentina e niente qui ho preso un po' di immagini perché e quindi c'era l'idea delle rovine sulla ferrovia sempre queste cose qua quindi continuava qui continuava a cercare a capire anche come realizzarla tecnicamente poi questa questa immagine questa è interessante perché viene introdotto un lampione che poi infatti questo era un po' il meccanismo cioè che poi passavi da un'altra parte e ti riportavi dietro questa sarebbe una scena che oggi avrebbe fortuna invece era solo questa grande una grandissima un te lo bimetico però si introduce già l'ipotesi del palcoscenico nudo quindi niente fondale niente di niente il palcoscenico nudo questa si avvicina di più all'ipotesi finale però è una piazza mentre l'idea era comunque infatti se mi pare proprio qui ho ritrovato io su questa no forse su quella di Siracusa che mi sono ridisegnato mentre facevo questo lavoro qui delle immagini e delle trattinie perché a lui serviva comunque lo stesso tipo di flusso dell'azione quindi la piazza non va bene perché la piazza è un luogo dove si arriva poi è vero si fa anche via quindi questa qui è diventata alla fine una strada questa è la foto del modello finale quello è il palcoscenico del questa è l'immagine naturalmente doveva essere come un frammento di realtà dentro il palcoscenico nudo molto cinematografico questo anche per la realizzazione ha comportato diversi problemi e poi c'era appunto e fra l'altro proprio per accentuare poi questo realismo c'era proprio una pioggia vera a un certo punto che avveniva in scena a un certo punto non mi ricordo dopo quanto tempo è stato chiesto a Massimo di fare la Siracusa quindi a Siracusa io e lì è ricominciata il telo cioè non finiva mai il campo di concentramento le valigie la montagna di valigie i treni perché sai lì poi hai i 900 metri quadri a disposizione quindi ecco quella lassù è uno schizzo delle tre chigne che ho proprio rifatto non è che sono andato a prendere un'onorme tenda dell'ospedale da campo l'idea quello lì si vede perché i personaggi erano come delle profughe delle principesse proprio dei vecchi regni delle profughe ecco erano un po' così con questi cappotti prestati dai militari poi a un certo punto sono andato sull'idea di un grande ciclo diciamo fondale fotografico sempre di rovine di guerra e lì era ripreso il lampione dell'edizione romana poi un grande pavimento del palazzo e qui però per la prima volta è venuta fuori quest'idea dell'albero dell'albero bruciato diciamo dalla guerra da contrapporsi a quello che loro chiamano a Siracusa il bosco sacro che è quello sfondo quindi poi questo è rimasto è riemersa l'immagine del deserto secondo me dell'ifigenia o comunque insomma dei lavori già fatti e quindi questo è diventato poi quello è il modello definitivo questo è un'ipotesi insomma sempre di modello e questa era la scenografia naturalmente siamo stati favoriti dal fatto c'era questo sovrintendente balestra che stimava tantissimo Massimo proprio lo amava e ci hanno concesso di poter arrivare con la scena con il materiale fino proprio alla cavea perché in realtà quei tre metri sono il camminamento del pubblico che arriva da qua dal fondo per arrivare per andare a sedersi quindi per ragioni di sicurezza non si dovrebbe mai usare però siccome il materiale io avevo usato un ghiaietto fatto proprio con la pietra di Siracusa quella con cui è fatta Ortigia che era bello perché la sera al tramonto si fingeva di rosa un po' come si fingono di rosa il Duomo cioè quindi non essendo infiammabile ci hanno concesso di arrivare e in effetti io poi ho fatto altre produzioni al teatro greco ma la bellezza cioè di poter arrivare con la scenografia proprio fino all'inizio delle sedute insomma questa era la Pozzi ecco ecco diciamo tutto il racconto della prima guerra mondiale alla fine si era tradotto solo nei costumi dei personaggi e in questi cadaveri di soldati cioè era scomparso ogni elemento narrativo della guerra diciamo così però io ricordo oggi Siracusa si fanno tragedie in ambiti moderni ormai anzi è diventata una regola ma loro c'è stato un po' di problemi nel senso mi ricordo all'Inda per esempio dove ci sono foto di tutte le produzioni di questa perché l'idea del del costume che poi questo era del novecento ma era proprio un'idea perché il costume militare era proprio realistico ecco questo invece sono i primi schizzi per le tre sorelle la cosa curiosa di questo qui è che il primissimo schizzo fatto che è quello lassù in alto a sinistra è praticamente la scenografia ma mettiamo fra lui e poi la scenografia finale sarà corso non dico un mese se non di più perché poi comincerà i tentativi comunque di farlo sempre nel salotto ce ne sono diversi ecco questa era un'ipotesi che è proprio di uno stanzone gigantesco con il quadro di mosca al su in alto questo addirittura ora rivedendolo eppure è vero che era fatto per questo ma io sinceramente non ho il minimo di ricordo perché eravamo arrivati a rifare un salotto di questo tipo non lo so questo ho fatto anche un modellino quindi evidentemente c'era un momento in cui questo sembrava che dovesse diventare la scena poi invece stiamo sempre ritornando indietro io rivedendo queste sedie mi ricordo che c'era quest'idea di spettacolo corale e forse in qualche momento l'idea era che gli attori neanche che i personaggi neanche uscissero di scena ma si sedessero in quella in quella roba di sedie anche qui un tentativo di modellino questi sono proprio modellini di studio brutti poi di nuovo però l'idea di questo stanzone di legno sempre con queste sedie così poi di nuovo ritornando fuori il tasso di bosca pianoforte pianoforte era un elemento che lui amava molto agli spettacoli qui ecco per la prima volta però cambia il pavimento cioè si ritorna l'idea con un pavimento che non ha niente a che vedere con la stanza che poi in realtà è quello che rimane di nuovo si ritorna sulle sedie è già uno sfondamento sul cioè l'idea di un fondale insomma dietro ad una questo invece è un modello di studio è diventato il pavimento è diventato una petraia c'è solo il tavolo qui era un'idea rosso che poi in realtà non c'è più e questo è curiosissimo questo è l'ultimo perché ogni tanto succedeva che anche quando poi era arrivato all'ipotesi che ormai considerava in definitiva aveva sempre dei ripensamenti e allora c'era un passo indietro qui per esempio questo nella sequenza è uno schizzo che è avvenuto dopo aver già trovato l'idea probabilmente io non so se nei pacquini ci sarà erano tutti i personaggi tutti su delle carrozzelle non hai idea ecco questo poi invece era il modello definitivo con questi i fondali l'azzurro il nero e il giallo questo sono delle foto che è Grazie a tutti. Non posso aprire nessun tipo di intervento perché devo dare subito la parola a Gigi. Grazie a tutti. E poi costretto a dire, puoi rimettere, qua mettiamo un proiettore, qua mettiamo... Cioè, ma con questa forza, a volte c'era anche il Movimento, a volte non c'era. Lui riusciva, col modellino davanti, a farmi capire quello che da quel modellino doveva venire fuori con il mio contributo, con quello che avrei potuto e dovuto mettere io là sopra. E aveva un modo di chiedere le cose, diceva spesso vorrei una specchiatura, che non significa niente, ma che significava moltissimo. Quello che era lo spettacolo, poi tra le sorelle l'abbiamo fatto così. La luce sembrava... non aveva una direzione, non c'era una luce. Diceva, ecco, qua è un proiettore che si accende e che arriva là. No, era una luce assoluta e dovunque gli attori andassero ce l'avevano ed era costante, cambiava soltanto le temperature di colore nel corso del tempo, fino al famoso fondale giallo, di cui abbiamo anche una registrazione interessante. E questo era un aspetto, c'era tutto l'aspetto di ingegneria, prima, che lui studiava con Maurizio, che poi studiava anche con me, e poi c'era l'aspetto, diciamo, di direzione d'orchestra, quando eri sul posto, come avete visto prima, quando saltava in palcoscenico per raccontare a un attore quello che doveva fare. In qualche modo, diverso, lo faceva anche con noi, cioè ti portava, ti spingeva a dare il massimo di quello che tu eri in grado di dare. Eri come uno strumento musicale e lui un virtuoso che ti suonava. Cioè, io non ho fatto tante altre volte le luci e i lavori come li ho fatti con Massimo. Lui aveva questa capacità di farti, come c'è quella famosa canzone, di spiegarti quello che pensavi. Cioè, ti faceva pensare quello che lui aveva immaginato, te lo faceva immaginare e te lo faceva tradurre con il linguaggio che era tuo, nel mio caso, quello della luce. Ed era ogni volta un processo molto emozionante e anche terrorizzante a volte, perché quando lui ti diceva, ti dava tutte quelle informazioni, tutte quelle immagini, tutte quelle visioni, tutti quei punti di vista, tu eri come annichilito perché ti sentivi un miserabile che non riusciva... Un miserabile è di fronte a una divinità, però una divinità umile, perché non ti diceva mai hai capito. Ti diceva sempre mi spiego. Cioè, si prendeva lui la responsabilità del fatto che tu potessi arrivare a capire, a concepire quello che lui aveva immaginato e poi, per sua utilità, naturalmente per l'utilità dello spettacolo, tradurlo in palcoscenico. Questo per questo genere, perché poi ogni volta, secondo me, a seconda della drammaturgia che si doveva affrontare, cambiava anche il modo e il metodo. Le cose assolute funzionavano così, le cose più, diciamo, normali, più banali, come gli innamorati, di cui abbiamo alcuni frammenti, dove la luce era una luce naturalista, c'erano due finestre, praticamente era un quadro di Vermeer rattoppiato, e lì la difficoltà è che si sviluppavano in un modo diverso, perché lui utilizzava la luce di due finestre, non soltanto per raccontare il passaggio dalla mattina alla sera, una cosa banale, semplice, che si può fare più o meno bene esteticamente, ma che come poesia, come racconto, è quello là, è quello. Lui riusciva a piegare, ad utilizzare, sia per quanto riguarda l'immagine, ma anche per il suono, gli accadimenti atmosferici erano utilizzati per aumentare la forza della drammaturgea e aumentare, diciamo, l'intensità del racconto che gli attori poi sviluppavano in scena. Vediamo il pezzo, poi magari parliamo ancora un minuto. Lasciamo l'audio delle prove? No, lasciamo l'audio. Come? Io lo lasceremo. Lasciamo l'audio e video. Prima la vediamo per il video? No, lasciamo tutto, audio e video, intanto sono 35 minuti. A questo è l'inizio, l'apertura di Silvario. C'è Cucciana Escore che gira per la casa. La luce è quella del mattino, perciò bassa all'orizzonte, entra praticamente ortogonata alle finestre ed è freddo. Qui è un pochino dopo l'apertura della finestra di sede, affermo un attimo, questa è una cosa interessante, perché vedete che là c'è un ventilatore? Questo penso che l'abbiano fatto a Venezia e lì fuori da quella finestra c'erano almeno tre soli, uno di mezzogiorno, uno del mattino e uno del tramonto, più le ventole per muovere le tende per il temporale, i proiettori a scarica per fare i lampi e i tuoni che poi vedrete e praticamente è tutto in mezzo metro quadro perché non c'era lo spazio, perciò questo angolo della telecamera fa vedere una cosa che per fortuna il pubblico non vedeva perché è preso di sbieco, ma lì dietro c'era il mondo, gli attori appena la finestra e avevano fuori praticamente un cantiere. il suono, la mattina, la luce, l'alba, la gente va a lavorare, ma invece gli ragazzi forse hanno appena litigato, non ti ricordo, stanno di litigare e perciò arriva il temporale. L'attesa, cioè era veramente maestro nell'utilizzare questi piccoli segni, il colpo di un lampo, un raggio di sole per raccontare quello che i personaggi stavano vivendo in quel momento. Perdonatevi se vi ho incommodato un uomo. E' un uomo mio per poter venire. Ma per te, che non avete veduto il segnale Fulgenzia? Fulgenzia? Ma l'ho avuto qui, non sono ancora a voi. Anzi, mi figuro che si saranno pacificati con la signora Ingegna. Adesso tutto si acquieta e torna lo zio, il zio Babbeo, e la situazione piano piano torna a un clima più tranquillo, più disteso, più solare e tra l'altro il tempo è passato. Adesso qua è mezzogiorno e l'angolo della luce naturalmente è cambiato. Tra un po' arriverà. Ma ho fatto una spesa che neanche il governatore. E' vero, su Cianescore? Eh? Ah, io sì. Adesso andate a guardare. Un momento. Io vado. No, 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 tu aspetti. Ma con questo che è? Aspetti. Lasciami vedere quel cappone. Allora l'ultima migliora che era avanzata e passata e il sole trabocca. Ah sì, qui c'è la storia della cognata. La cognata che è il motivo per cui i ragazzi indiettivano come sapere di tutti e qua torna di nuovo un secondo temporale. Adesso io non posso parlare. Ma che cosa sono questi segreti? Se avete dei segreti non avete tempo di comunicarveli in casa? Anche voi venite a fare cincino? Ho questo a voler provocare la mia sofferenza. Eugenia! Ma che vuol dire questo discorso? Ho reggetto il giorno che siete venute qui! Eugenia! Eugenia! Che muoto è questo? Io a cognato mi perde il rispetto. Allora qui è una cosa divertente. A un certo punto, naturalmente il tempo passa e qua siamo al tramonto. Io dico Massimo, Massimo ma come facciamo? Qua il sole è oriente o occidente. Cioè se è arrivato, come fate? Questo, casomai, diremo che è un effetto straniante. L'abbiamo svoltato. Ma su questo, pretende che non si parta dalle cristiane. Sego al pranzo a farle fresco sulla finestra e poi se non lo fa, dice che le perde il rispetto. Poi nel finale, questa è stata una cosa molto dibuacchietta, ti ricordi? Le candele, le candele, infatti non si vedeva niente. Abbiamo fatto il finale non realistico, reale, solo con le candele. Adesso qui c'era un pezzettino, ma nell'ultimissima scena c'era forse una spolveratina di diffusa e erano illuminati con le candele, era bello lindo. Forse l'avevamo già fatto, ma noi non l'avamo copiato. E' venuto così. Che poi corrisponde col finale dove si ricompongono tutti i malanni e i ragazzi poi si sposeranno, a netto fine, eccetera. La storia, cioè, non si toccano temi alti, ma ciò nonostante, attraverso questo meccanismo di utilizzo della luce della natura per accompagnare la drammaturgia, siamo riusciti, a mio avviso, a fare uno spettacolo meraviglioso. Infatti farlo a pezzi per trovare questi frammenti è stato un dolore, oltre che la difficoltà. Generoso nipote, eroe venticinco, gloria del nostro secolo. Finito. Grazie. Grazie, grazie. Ci sarebbe l'audio delle prove con Eternas. Siamo un po', forse... Non importa. Vogliamo... Faremo una pausa a pranzo più breve. Sì, sì. Sì, sì, ditemi voi. Quindi, bene, allora... Cosa vuol dire? No, sentiamo l'audio. C'è l'audio. Ah, quello di tre sorelle. Sì. Mi sa. Sì, lì, lì si sente esattamente quello che poi tu li puoi rispondere quando lui ti parla di questi temi alti, poi tu dici, ma se metti già non puoi fare quella roba là, se metti... Sentiamo. Che semplicemente cromaticamente il rapporto del centro corretto tra fondo, parimento. Cioè... Non è che sia più breve, ma... No, sono due blocchi, proprio... Molto precisi, molto definitivi, grafici. Sì, in fondo diventa anche questa abbastanza cartellonistica rispetto al primo. Eh. No. Anche se non fa intervenire il giallo. Esatto, esatto. Era un po' per ritrovare quella sensazione che restituiva il giallo, però sempre con l'azzurro. Sì, sì. Ma ci sono anche questo, ci sono approvato. Ma sì, avevo fatto il pensino, dicono, non tocchiamo mai per saffondare l'azzurro e poi in fondo invece lo tiriamo fuori, ma diventa più cartellone, più tutto quanto, che va bene per il quarto, insomma, se l'ha già detto il giorno scorso. Ora, l'intervento dei quarti, delle scariche, completa, abbastanza, lo spostamento, no, dell'oggetto, non qualche modo. Non è una possibilità, è una possibilità, è una possibilità alternativa per il quarto, secondo me. Anche io sono in questo avviso. Anche se mi dispiace un po' così semplicemente, mi sembra di sprecare una cosa usando il giallo, però effettivamente questo mi piace quasi di più. È da vedere, è da capire, è già cominciare a montare il quarto, ancora ne parliamo come di un oggetto materiale. In qualche modo l'impressione che fare il quarto qua dentro, anche per te, risulta un po' più semplice. Non so come, capisci cosa ti devo dire? Forse sì. Quello lati dà, ti dà delle parentesi più strette dentro cui stare, queste qua sono un po' più larghe, semplicemente quello. Forse sì, o forse è più difficile qua. Dice, eh? Sì. Ma non è mai ricercato. Forse, ma non lo so. Forse può risultare più difficile qua perché deve trovare dei equilibri più delicati. Mentre invece sul quarto poi forse può, perché non è mai cominciato. Perché è più disasperato, può arrivare a delle cose più... Se parti, parti con il quarto, volevo dire, chiaro che sul quarto mi viene in mente una cazzata, tipo, che adesso lo faccio entrare, è dei classi, un traffico nella città. La città, qua no? Ecco, appunto, no? Sì, quel discorso sul futurismo qua è più... No, qui non lo puoi fare, non esiste. È uno spostamento dell'assetto del primo. No, me ne lasci su, per favore. Ma ne avevano spette qualcuno? È uno spostamento, appunto, smaltato dell'assetto del primo, sostanzialmente, con il fondo che viene fatto vivere, diventa chiaramente un fondo finto, sbattuto in faccia. Sì, però, mentre questo qua è una crescita di esasperazione. E quell'altro è un meccanismo di salto. Assolutamente, sì. Ma per farlo diventare giallo è stato un parto, veramente. Poi alla fine, visto che la foto c'è, la foto è il fogale della giallo, e perciò lo è diventato. Ma per arrivare là, non ti dico come la porta di accetti, ma accendire la luce, spegnere la luce. Allora, per me è piuttosto difficile parlare di Massimo, perché io praticamente sono nato con lui, donna anagraficamente, naturalmente. Però, devo dire che ce l'ho sempre di fianco. Cioè, io tutte le volte che entro in teatro, la prima cosa che mi chiedo è cosa direbbe Massimo? Cioè, guardando la scena, guardando il teatro, guardando come è fatto il teatro, guardando quello che si può fare in quel teatro, me lo trovo davanti. Mi trovo davanti la sua coscienza critica, fondamentalmente. E tutte le volte non riesco a darmi risposte, perché non so mai quello che lui avrebbe detto. perché lui aveva questa domanda micidiale. Cioè, capitava questo, no? Che, non lo so, mi spiegava cosa voleva, per esempio il telefonale, piuttosto che le rondini, piuttosto che i grilli, gli uccellini, o tutte queste... Le campane. Le campane, insomma, un sacco di cose. Io gli proponevo delle cose e magari cercavo di uscire dal percorso, perché a volte ripetere sempre le stesse cose diventa faticoso. anche produrle, no? Lui mi ascoltava, mi guardava, passavano almeno tre minuti di silenzio, perché i silenzi del castro erano micidiali a tavolino. Cioè, lui si fermava, stava in silenzio, ti guardava, e poi mi chiedeva, ma che senso mi produce? E lì, crisi totale, perché la risposta non è mai arrivata e non è ancora arrivata. Perché il senso esatto di quello che si va a fare in teatro non è mai chiaro, perché è molto soggettivo, non c'è mai un'oggettività di quello che si fa. Comunque, a parte questo, volevo fare un piccolo cappello e non posso non entrare nel biografico, perché appunto la mia vita è trascorsa dall'89 al 2013, di fianco a lui praticamente, oltre che ad altri, ma fondamentalmente con lui. La figura dei collaboratori, tra i quali mi metto, all'estero è chiamata, noi siamo gli Schwarz, cioè i neri, non tanto per il vestito, anche forse, Per te però. Per me sì. Ma perché voi siete già oltre. Ma perché avete il vestito, perché agli ringraziamenti normalmente si usciva in Germania. In nero, certo. Però anche per un altro motivo. Ma questo non lo sapete. No, perché in teatro, se ti vesti di nero, non ti si vede. Non ti si vede. Cioè il teatro è sempre buio e noi siamo abituati a muoverci molto durante le prove. Cioè non stiamo mai fermi, a noi lui non stiamo mai seduto. Ho sempre qualcosa da fare, da dire, da sbrigare durante le prove. E quindi essere vestito di nero è chiaro che è un grosso vantaggio perché non ti si vede in teatro. Quindi correndo lunghi muri come i toponi noi andavamo a destra e a sinistra. Ma soprattutto cercavamo di proteggerlo. Cioè il collaboratore è un po' il colonnello, no? È quello che si mette alle spalle del regista e cerca di evitargli qualsiasi problematica affinché è possibile farlo. Oltre chiaramente all'autoregista. E questa è una cosa che mi è rimasta molto dentro. Ed è un mio atteggiamento che tuttora in teatro cerco di mettere in alto. Io ho conosciuto Massimo nell'89. Prima ero nella musica, facevo concerti, eccetera. Poi per consolidare le mie conoscenze sono stato negli Stati Uniti ho studiato lì e sono tornato chiaramente senza denaro e mi chiamarono da Erte mi ricordo proprio il pomeriggio stesso in cui ero rientrato dal volo quindi ancora in preda a un jet lag totalmente attormentato e andai a Modena e l'allora direttore che era il mauro Brecciaroli direttore degli allestimenti direttore degli allestimenti sì sì certo gli allestimenti di allestimenti la prima frase che mi disse fu lui era Spolettino parlavo dei sordi io ho detto perfetto cosa devo fare e lui mi propose un primo lavoro che era con Thierry Salmon per me un perfetto sconosciuto io non sapevo che fosse Thierry Salmon non sapevo creare il teatro fondamentalmente e il lavoro da fare era in realtà molto semplice però il fonico di Ert l'aveva rifiutato perché per lui era difficile ora io arrivavo da tutto un corso di studio più complessi effettivamente e la proposta era quella di gestire quattro microfoni e due Revox famosi Revox che sono i registrati che si usavano allora chiaramente vista la proposta economica che era di mi sembra 137 miliardi al giorno tutti i giorni tutti io ho fatto un rapido calcolo e ho detto perfetto ma ci sono quando cominciamo? domani e il giorno dopo mi sono trovato sparato in teatro con Thierry che era un tipo parecchio particolare e schnitler la signorina Elzi esatto che fu uno spettacolo particolare tra l'altro censurato a reggio Emilia dai carabinieri in sala perché la Elzi usciva alla fine completamente nuda sotto un cappotto e si timbrava il corpo con una violenza micidiale in mezzo al pubblico e a reggio Emilia a reggio Emilia sottolineo la sera dopo c'era il carabinieri in sala e ci impedì non andare in scena fatto questo ho incontrato l'occoni immediatamente perché ero fonico aerte quindi fonico interno quindi facevo le cose che mi chiedevano di fare e facevo le carabinitane dove il suono era curato da Uber e Scamp lavoro enorme complicatissimo con questa massa di suovere a destra e a sinistra queste pareti che si muovevano comunque fatto quello mi sono trovato Massimo e il Beretta Sonagli spettacolo normale diciamo dove però è nato il rapporto è nato il rapporto e subito lasciato perché subito dopo ho incontrato Martone e il suo poese fatto quello sono tornato da Castri che aveva la prossima produzione Air che era l'SR di Genè e questo è stato un po' lo switch cioè la svolta della mia vita praticamente perché in quel lavoro c'erano alcune cose particolari di audio per esempio a un certo punto la signora sono tre personaggi due serve e la signora la signora esce di casa adesso lascio tutta la storia esce di casa per raggiungere il suo amato che è stato imprigionato o comunque aveva problemi con la giustizia chiama un taxi e con il taxi se ne va ora Massimo mi disse io vorrei sentire una macchina una macchina un'automobile cioè voglio che tu mi trovi un'automobile che arriva ora io venendo da appunto studi diversi però molto precisati dal punto di vista audio cosa che in teatro non si faceva mi misi e con i repos cominciai a tagliare i nastri spezzoni di nastro e montai una scena dove c'era il taxi che arrivava da lontano frenava la porta della macchina che si apriva la signora che scendeva le scale entrava in macchina la porta che si chiudeva la macchina che ripartiva quindi era una scena descritta questo lui piace molto perché evidentemente non era abituato ad avere un audio così precisato così esatto e da lì è nato un rapporto ora io ho abbandonato Eert dove ero interno e l'ho seguito il lavoro dopo è stato appunto il lavoro del progetto Euripide si no ancora un attimo e è stato il progetto Euripide cercherò di essere molto rapido anche se è una storia lunghissima comunque e fu un progetto Euripide dove che abbiamo già appunto visto oggi dove successe un po' di tutto ma anche quello fu un lavoro molto interessante dal punto di vista Amodio soprattutto perché la Pezzoli Cristina mi stimolava molto in questo e Massimo accettava quello che io gli proponevo con la mediazione di Cristina poi ci fu un piccolo dramma che fu il calderon della barca la vita e sogno che fu uno spettacolo veramente complicato che non funzionò almeno al mio punto di vista ma anche non funzionò e quindi il nostro rapporto si rompe perché quando uno spettacolo non funziona non funziona per tutti non è che c'è un capo aspiatore in realtà il gruppo lo staff si spacca e quindi mi trovai senza lavoro e Massimo non lo sentì per un anno intero poi successero i rustegli i rustegli invece erano uno spettacolo anche quello che funzionava funzionava tantissimo ma mancava del suo elemento audio che era il carnevale cioè i rustegli si svolgono a Venezia durante il carnevale di Venezia e lui voleva sentire questo carnevale voleva che aprendo la finestra da fuori arrivassero le ventate del carnevale io che ero senza lavoro e un po' disperato perché non sapevo cosa fare avendo abbandonato Erte e quindi non avevo un po' disperato mi ricordo che la notte la notte stessa attraverso sempre la mediazione di Cristina che mi chiamò dicendo guarda che forse c'è la possibilità di entrare in questa cosa perché manca il carnevale andai in giro per Venezia con da portatile che erano i primi registratori digitali due microfoni in mano e registrai Venezia di notte cioè le campane i calli le calle le calli lo sciabordio dell'acqua insomma registrai Venezia poi con Cristina e gli attori dei rustidi mi mammo cioè facemmo dei carnevali all'interno del teatro loro avevano le trombette le canzonette quindi registrai questa cosa registrai Venezia misi insieme il tutto e lo proposi e questa fu la vera svolta perché gli piacciono molto lo spettacolo andò molto bene e da lì in poi è stato un continuo fino alla fine ora fate questo cappello che è assolutamente fondamentale vorrei passare molto velocemente sul concetto che Massimo aveva di musica ora Massimo suonava probabilmente lo sapete lui aveva una cosa che diceva molto spesso suonava il bombardino il bombardino è un flicorno baritono che sono quegli strumenti da banda enormi con la campagna che si mettono sulle spalle che fanno co 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 cosa che lui continuamente con la voce faceva in qualsiasi occasione quando si rilassava o era teso suonava il suo bombardino interno che aveva sempre addosso infatti amava le frequenze gravi era una cosa che amava di più erano proprio le frequenze gravi parentesi una delle sue canzoni preferite quando era sotto stress o anche molto rilassato era la sigla del TG Ruzzi cioè lui tra sé e sé cantava po 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 magari prendendo il caffè o facendo questo si d'altra cosa era pericoloso anche a volte a volte era un segnale di grande pericolo tu sentivi po 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 e facevi tra attenzione attenzione comunque lui suonava il bombardino probabilmente piuttosto male o comunque da diuttante chiaramente e lo suonava in una orchestra non un'orchestra in una bandaccia di Cortona nel suo paese natale quando insieme a uno dei francesi che è da qualche parte qui dentro è andato via ah è andato via pericolato facendo la famosa lettera del 93 voleva un pezzo suonato dalla banda di Cortona e diretta dal maestro che dirigeva lui quando era ragazzo e suonava il bombardino quindi un giorno prendevo la macchina io Bruno nome Massimo e andammo a Cortona mi ricordo che l'inverno freddo bestia pioveva noi andammo da Scolese a Cortona per registrare la banda e ci trovavamo in questa cantina uno scherzo in una cantina dove ancora c'era il maestro originale ormai abbastanza andato di età e alcuni dei suoi colleghi che suonavano con lui prima c'era il microfono molto professionale distrattore tutto per benino e poi chiedemmo loro di suonare ora io ho portato un estratto di questo no anche Massimo no Massimo non suonava più no lui ormai non suonava dirigeva no nemmeno lui stava seduto su una sedia suonato commosso perché se ritrovava dopo anni il maestro davanti e alcuni dei suoi colleghi sì fu un momento molto emozionante finché non cominciò a suonare va andando ecco io lì fui veramente terrorizzato e capì che questa cosa non poteva funzionare ora io ho un po' di pudore a farmela sentire non la sentiamo però credo che sia proprio la pancia di Massimo Castro cioè la sua musica viene da lì per un attimo aprieta un attimo per un secondo boh ci sembra possibile grazie non volevo dirvi che questa è la marcia funebre di Ciopera che è un pezzo per pianoforte che è pulitissimo nitidissimo cioè è un capolavoro assoluto fatto dalla banda di Cortona del bombardino Massimo Castro vai della Grazie, ciao. Non posso dire che c'è un punto dove c'è un errore clamoroso, perché c'è una parte della banda che suona le battute dopo, mentre invece l'altra parte va avanti dritta. Questa cosa fu ripetuta credo 5-6 volte e ci fu sempre quello stesso. Dopodiché cambiamo pezzo, perché io ho detto ok ragazzi, allora cambiamo pezzo. Non fu usata, perché era veramente terrificante. Detto questo vi farei sentire invece l'impezzo di inizio delle serve, perché Massimo aveva almeno un paio di, diciamo tre passioni forti musicali. La prima era Verdi, che era forse il suo preferito. Poi aveva il suolato, e questo era il suolato popolare, poi aveva il suolato raffinato ed era Schoenberg, il primo Schoenberg. Quello di notte trasfigurate che lui aveva usato in Orge di Pasolini. Bellissimo. E poi tutto il jazz. Il jazz che noi usavamo in Orbat, in Federale Speranza e Carità, il jazz di Mingus e Coltrane, che fu editato. Io mi ricordo che di Coltrane tagliai proprio le singole note della tromba per rimontarle in un altro modo, come mi chiedeva lui. Fu un lavoro enorme. E tra l'altro insieme mi chiamarono e mi dissero attenzione che questo forse qualche problema ce lo può avere. E comunque parte questa. E quindi vi farei sentire appunto l'inizio delle serbe, dove abbiamo un'aspirapolvere dal vivo, che Lucilla Morlacchi usava, che erano delle due serbe, Paola Mannoni, Claire e Lucilla che faceva Solange, usava il palcoscenico, per cui noi avevamo il sipario chiuso, sentivamo l'aspirapolvere che Lucilla usava, dopodiché entrava Paola e Verdi. Speranza 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 e Verdi. Questa nuova che sentite sono dei guanti di gomma che Lucilla aveva e... Si toglieva. No, non si toglieva, sbattiva, cioè li alzava e li mollava. Stac, stac, stac. Questo perché nel testo loro giocavano alle signore e una delle due voleva infastidire la signora che si preparavano e quindi con i guanti facevano questo rumore. Infatti poi il testo lo dice anche questi guanti, questi guanti. Ma la cosa che voglio farvi notare è l'attacco di Paola Mannoni che tecnicamente è il levare perfetto sull'ouverture di Traviata. E queste sono cose che Massimo aveva istintivamente. Cioè lui concertava spesso gli attori, come abbiamo visto anche prima negli smagni, quel pezzo concertato con gli orologi, questi che uscivano facendo i bagagli, no? Li dirigeva inconsciamente, perché in realtà non aveva la preparazione tecnica per farlo, però riusciva a farlo. Se riuscite a contare il tempo, o comunque a seguire il tempo dell'ouverture, vi accorgerete che Paola entra esattamente sulle varie, dicendo appunto questi guanti, questi guanti. Grazie. Oh! Oh! Questa è un po' di volume più, per favore. E questi guanti, questi belli guanti, quante volte te l'ho detto di lasciarli in cucina? Ma questa è proprio con quelli che stai disegurando il tuo attaio? No, 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 no. Non vuoi dire? E' inutile? A perdere il suo attaio? Quando non capirai che questa camera non deve essere insozzata? Tutto è sputo? Tutto? Quello che viene di cucina? Eh sì! Guarda, ti vieni in questo punto! E' un bravo, è un bello! Grazie. E questo è per dire quanto lui conoscesse la news in realtà, perché ce l'aveva dentro, ce l'aveva qua, secondo me l'aveva proprio sotto l'ombelico, l'aveva qua. E non perdeva l'occasione di tirarlo fuori, che si commuoveva in questo. Gli piaceva proprio. Poi, mandando molto velocemente, passerei anche io a Elettra, il brano della morte di Egisto, dove c'è Galatea, Ranzi, sola, in scena, in luce piena, con un cicalame assordante, che in pratica era l'orchestra che accompagnava e drammatizzava il movimento. Queste cicale erano piazzate dentro dei diffusori messi, applicati praticamente in alto, in teatro, al carabinista Spoleto, e guardavano la scena, erano proprio diretti verso la scena. Quindi li avevamo in testa, una pioggia di cicale. E queste aumentavano di volume, mano a mano che la scena diventava più drammatica. Finché non sentirete un urlo di maiale, sgozzato, che sarebbe Egisto, che viene appunto ammazzato. Piccolo aneddoto, per il maiale era un problema, perché all'epoca non c'erano, non è che non ci fossero i maiali, ma non c'erano effetti sonori. Cioè non è che si trovava, oppure si trovavano qualche LP, dove c'erano degli effetti sonori orribili, e chiaramente non c'era il maiale sgozzato. E tantomeno potevo sgozzare un maiale. Però lui mi chiedeva il maiale sgozzato, e io in qualche modo volevo trovarglielo. Quindi con un amico andammo in Umbria, in un posto da contadini che avevano avuto i maiali. Dove c'era il contadino? Il maiale era silenziosissimo. Io coni sempre con i microfoni, e lui non ne voleva sapere. Proprio tranquillo e pacissimo. Il contadino prese un pungolo, e cominciò a martoriare il maiale. Alcchio disse, ma no, no, ma cosa fa? Ma fermo, povero maiale. Insomma, il maiale reagì a quel punto, e cominciò a urlare. E io, contentissimo, ho registrato. Cosa che adesso non c'erano. Sì, oggi mi metterebbe. Però credo che il maiale fosse abituato. Cioè, non era bravo. Quindi era quasi un moslare, un masochista. No, non era masochista, voleva fare un... Era una recita. Sì, era un po' più attraverso. Ma più che altro voleva fare un favore al contadino. Ho detto, ok, va bene, allora... Allora si può guiderla a mangiare. Sentiamo un po'. Altri sogni. Questi li porta in venta. Ci vuole tempo. Tempo. ... Wenn fuori. ... Allora. Grazie. 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 Lo sento? È il lamento di un moreno. È lontano, mamma. Ma lo sento. È qui si lo metta? Sono loro. Sono gli amici. No. 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 Ma non si capisce niente, i suoni si confondono, le voci si accavallano, non si sente. E' una cosa, in realtà il maiale c'era, ma non era, cioè è stato leggermente modificato perché altrimenti sembra veramente sbombazzato. Posso fare una domanda? Sì, certo. Questa è la scena nella quale Lettra sta aspettando l'uccisione di Egisto da parte di Oresto. Aspetta, il segnale, esatto, dell'uccisione di Egisto, sì. E che è così dilatata, con questa attesa così lunga, come facevate con un'attesa così lunga? Con un'attesa così lunga, come facevate, siccome tutta quella attesa lì tiene l'attenzione drammatica. Io ho reto incollato perché mi cresce la cosa che deve accadere qualcosa, però sai, ci metti un attimo a farla cadere. Al di là dell'attore, cioè non è che, come facevate a reggerla, come dire, a capire quanto era il segnale per te di entrare con una cosa? Io mi basavo sui gesti di lei, cioè i miei tempi erano fatti sugli attori. Massimo mi ha sempre insegnato a non avere, sì, il copione era segnato, questa battuta entra con questo, esce a questo punto, eccetera. Però c'era sempre una grande libertà interpretativa, per cui tra me e Galatea c'era proprio un filo, l'abbiamo fatto in un mese, a tessere questo lavoro, sì. Questo tra l'altro era il secondo anno, il fatto di Bevagnano, era il Caio Melisso. E niente, si andava, come si dice, a sentimento. Quindi giocavate insieme. Assolutamente, ma questo è accaduto in tutti i lavoratori. Con una tenuta così lunga. Sì, sì. Scusa, posso dire una cosa? Questa è una scena in corico, io me la ricordo da allora che l'ho vista durante, perché c'è poi questa cosa che dice Sergio, che è un tempo che non è un tempo. Io l'ho visto da spettatore lì, tu ti aspetti dentro, ti accordi, ma la cosa bellissima è che è un tempo che non è quadrato, ma è un tempo che avviene e lo spettatore entra dentro, comincia l'ansia, non sai quando finirà, perché non sai, pensi che possa partire un monologo, non parte il monologo, lei aspetta. E lo spettatore aspetta insieme. Sì, va bene. Un tempo sospeso. È questa specie di tempo che non ha le coordinate teatrali. Ecco, questa è una cosa che spiazza e che ti porta dentro e dilata e appunto fa entrare il pensiero di Elettra, fa entrare le tue paure e la tua incapacità di gestire il vuoto. Questa era una sensazione chiarissima da spettatore. Certo, ma anche perché gli spettatori erano, come avete visto, a un metro, erano dentro l'azione. Io vorrei chiudere con il frammento di Massimo. Questo è lui, durante l'estero, fabbricone, per il finale dello spettacolo. Massimo mi ha fatto registrare la sua voce due volte. Uno per l'Iffigenia, appunto, in versione Torino-fabbricone, e l'altra per Oreste, al fabbricone, dove c'era una battuta finale di Apollo, che voleva appunto, a chi la facciamo dire, che aveva detto Massimo fa la tua, è una voce bellissima. Ha detto, va bene, la facciamo. Ci abbiamo impiegato diverse ore per registrare due ringhe di testo, e però non andava mai bene. E l'altra invece era la voce del tempio di Toante, dove lui faceva questa strana cosa con la pancia, però purtroppo non ce l'ho quella, ma ho il finale di Oreste che vorrei fare, sentire. Il finale di Oreste è a Purno, questo? Sì, a Purno, certo, certo. BASTO! Fuori, Perzeus! BASTA! USCITE FUORI! TUTTI! Basta, ho detto. Uscite fuori tutti, basta. Fuori, uscite. Perzeus, basta. Uscite. Il contrasto tra Oreste e la città di Argo lo scioglierò io, perché io l'ho costretto a uccidere sua madre. Quanto al contrasto tra Oreste e la città di Argo, io lo scioglierò, perché io l'ho costretto a uccidere sua madre. Credo che sia finito. Il contrasto tra Oreste e la città di Argo, io lo scioglierò, perché io l'ho costretto a uccidere sua madre. Come sentite, amava le basse frequenze. Grazie. Non potete anche concludere in modo migliore, quindi grazie a vostra attenzione. Ci ritroviamo qua alle 14.30. e grazie ovviamente a Gigi, a Maurizio e al Panto. Allora, ben ritrovati, ben ritrovate. Buon pomeriggio. Ringrazio molto Federica Mazzocchi, Terella Valle e anche l'amica Anna Peira, che sono l'anima di questo convegno che, come diceva Federica, trovo veramente interessante perché non è la tipica celebrazione del grande personaggio, ma è una reale operazione di studio che entra nel merito del teatro materiale e quindi rende davvero ragione di una carriera, di un percorso, di un'esperienza che sono quella roba lì, innanzitutto. Sicuramente tanto studio, sicuramente tanta dimensione critica, ma poi deve diventare quella roba lì. Per questo motivo, appunto, facevo i complimenti a Federica e a Tea e anche ad Anna per questo incontro. Il pomeriggio affronta un tema interessante, comunità Castri nello spazio collettivo. Una figura come Castri sembra un po' distante da queste tematiche, all'apparenza. In realtà, alle origini della sua carriera è un tema che gli sta particolarmente a cuore e che poi sviluppa di fatto per tutta la sua esperienza teatrale e che trova anche nella dimensione pedagogica una sorta di messa in evidenza maggiore di questo percorso. Abbiamo oggi due esperti che sono come dire le persone più adatte per affrontare questo tema e cominciamo da Marco Plini che conoscete molto bene ma siccome Federica mi ha dato appunto la seriografia io la utilizzo. Regist dal 2021 coordinatore del corso di regia ASAM alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi dove insegna dal 2007 anche recitazione ed è direttore ad Interim che è stato direttore ad Interim perché adesso abbiamo un nuovo direttore. Dal 94 al 2013 è stato vicino ma collaborato intensamente con Massimo Castri lavorando nei principali teatri italiani dal 2000 al 2002 è stato direttore del Teatro Stabile assistente del direttore del Teatro Stabile di Torino con delega alla produzione. Le regie qui ci sono le principali diciamo elencate ma sono veramente tante comunque almeno citiamo per il sveglio di primavera di Veideki del 2002 e arriviamo per dire la prima e l'ultima indicate qui ovviamente la Turandonte di Gozzi del 2002 non c'è Gozzi dell'opera di Pechino da Gozzi da Gozzi sì scusate che sono vecchio dei gomani dal 2006 al 2012 è insegnante i corsi di formazione ERT nell'ambito di quello che è il cantiere primi questo è molto interessante ovviamente è responsabile della formazione per Emilia Romagna Teatro progetto Prospero e insegna anche all'University of Applied Science in Finlandia è stato anche nostro docente a NASA e siamo santuariamente però siamo contenti di questo il titolo della sua relazione è Massimo Castri e il teatro pubblico grazie grazie vediamo subito come funziona allora piccolissima premessa veloce poi vado e leggerò tutto così non mi lascio prendere da emozioni specifiche allora è chiaro che la mia relazione non è di natura scientifica non è di natura accademica non ne ho le capacità è un tentativo di oggettivizzare un punto di vista del tutto soggettivo cioè quello che io ho capito nella mia lunga esperienza insieme a Massimo del suo rapporto col teatro pubblico inteso proprio come teatro come servizio pubblico a disposizione della società a cui appartiene quindi basta questa era la piccola premessa adesso leggo e abbiate pazienza cos'è un teatro pubblico nella visione di Massimo Castri è un modello di teatro organico al corpo della società che porti con sé le istanze culturali della sua epoca e le travasi all'interno di un territorio di riferimento un luogo casa in cui creare arte in relazione a un territorio e seguendo una mission di conservazione di memoria e sperimentazione di linguaggi e modelli culturali il tutto all'interno di un processo produttivo che si componga di collaborazione di lungo periodo e di un gruppo di attori che abbia la possibilità di operare insieme con continuità sperimentando linguaggi e visioni declinati in modo diverso nel tempo alcuni punti sostanziali della sua visione sono lavoro organico di comunità diversificazione dei rapporti di produzione dialettica etica tra artista e pubblico ricerca di nuovi strumenti espressivi lo scopo marxianamente è la trasformazione della società questa visione è il risultato di un percorso complesso il percorso di tutta una vita in cui alcuni punti fermi si accompagnano a cambiamenti di visione e prospettiva in un arricchimento continuo e in un processo di continua razionalizzazione degli elementi man mano acquisiti e questa è la visione che emerge da ciò che Castri ha realizzato o cercato di realizzare nei teatri in cui ha svolto la funzione di direttore artistico sono parole ma sono anche accadimenti trasformazioni plastiche passaggi reali complessi e frutto ciascuno di tempo pensiero e battaglie per affermare un valore culturale e una forza operativa delle istituzioni istituzioni mi ripeto diciamo quella che marxianamente è la struttura cioè quello che permette di fare le cose di produrre poi arte istituzioni che ha fortemente rispettato con la capacità di immaginarle diverse e migliori e tentando di cambiarle proverò a seguire lo sviluppo di questo percorso evidenziando alcuni passaggi centrali e facendo riferimento un po' alle parole di Castri la formazione di Castri avviene nell'Italia cattolica e borghese degli anni 60 e 70 è un attore marxista che in questa fase vede i teatri stabili come luoghi polverosi e incapaci di riformarsi per operare in una società che nel giro di pochi anni è stata stravolta dalla ricchezza del boom e dal consumismo il primo momento organico di riflessione pratica relativa alla funzione del teatro all'interno della società in termini tanto di azione artistica quanto di azione civile di cambiamento e coinvolgimento del pubblico è quello del periodo della comunità teatrale Emilia Romagna 1968 1970 la comunità nasce come una struttura orizzontale autogestita di fatto una cooperativa di cui fanno parte con pari responsabilità e retribuzioni attori registi autori tecnici all'attività artistica occasione di sperimentazione e invenzione di linguaggi si affianca una più ampia attività culturale e l'organizzazione di incontri col pubblico e essendo i anni 60 dibattiti oltre ad essere un'esperienza artisticamente importante è in questo contesto che si delinea l'idea di una figura di attore operatore culturale che opera e agisce consapevolmente all'interno di una società che vuole trasformare come vuole trasformare il rapporto di fruizione degli spettatori rispetto alla produzione culturale l'esperienza umana e artistica è molto intensa ma nell'arco di due stagioni di fatto si esaurisce così Castri si dedica alla scrittura della tesi che però diventa un momento di riflessione e razionalizzazione di queste esperienze e nel contempo si mette in cerca di nuove forme e modelli operativi artistici per continuare a fare il suo teatro politico dall'incontro con Emilio Ione e Sergio Liberovici Castri inizia ad elaborare e ad applicare un modello operativo di teatro politico quello del teatro di radicamento che Castri fa oggetto di saggi interviste e sarà il suo modello di riferimento anche nei primi anni dell'esperienza bresciana la sensibilità di Massimo si concentra attorno a una domanda fondamentale a cosa serve il mestiere del teatro in un contesto che sta cambiando un contesto in rapido mutamento in cui ormai la televisione è di massa o sta per diventare di massa in cui il teatro borghese così come era stato durante il fascismo e di fatto sia pure con istanze diverse nel dopoguerra è tramontato la risposta in questa fase nasce dalla pratica una pratica possibile solo con l'appoggio di istituzioni territoriali e così Massimo arriva a Brescia quando Massimo arriva a Brescia chiamato da Renato Borsoni vive un momento di svolta primo perché diventa regista e poi perché inizia ad agire all'interno delle istituzioni in una compagnia che negli stessi anni diventerà un piccolo teatro stabile la Luggetta appunto è una piccola compagnia che però vive in un momento storico fortunato Brescia una città ricchissima con una cultura cattolica solida ma diciamo di un cattolicesimo democratico un po' di sinistra e nel contempo è la Brescia del Tondino di Ferro dell'Industria la compagnia è diventata un po' il pilastro culturale della parte progressista della città in questo contesto Castri e Borsoni cominciano a ragionare del teatro come strumento di politica culturale con una ricaduta diretta sulla narrazione della città o del territorio di riferimento evidentemente una visione totalmente opposta rispetto a quella del teatro di tournée è una fase in cui più modelli coesistono in un contesto che ora è in primo luogo cittadino Massimo porta con sé tutte le sue esperienze pregresse di teatro costruito con le comunità all'interno dei territori rimanendo legato alla necessità di un intervento che riesca a far convivere la formazione culturale del territorio e il progresso estetico espressivo dell'oggetto scenico per Castri il teatro è luogo di cultura lui è figlio di insegnanti di insegnanti nell'Italia del dopoguerra quindi è figlio di una storia di trincee democratiche ed infatti nei suoi discorsi il teatro è sempre paragonato alla scuola o agli ospedali è inteso come qualcosa di indispensabile per la crescita democratica del paese capiamo bene quanto le idee di mercato e di consumo culturali possano risultarli ripugnanti nel 74 il progetto di Borsoni ha successo la Lugenta si trasforma in Ctb centro teatrale Bresciano un stabile piccolo ma che riceve finalmente il riconoscimento dello Stato un conseguente aumento di contributo e il prestigio i mezzi la capacità d'azione aumentano ma il teatro deve allargare il territorio di riferimento cambiare collocazione come ricorda Borsoni l'idea di fondo era questa il nostro teatro doveva diventare più grande passando attraverso le firme della classicità anche contemporanea ma pur sempre classicità l'attenzione è alla programmazione e al repertorio le scelte artistiche di poetica sono l'asse dell'attività del teatro e si caratterizzano da subito per coerenza e progettualità a livello tematico c'è la volontà di proporre spettacoli critici e di riflessione politica un teatro politico poetico che raccontando delle storie di lotta possa confrontarsi con la difficile situazione degli anni 70 in Italia costretto a interrompere il filone brechtiano che aveva appena intrapreso per una questione di diritti su cui non mi soffermerò Massimo punta la sua attenzione su Pirandello lo fa malvolentieri e in maniera imprevista non c'è un autore più lontano dal Castri di quegli anni ma il risultato è sorprendente Con vestire gli ignudi nel 1976 Castri sale all'onore delle cronache nazionali con la sua prima regia ma Castri usa Pirandello come un grimaldello politico per partire all'attacco del salotto borghese per farlo esplodere dall'interno e scatenare i contenuti profondi e scabrosi del testo descrivendo le profonde ipocrisie di un mondo borghese protofascista che nelle pratiche quotidiane del decoro pubblico e dell'abuso in privato assomiglia ancora molto all'Italia degli anni 70 come vedete questo discorso è politico e poetico insieme una poetica intima molto personale specchio di contraddizioni che Castri sente sulla sua pelle questa stratificazione di molti punti di vista o meglio di due grandi punti di vista rappresenterà la sintesi del suo lavoro di regista intellettuale organico più o meno per sempre la coppia Borsoni-Castri entra così nel sarotto buono dei teatri pubblici conquista una posizione e un ruolo forte nei tavoli di discussione si continua a progettare l'innovazione il tentativo del cambiamento di un sistema che avviene ora dall'interno ma sempre da posizioni critiche che ne mettono in evidenza le contraddizioni nel 78 Castri partecipa al congresso di Iseo quello che lui ha sempre definito l'ultimo grande congresso sul teatro pubblico in un'epoca di grande fervore in cui si aspettavano profonde riforme del teatro sognando che venisse ridefinito in termini nuovi Massimo legge il suo tempo con uno sguardo lucido nell'analisi ma anche sorprendentemente almeno per me pieno di speranze da un lato descrive la spaccatura esistente tra i due elementi più vitali della produzione italiana degli anni 70 da un lato il teatro di ricerca inventore di linguaggi più contemporanei ma poco efficaci rispetto alla comunicazione su larga scala e dall'altro lato inspiegabilmente contrapposto secondo Massimo il teatro sociale cioè quel teatro che si occupa della formazione del pubblico che si occupa di andare a trasformare il fruitore in esecutore così da renderlo consapevole del processo culturale attraverso il fare Castri individua un pericolo nella separazione tra queste due linee e in generale nella frammentazione del sistema teatrale e pensa al teatro pubblico come un terreno di mediazione per evitare la definitiva ghettizzazione del lavoro teatrale sono parole sue naturalmente in una società privata della propria dialettica interna una società che lui legge già immobile sulla scena di questo spirito di rifondazione nel 79 viene organizzato a Brescia un convegno il teatro italiano negli anni della ricostruzione l'intervento di Castri chiama in causa proprio il concetto di teatro pubblico come servizio ricollegandosi alla tradizione del piccolo ma abbinando la critica allo slancio per il rinnovamento e qui ne citerò un pezzettino faccio qui riferimento alla definizione di teatro pubblico come servizio concetto complesso certo che però si è quasi sempre identificato con la distribuzione di cultura possibilmente a basso costo un po' come le care e vecchie biblioteche circolanti e circolanti lo sono poi realmente diventati i teatri stabili ma se di servizio si vuole ancora continuare a parlare si deve trattare di un altro tipo di servizio non una generica distribuzione di prodotti meglio o peggio confezionati non un servizio al di sopra delle parti ma un servizio dentro la mischia dentro la lacerazione dei codici dei linguaggi e delle funzioni dello strumento teatro un servizio allora che esprima nella proposta di strategie nella invenzione di metodologie che tendano alla ricomposizione del territorio frantumato del teatro dell'immagine priva di connotati di uno strumento che va perdendo identità sul piano dei linguaggi sul piano delle funzioni e del doppio rapporto con il reale e con il fruitore significa dilatare e modificare sostanzialmente il concetto di servizio ad esempio da offerta di prodotti a offerta di spazi operativi capaci di accogliere proposte metodologiche complesse ed articolate su tempi lunghi e gestite su una base interdisciplinare da più soggetti teatrali diversificati nei primi anni 80 il percorso di Massimo subisce un cambiamento si allontana da Brescia e dal Ctb e comincia per lui circa un decennio da girovago perde la stabilità perde l'orizzonte del lungo periodo il collegamento con un territorio specifico con la progettazione culturale in senso ampio perde il disegno il senso complessivo farà moltissime operazioni diciamo pensando a questa prospettiva ma saranno molto episodiche e salta salta beccando fra Modena ancora Brescia però in questo periodo Castri inizia ad insegnare alla scuola civica di Milano chiamato da Ettore Capriolo e comincia ad affermarsi un altro dei temi che andranno a modularsi e integrarsi nella sua visione del teatro pubblico una delle stanze della casa il problema dell'attore e della sua formazione questo percorso di ricerca avrà come esito l'esperienza dell'atelier della Costa Ovest di cui abbiamo parlato stamattina ma i testi e il metodo rimarranno a lungo nelle prassi di Castri regista e poi forse anche direttore e metteranno radici profonde anche rispetto all'intera composizione della sua visione del teatro pubblico arriviamo così agli anni 90 e qui cominciano gli anni rognosi gli anni delle direzioni massimo a 50 anni la sua formazione è finita sente l'esigenza di un intervento organico nel tessuto del teatro italiano non solo come artista anzi questa è una posizione che comincia a stargli stretto che in qualche modo sente limitante non c'è intervista in cui non faccia riferimento critico ovviamente alla situazione del sistema mi sembra importante riportare le parole di Toni Di Castri nel suo intervento al convegno teatro governo e autogoverno di Milano nel 91 è interessante cogliere una sempre più esplicita polemica con il sistema teatrale un atto d'accusa a se stesso e ai suoi colleghi per non aver saputo trovare in oltre un decennio una sintesi al problema delle funzioni dei teatri pubblici e della loro collocazione reale all'interno dell'intero sistema teatro è un castri amaro anche se è evidente che ha ancora voglia di piazzare al centro del dibattito un sistema tutt'altro che utopico di riforma e razionalizzazione l'intervento si chiamava il regista come battitore libero io ne ho estrapolato un paio di versi in questi anni nessuna riforma reale è stata messa in opera di una legge se ne è parlato per anni come di un evento miracoloso e quindi atteso nel frattempo c'è stato il degrado del teatro non sta a me raccontarlo ma sappiamo tutti della lenta discesa agli inferi del teatro della lenta discesa della sua qualità della sua professionalità della sua capacità di rapporto con la società questo noi lo viviamo quotidianamente il teatro pubblico agonizza si dibatte tra mercato e qualità non sa più progettare non può più pensare in termini di teatro culturale si esibisce in contorsioni a volte comiche è preda della bassa spartizione partitica ma soprattutto non ha mai saputo diventare un soggetto autorevole e parlo dell'intero corpo del teatro pubblico non di singoli teatri non è diventato soggetto di interlocuzione con il teatro tutto in Italia per elaborare un discorso comune io vorrei un teatro pubblico che funzionasse veramente che fosse messo in grado di funzionare senza trucchi e che reinventasse oggi le sue funzioni e i suoi scopi vorrei un assetto legislativo che dia regole e certezze e che insieme non soffocasse tutto ciò che forse può nascere una legge che permettesse un uso del denaro pubblico in funzione di investimento e di scelta perché questo occorre ora cioè investimento che non guardi soltanto all'oggi e al prodotto ma guardi al fine di rifondare i mestieri del teatro le strutture produttive le case che ancora non abbiamo saputo costruire cioè non vorrei che si ripetesse la vicenda italiana del vecchio teatro pubblico di cui vediamo le macerie d'altra parte era il primo tentativo possiamo fare meglio e arriva l'occasione da 1993 si susseguono una serie di curiosi eventi Massimo viene chiamato lo stabile dell'Umbria da Franco Ruggeri che chiede uno spettacolino piccolo piccolo tipo amoretto che possa girare in turnipo Castri rilancia e propone la trasformazione del progetto Euripide in un progetto concreto di spettacolo da grande stabile tedesco con una doppia messa in scena uno spettacolo stanziale da costruire a Spoleto nella platea dello splendido Caglio Melisso dell'Elettra ed uno da costruire in palcoscenico utilizzabile per la tournée l'Iffigenia in Tau lo stabile dell'Umbria è uno stabile molto piccolo ma non nuovo ad avventure spericolate Ruggeri resta affascinato gli spettacoli vengono allestiti e premiati da pubblico e critico quasi in contemporane a Castri giunge una curiosa proposta da Prato la direzione del teatro Metastasio il teatro Metastasio allora non era più un teatro di produzione era un teatro di ospitalità Castri accetta ma a condizione di poter iniziare un percorso per dare alla sua regione e alla Toscana il suo teatro stabile sembra un'idea un po' bislacca velleitaria una provocazione bella e buona ma inaspettatamente l'amministrazione pratese accetta la sfida Castri decide naturalmente di coinvolgere Borzoni come condirettore e si comincia però adesso ce lo racconta lui come è nato il secondo stabile che Castri e Borzoni fondano è un record due stabili fondati in una vita sola dai racconta tutta la storia è una storia superfondissima questo della stabilità di Brano non so anche come è cominciata bene questa storia cominciò cominciò in un periodo in cui io mi dissi se non mettiamo insieme una casa qui è un casino ecco soltanto se non mettiamo insieme una casa verranno tempi duri e sarà molto difficile andare avanti soltanto in quei giorni lì mi ricordo c'è Albertini mi venne a cercare e mi propose una cosa da fare a Prato non sapeva cosa mi disse facciamo qualcosa a Prato mi dice una cosa non avete soldi niente io adesso la faccio breve mi disse io mi dissi una cosa se io riesco a fare qua inventare una situazione che avevo in mente in Prato che la cosa vale in porto la situazione che avevo in mente era quella di trovare un legame forte tra Toscana e Umbria tra Prato e Perusa io lavoravo a quel momento lì in Umbria dove avevo appena fatto Elettra e Figenia e così via e superiamo anche le formule vecchie le vecchie formule dei teatri pubblici in qualche modo e riusciamo a inventare qualcosa di nuovo per darsi che le chance siano importanti e parlai con Ruggeri che era direttore della dell'Umbria lo convinci in qualche modo per quanto convince Ruggeri c'è sempre un'impresa abbastanza complicata e non si è mai sicuri se lo si è convinto veramente e si partì con un'impresa che doveva essere in qualche modo insegnare di cosa potevano fare anche due teatri uno piccolo come l'Umbria e dall'altra parte uno che ancora non esisteva quasi e che puntava alla stabilità in qualche modo ma insieme cosa potevano fare e l'esempio che l'esempio l'esemplum addirittura potrei dire non che scelsi era di fare la trilogia della villeggiatura di Columbo un monumento cioè un monumento testuale molto importante cioè fatta non ho nelle solite sintesi dei tre testi sintetizzati in uno ma fatte nei suoi tre momenti appunto che forse per la prima volta veniva fatta così da molti anni almeno non dico da sempre ma da molti anni si partì con questa grande impresa e che è una grossa impresa per l'Italia in quel momento e si portò in fondo questa impresa con un po' della stabilità è nata il discorso della stabilità è nata in questo modo poi ha subito dei ritardi dei ritardi per colpe ministeriali soprattutto da una parte che ha ritardato per un bel po' perché la stabilità potrebbe arrivare per prima di quando arrivano ci fu un ritardo di un anno forse due addirittura ci fu degli inghibi burocratici e qualcosa di simile e poi prima di tutto venne il fatto che amico Ruggeri ci lasciò per la strada questo come era da sospettare o da temere certo un pezzo di vista un pezzo di vista non l'abbiamo fatto insieme a quel punto di prato si ritrovò sola non ancora stabile e si cominciò a degli anni un po' faticosi un pezzo di strada molto faticoso che poi è terminato con l'arrivo finalmente della fatidica stabilità ma non sicuramente con il risonamento come dire anche con un avvio dei problemi economici seri che credo che anche tutt'oggi non siano risolti di tutto sommato perché sappiamo che la Toscana è un terreno abbastanza difficile questa è la storia della stabilità si intreccia con la storia della stabilità del nascere della stabilità qui a prato che nasce da niente una bolla e poi dopo si gonfia e diventa qualcosa si intreccia con questa è la storia del fabbricone il fabbricone è estremamente intrecciata con la storia della stabilità io naturalmente appena arrivai a prato avevamo una parte del cervello che pensava continuamente al fabbricone a come metterci le mani a come sistemarlo e non mi ricordo in quali anni Porto Cecchini che è arrivato in questo momento vedo sicuramente si ricorda più di me e abbiamo fatto un grosso lavoro quantomeno preparatorio io come direttore non sono riuscito a portare in fondo tutti i lavori che aveva in mente per il fabbricone ma quello della sistemazione acustica sicuramente l'ho fatto come direttore e poi abbiamo avviato anche i progetti finanziari i progetti tecnici appunto per fare la fossa per fare tutta una serie di sistemazioni importanti del fabbricone perché era un pensiero che io fisso questo di sistemare questo luogo che ritengo straordinario e esplicemente dopo aver dopo la sistemazione acustica il fabbricone appunto io i primi spettacoli che ho fatto a fabbricone sono in tanti spettacoli senza sistemazione acustica ancora con degli inghippi di stoffe di stracci di sistemazione acustica provvisoria appunto però comunque sia tutto il discorso della stabilità o del nascere di un teatro di un teatro toscano qui a Prato si intreccia strettamente con la vicenda del fabbricone ecco adesso non vedi quattro perché se arriva a parlarsi diventa ci vorrebbe un puntato per raccontarci questo grazie grazie a tutti parlava Massimo della trilogia la trilogia diventa un po' la traduzione plastica della sua idea di teatro pubblico un lavoro con una prospettiva a due anni o tre di operatività un'alta qualità artistica la formazione di una compagnia stabile che continui a lavorare insieme sintetizzando produzione e formazione permanente degli attori collaborazione produttiva su un progetto condiviso con un altro soggetto pubblico un progetto più tedesco che italiano a cui si accompagnerà il tentativo di Massimo di mettere insieme i due teatri Prato e l'Umbria ne parliamo un'altra volta se non a sforo ma è un tentativo che naturalmente ha fallito troppo complesso sarebbe stato l'esempio però è l'esempio di un insospettato ottimismo progettuale di un castri illuminista che costruisce sui vincoli fiducioso nella logica e nella ragione è chiaro che il progetto è troppo ambizioso nell'Italia dei campanili e piano piano abbassino negli stessi anni anche qui taglio perché se no con Tremoli ma Marsa ci sarebbe tutto il discorso sulla legge Veltroni sul casino di attraversamento della legge Veltroni nella quale però in buona sintesi Massimo entra in conflitto con la legge per una ragione specifica anzi due ragioni specifica ma quella principale è la continua confusione che esiste tra teatro pubblico e teatro privato nell'idea forse un filo troppo europea che il pubblico dovrebbe privilegiare il pubblico e non che il teatro il privato debba sopravvivere e se no muore però stabilire delle priorità che il pubblico stabilisce su se stesso scusate era molto più bello il discorso ma bisogna che mi sbrighi e arriviamo a Torino tutti attendono e in questo contesto all'inizio del 2000 arriva una seconda chiamata da Torino alla prima del 98 Castri aveva rifiutato perché il processo di stabilizzazione di Vrato non è stato ancora ottimato ora le cose sono cambiate la direzione di un teatro di rilevanza maggiore è forse la posizione che può consentirgli di incidere di più in maniera più importante nella carne del teatro pubblico mettendo a frutto tutte le esperienze e la grande quantità di conoscenze accumulate un potenziale progettuale che cerca di crescere ma è una scelta molto sofferta Prato è casa sua la sua comfort zone se si vuole Castri prima di accettare fa il giro di tutti i referenti della fontazione metastasio regione, comune eccetera per capire quali sono ancora i margini di sviluppo del teatro le risposte sono deludenti e così Castri con grande senso di responsabilità decide di accettare la sfida torinese ma all'arrivo a Torino Castri trova un clima di conflitto tra chi vorrebbe una direzione più autottona frutta del territorio e chi invece ha fatto la scelta dell'altro profilo artistico entrambe le parti ignorano di avere eletto un artista che intende fare il direttore e che non viene a fare i suoi spettacoli ma a costruire un modello teatrale infatti il primo anno rinuncia a fare nuove regie infarto del Consiglio si occupa della struttura di conoscere il teatro e di conoscere la città e di cercare di impostare una linea a più mezzi rispetto a Prato a molti progetti guarda all'Europa e alla continuità di lavoro gli assi principali rispetto ai quali si propone di costruire sono programmazione che diventa la struttura nella sua programmazione inserisce una dimensione internazionale tornano a Torino dopo molti anni Dodin Lepage Bruc e nel secondo anno contamina i linguaggi con una stagione di nuovo circo francese una forma di spettacolo che allarghi la partecipazione e i limiti del concetto di teatro programmazione formazione inventa per la scuola del teatro stabile un quarto anno di specializzazione che prevede oltre ad alcuni seminari che gli allievi neodiplomati siano protagonisti di due nuove produzioni dello stabile che due registi maestri come Giancarlo Cobelli e Mauro Avogadro gestiranno all'incrocio di queste due strade nella programmazione delle due stagioni si apre la sezione progetto giovani di sostegno e produzione di giovani compagnie nate da gruppi di ex allievi o comunque provenienti dal territorio per inciso all'epoca non c'erano leggi che imponevano di farlo come capita adesso erano scelte terzo punto fondamentale riguarda la politica degli spazi Castri insegue una diversificazione degli spazi operativi l'esperienza del fabbricone è stata troppo importante per dimenticarlo favorito da alcune circostanze nel corso della stagione 2000-2001 a Torino riapre dopo un restauro ventennale la sala del teatro Castri inaugura con la ripresa della ragione degli altri questa sala questo è un esempio radicale di come potrebbe essere usata come un teatrino da camera intimo e violento nel contempo Castri cerca e trova uno spazio di sperimentazione un fabbricone a Torino un teatro dove realizzare ed accogliere spettacoli che abbiano una spazialità ed un rapporto col pubblico meno convenzionale individua lo spazio ex cinema maestra ottenendo di riaprirlo e di poter avviare i primi lavori di restauro necessari per l'allestimento con una capienza ridotta a circa 120 posti lo inaugura con la ripresa di Figenia il deserto di sabbia con le rovine di teatro da Claudio Calvaresi che invade la sala sventrata dalle ruspe a un fascino visivo fortissimo riassumendo programmazione che si fa struttura sguardo internazionale diversificazione degli spazi di fruizione formazione di base specializzazione dell'attore valorizzazione del patrimonio e compagnie del territorio questo lavoro ci accompagna un gigantesco sforzo di riorganizzazione interna della struttura indispensabile per affrontare un modello operativo che molto si differenzia dalle precedenti gestioni come si è visto Castri al primo anno di direzione mette in fila con grande rigore tutti gli elementi che si sono accumulati nel tempo a formare un progetto di teatro pubblico esemplare manca solamente la produzione di alta qualità per cui lui stesso per la stagione successiva mette in cantiere due nuove produzioni Madame de Sade di Mishima e Borkman di Ibsen grandi produzioni con funzioni diverse da un lato la misteriosa produzione del drammaturgo giapponese nasce come uno spettacolo da tournée anche se curiosamente non è un titolo adatto ad andare in tournée e diventa l'esempio di come un teatro pubblico forte possa imporre prodotti non in linea col gusto ripetitivo e conservativo del mercato teatrale al contrario l'operazione Borkman invece assume un'altra varenza uscire dal territorio sale dello stabile per incontrare anche altri pubblici e altri luoghi della città così il capolavoro di Ibsen viene pensato per il gigantesco palcoscenico del teatro nuovo purtroppo la stagione 2001-2002 non porterà solo lo sviluppo di un'idea di teatro pubblico ma anche la sua fine fin dall'autunno cominciano i conflitti con l'assessorato della cultura e poi con il consiglio d'amministrazione al di là delle leggende di guerre tra teatranti le ragioni profonde della rottura risiedono in una diversa interpretazione del concetto di teatro pubblico da un lato quella dell'assessore per cui il teatro stabile di Torino dovrebbe diventare il luogo di attuazione operativa del sistema Torino siamo a Torino non devo spiegare cosa sia il sistema Torino dall'altro la rivendicazione da parte di Castri di un'autonomia decisionale da parte dello stabile che non essendo proprietà del Comune ma una fondazione più complessa con più soci e un forte intervento del Ministero non è tenuto a sottostare alla visione politica e a svolgere le funzioni che venivano richieste da questo principio che sembrerebbe elementare nasce un conflitto molto forte con il Consiglio d'amministrazione dello stabile c'è un tentativo di soluzione una proposta di rinnovo con un anno d'anticipo alla carica di direttore per arrivare all'Olimpiadi del 2006 ma ovviamente c'è un ma si tratterebbe di una direzione amputata non entro nei dettagli della proposta Castri evidentemente conoscendo l'uomo rifiuta e si dimette il 26 febbraio con una conferenza statica due anni dopo commenterà quando in Italia a differenza degli altri paesi europei il Consiglio d'amministrazione ha il potere di determinare la linea estetica e critica di un teatro si ha il dovere morale di piantare baracca e burattini Massimo Castri 2004 Torino è stato l'apice e anche la fine del percorso organico tra Castri e il teatro pubblico dopo quell'esperienza non ci sono più state occasioni di direzioni importanti ma neanche grandi richieste di intervento nell'ambito dei dibattiti pubblici Castri è stato un regista di indiscusso talento quindi non poteva essere espulso dal sistema teatrale ma finisce lentamente per rimanere incastrato in un ruolo quello dell'artista solitario che gli è sempre stato stretto produrrà per ancora dieci anni esatti vincendo premi e realizzando ancora grandi spettacoli ma quel bel sogno di riformare il teatro pubblico non avrà più la possibilità di essere realizzato spero di aver tracciato un percorso di Castri nel teatro pubblico con chiarezza e oggettività mi scuserete se alcuni toni sono apparsi troppo apologetici ma nella mia lunga collaborazione con Massimo ho sempre pensato che le poetiche non si possono tramandare e così il talento questa è la mia eredità l'idea che attraverso un teatro pubblico che funzioni si possa riformare il sistema teatrale e si possa tornare a partecipare alla crescita del paese grazie 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 a Marco Quini per questo ritratto molto concreto molto interessante e con delle linee particolarmente utili per la comprensione del personaggio devo dire che le parole di Castri attraverso il tempo sono quelle che il teatro italiano continua a pronunciare ancora oggi i problemi sono ahimè ancora fondamentalmente degli stessi e una vera e propria legge ancora ce l'abbiamo e quindi non possiamo che come dire metterci sulla stessa lunghezza d'onda allora invito l'amico e collega Claudio Longhi a sedersi al tavolo perché lo ringraziamo di essere qui ha trovato i treni probabilmente molto complessi per raggiungerci Claudio Longhi è professore ordinario presso il dipartimento delle arti dell'università di Bologna tra le sue pubblicazioni dedicate alla storia delle regie e dell'autore all'evoluzione della drammaturgia contemporanea al sistema teatrale italiano ma ricordiamo la drammaturgia del novecento tra romanzo e montaggio l'Orlando Furioso di Agosto Sanguinetti per Luca Ronconi Marisa Fabri lungo viaggio attraverso il teatro di regia al percorso accademico sappiamo bene che ha sempre affiancato l'impegno teatrale attivo operando prima nel campo della regia della formazione del pubblico e poi nell'ambito organizzativo negli anni novanta ha lavorato come assistente con Pizzi che ha collaborato stabilmente fino al 2002 con Luca Ronconi dal 99 ha firmato la regia di numerosi spettacoli per i maggiori teatri italiani teatro di Roma piccolo teatro di Milano teatro stabile di Torino Emilia Romagna teatro fondazione curando il dirigente al contempo a livello nazionale e internazionale prestigiosi progetti di formazione pubblica dell'attore dal 2017 al 2020 è stato il direttore artistico di Elter fondazione e dal 1 dicembre 2020 dirige il piccolo teatro di Milano teatro d'Europa ed è con piacere che gli do la Torola perché ci racconta il ritorno del rimosso castri la regia del secondo novecento grazie Alessandro grazie a tutti per la vostra presenza se lo avvicino grazie Alessandro grazie a tutti per la vostra presenza per questo momento di riflessione su una figura troppo spesso non giustamente valutata del nostro panorama teatrale un grazie agli organizzatori del convegno proprio per l'occasione che ci stanno dando e mi hanno dato in queste ultime settimane di ripensare con più accuratezza al percorso castriano chiedo scusa ai relatori della mattina ed ieri purtroppo non potevo essere presente mi dispiace e ringrazio tutti loro per il tramite di Marco per la testimonianza che ha reso e che ci ha consentito di restituire anche castri a quella bruciante attualità del rapporto del teatro con la polis che è tanta parte del suo percorso e che credo sia uno dei terreni di confronto fondamentale oggi per la crescita e lo sviluppo del linguaggio teatrale quello il mio intervento più che una ricognizione sistematica di un tema così complesso come quello del rapporto tra castri e la regia del secondo novecento sarà piuttosto una serie di riflessioni un po' arrelate che mi sono nate a margine dell'invito che mi è stato rivolto di riflettere per l'appunto su questa relazione su questo dialogo complesso tra una personalità così segnata e forte come quella di castri e lo scenario di quanto stava accadendo in italia e nel resto d'europa delle pratiche registiche sul finire del secondo novecento sul finire del novecento per l'appunto e agli albori del nuovo millennio e pensando a questa relazione mi è sorta spontanea l'immagine del ritorno del rimosso un'immagine che per certi aspetti allude suppongo che questa cosa sia già stata affrontata negli interventi che mi hanno preceduto alla pratica registica di castri alla sua indagine tra testo e sottotesto mutuata o quantomeno improntata per certi aspetti anche se questo prestito va probabilmente rivisto dalla pratica psicoanalitica del rapporto tra contenuto latente e contenuto manifesto dei sogni e che quindi rimanda anche a un certo immaginario collegato all'allergia castriana ma che al tempo stesso consente anche credo di far luce per certi aspetti sullo stesso rapporto conflittuale che Castri ha nei confronti della regia una regia a cui è per certi aspetti fatalmente evocato e che per altri aspetti quasi fisicamente rifiuta lui stesso è intervenuto a questo riguardo raccontando delle origini del suo percorso registico di questo incontro con Borsoni che credo sia stato ricordato anche da Marco nella prima parte del suo intervento quando gli viene proposto di lasciare il percorso adattore e di farsi compiutamente carico del disegno registico per un verso Castri ammette una sorta di rispetto quasi sacrale nei confronti della pratica registica e non si sente all'altezza di quella pratica e peraltro verso la rifiuta completamente alla luce di quella ricerca di uno spirito di creazione collettiva che contraddice profondamente e radicalmente l'identità autoriale forte della regia per questo parlo di rapporto contraddittorio nei confronti della pratica registica e peraltro verso proprio quella categoria di ritorno del rimosso credo ci consenta anche di avere una sorta di cartina del tornasolo o quantomeno di metafora guida per ragionare della pratica regista di quella generazione di registi che subentra a quella dei padri fondatori come in modo li definisce Meldolesi nei fondamenti del teatro italiano ed è esattamente quella generazione di regia a cui appartiene Castri e al tempo stesso di far luce sulla situazione più in generale della regia tra Italia ed Europa tra la fine del novecentro e come dicevo prima gli albori del nuovo millennio è evidente che nella sua peculiarità nei suoi forti caratteri idiosincratici il percorso di Castri intrattiene dei rapporti profondi con lo scenario registico novecentesco e segnatamente secondo novecentesco e da questo punto di vista il dialogo il rapporto con i maestri e con le figure di riferimento che stanno alle spalle dei maestri è cruciale e aiuta a comprendere credo alcuni snodi della riflessione che stava utilizzando ho parlato di maestri o comunque di figure di riferimento credo che siano tante le figure che in qualche modo segnano la proda alla regia di Castri in primo luogo Vito Pandolfi Vito Pandolfi il maestro con cui Castri compie il proprio percorso universitario all'università di Genova Vito Pandolfi che è la stessa espressione del rimosso della regia italiana se lo si colloca in quella costellazione dei padri fondatori di cui parlavo prima è evidentemente una rimozione del nostro teatro quella di Pandolfi o se vogliamo ritornare all'essico di Meldolesi un'invenzione tragicamente sprecata dal mio punto di vista del nostro teatro ed è interessante che alle origini del rapporto con la regia di Castri stia il dialogo per l'appunto con Pandolfi un Pandolfi che per certi aspetti è il tramite per la prodo parlavo prima di figure di riferimento che stanno alle spalle dei maestri con figure cruciali del paesaggio registrico novecentesco quel Brecht Artaud e Piscator che sono nuclei generativi della tesi di Castri ma anche non citati nel titolo ma importanti nello sviluppo del discorso critico di Castri i formalisti russi i formalisti russi segnano per certi aspetti il collegamento organico con quella straordinaria stagione di regia che è quella della Russia a cavallo della svolta della rivoluzione d'ottobre che vede per l'appunto la genesi dei paradigmi forti della regia teatrale del novecento ed è per l'appunto attraverso questi filtri che si elabora quella categoria di realismo prospettico che è al centro della pratica registrica di Castri e ci consente in qualche modo di correggere in senso politico quella dimensione psicanalitica di rimozione di cui parlavo prima per un verso l'analisi del rapporto tra testo e sottotesto di Castri rimanda effettivamente alla dimensione dell'analisi e della lettura freudiana del sogno ma per l'altro verso ci parla anche dello straniamento brechtiano del poliperspettivismo brechtiano che poi ha a monte la teoria formalistica schlovskiana di una rappresentazione teatrale che in qualche modo fa esplodere la dialettica del reale e di raccontare la complessità del reale attraverso il gioco della messa in prospettiva d'altra parte però proprio il rapporto con Pandolfi rimanda a un altro aspetto della biografia castriana che credo sia determinante nel comprendere la sua pratica registica che è quello del rapporto con l'attorialità penso per un verso ai trascorsi attoriali di Castri per l'appunto che sono il prodromo del suo essere regista il suo essere un attore scomodo un attore che mette in discussione la volontà del regista da lì la suggestione di Borsoni di abbandonare l'attorialità per darsi alla regia per l'appunto e dall'altra parte penso all'antologia del grande attore di Pandolfi che è per l'appunto l'altro grande filone uno degli altri grandi filoni della ricerca di Pandolfi che in qualche modo va a intrire la riflessione di Castri sullo sfondo probabilmente dovremmo tenere presente anche il rapporto tra il teatro politico in senso puro che Pandolfi in qualche modo incarna non dimentichiamoci che è a Pandolfi che si deve la prima rappresentazione per quanto è maschera dell'opera da tre soldi di Brecht e non già a Stregler come spesso si tende erroneamente a credere perché è in un saggio d'accademia degli anni 30 ancora in pieno regime fascista che Brecht arriva in Italia grazie a Pandolfi per l'appunto ma c'è anche tutto quel filone di teatro politico popolare che si innerva nell'esperienza di Certaldo e dei boccacci certaldiani di Pandolfi che affonda le proprie radici in Toscana e che credo sia un'esperienza che in qualche modo non può non avere risuonato nei dialoghi tra il maestro e l'allievo e che in qualche modo rimanda per l'appunto a un universo del teatro castriano parlavo del rapporto con l'attore mediato anche dalla figura di Pandolfi questo rapporto con l'attore e l'attorialità a un altro snodo fondamentale a mio avviso in un'esperienza che ci conduce poi a un altro maestro che è quella della comunità teatrale delle Miglia Romagna un altro laboratorio straordinario che Castri attraversa agli albori degli anni 70 siamo all'indomani del 68 della contestazione nel momento del trionfo del collettivismo delle pratiche delle cooperative il momento in cui anche Streler lascia il piccolo e vive l'esperienza del teatro e azione e dentro quel contesto matura l'incontro di Castri con l'esperienza della comunità teatrale dell'Emilia Romagna e ben presto all'interno di quel contesto Castri assume la figura dell'ideologo forte ed è in quel contesto che Castri mette a punto alcune categorie operative fondamentali che ancora una volta ci consentono di leggere la complessità della sua pratica registrica per un verso il superamento del modello dell'attore interprete dell'attore esecutore e la locuzione che usa Castri ed è estremamente significativa molto in linea con il lessico degli anni 70 ma anche estremamente interessante se la ricontestualizziamo nella pratica dell'attorialità oggi dell'attore come operatore culturale come una identità che cede quella della pura marionetta esecutrice e assume un'identità culturale completamente altra facendosi operatore che innerva il territorio e che agisce anche al di là della della pura dimensione dello spettacolo non dimentichiamoci che in quegli stessi anni anche qualche anno più avanti in Toscana si sviluppa tutto un altro fronte di ricerca in questo senso che è il laboratorio di progettazione teatrale di Prato che però pone sotto altri aspetti altre luci quegli stessi interrogativi e quelle stesse sfide quindi il superamento dell'identità attorica tradizionale non dimentichiamoci che siamo per certi aspetti se si guarda la civiltà teatrale italiana di quegli anni anche di fronte agli ultimi epigoni del cosiddetto attore funzionale di età fascista come lo definirebbe Nidolesi per andare verso l'operatore culturale per l'appunto e dall'altra parte la radicale teorizzazione del collettivo come momento fondativo della creazione quindi il superamento di un'identità autoriale forte e la ricerca di un'identità creativa multipla di un noi artistico che non è mai io e che è all'origine della dialettica castriana nei confronti dell'idea di regia è in quella sede è nel contesto della collettività della comunità teatrale dell'Emilia Romagna che Castri incontra un altro maestro che è Cobelli Cobelli che affianca in qualità di assistente alla regia Cobelli a cui tornerà anche dopo l'esperienza della comunità teatrale dell'Emilia Romagna quando si è chiusa quella parentesi quando ha già avviato un percorso registico e ritorna a Cobelli come pratica sempre in figura di assistente e il rapporto con Cobelli è un rapporto interessante che per il tramite di questo regista a sua volta anomalo che esce dalla scuola del piccolo con un'esperienza di mimo segna il rapporto con un teatro fisico con un teatro gestuale che in quegli anni significa per certi aspetti Grotowski per un verso o un'altra modalità di teatro politico che è quella del living theater che non a caso porta avanti un'altra ideologia di collettivo e un altro modello di collettività sono anche gli anni dell'affermazione del teatro di soleil della Nushkin o dell'esperienza del teatro libero di Ronconi per altro verso del teatro azione di Streller o anche della nascita per certi aspetti della prima famiglia del primo nucleo della Chaudhune all'ombra di Peter Stein quindi Cobelli insieme a Pandolfi per un verso e il mondo della collettività della comunità teatrale dell'Emilia Romagna per altro verso come ulteriore figura di confronto e di riferimento c'è una terza figura che credo valga la pena di evocare in questo caso il rapporto di Magistero è meno diretto ma comunque credo abbia avuto una una fascinazione un influsso forte sul percorso di Castri il dialogo o meglio forse lo scontro con Giuliano Scabia Giuliano Scabia è incontrato in occasione della messa in scena di scontri generali titolo già di per sé significativo ritratto della crisi della sinistra nell'autunno caldo e dopo il 68 per l'appunto testo che nasce da un progetto di creazione collettiva di Scabia che poi Scabia in qualche modo tradisce perlomeno questo è il racconto che ce ne fa Castri nella propria memoria delle prove di scontri generali rappresentando quelle prove come una teoria in interrotta di scontri generali che si sviluppa tra le prove di Brescia e il debutto alla Biennale di Venezia continuamente proprio perché gli attori rifiutano quella forte impronta autoriale che Scabia invece dà all'allestimento al di là di quelle che sono le sue dichiarazioni di intenti presentandosi alle prove avendo già un disegno di regia confezionato avendo già realizzato le maschere avendo già costruito una partitura molto fissa che in qualche modo Castri rifiuta e a detta dello stesso Castri è proprio dall'avere seguito le prove di scontri generali a Brescia che Borsoni lancia a Castri la provocazione di smettere di essere un attore scomodo un attore che rompe i piani registici e passi invece direttamente alla regia quindi da un certo punto di vista ancorché incidentale o comunque episodico il rapporto con Scabia è un rapporto importante per capire degli snodi del percorso di Castri la figura di Scabia mi interessa perché è portatrice di un'altra modalità di regia se Pandolfi aveva aperto la porta al teatro politico se Cobelli aveva aperto la porta al teatro fisico Scabia getta una luce sul rapporto profondo tra regia e drammaturgia sul rapporto con una regia che racconta una regia che affabula una regia che parte dall'alveo della drammaturgia per l'appunto e è difficile non cogliere in questo caso una sorta di prima spinta o imprinting verso quella modalità alla drammaturgia di concepire il percorso di regia castriano c'è poi una una quarta figura che credo sia importante ricordare in questa sede mi è capitato di citarla già un paio di volte nelle mie riflessioni precedenti ed è Streler nel rapporto nel racconto che castri ci consegna del suo percorso registico uno snodo fondamentale del percorso è indirettamente segnato da Streler in che senso l'avvio della pratica registica di castri si colloca per un verso sotto il segno di Boris Vian che è il primo territorio su cui il primo territorio testuale su cui affronta la pratica registica e dall'altra parte siamo appunto all'ombra di Scabia i testi frutto di una diretta drammaturgia di Castre stesso poi arriva nel 76 l'incontro con Pirandello l'incontro con Pirandello è però il frutto di un'impossibilità di arrivare a Brecht che sarebbe il primo oggetto dei desideri registici di Castri il suo intento sarebbe di mettere in scena Bals non ricordo male quell'intento non va a fondo a detta di Castri per un intervento di Streller ancora nome tutelare della gestione dell'eredità di Brecht scusate in Italia e quindi a detta di Castri è l'opposizione di Streller che impedisce a Castri di acquisire i diritti al teatro di Brescia di acquisire i diritti per la messa in scena di Brecht stesso c'è poi un secondo veto quello su Von Horvat che sarebbe la seconda opzione di Castri e soltanto in terza battuta arriva Pirandello giusto appunto come possibilità di uscita dal cul-de-sac di Leti davanti ai quali si è trovato quindi l'incarnazione una delle identità più forti della regia magistrale italiana Streller in qualche modo orienta indirettamente la pratica registrica di Castri spingendolo verso Pirandello e innescando in quel modo attraverso il meccanismo della deriva progettuale concentrica che è tipica di Castri spingendolo verso quell'analisi del dramma borghese della genesi storica delle molteplici declinazioni del dramma borghese che lo portano per via di approfondimenti successivi a individuare i filoni portanti della sua ricerca registrica ossia Pirandello per un verso Ibsen quindi l'altro modo della drammaturgia borghese per l'altro e poi andando indietro Euripide che ho sentito ricordato anche prima nelle parole di Marco e Goldoni come ulteriore snodo dell'analisi intorno al dramma borghese con tutte le diramazioni poi che si associano questa complessità di riferimenti anzi scusate il rapporto con la regia magistrale ci spinge a focalizzare quella che è la pratica registrica castriana definendo nelle peculiarità il rapporto al panorama dentro cui Castri si va a collocare per dirla sinteticamente visto che il tempo stringe in qualche modo la regia magistrale modello imperante in Italia viene riletto nella pratica castriana come regia ermeneutica come regia dell'interpretazione ed è esattamente il modo della regia ermeneutica quello attraverso il quale Castri fa fare uno scatto in avanti al modello della regia critica se si ritorna al paradigma meldolesiano di fase compiuta della regia per i padri fondatori è una regia critica che si aggiorna nei suoi strumenti ermeneutici per l'appunto al marxismo che forse il modello primo si aggiunge alla psicanalisi per l'appunto e dello strutturalismo e del formalismo e dall'altra parte quella pratica ermeneutica si completa anche della dimensione drammaturgica portando a un ulteriore scatto di avanzamento quel modello di narrazione seconda che la regia critica ha nella visione di meldolesi dovendo trarre una sorta di rapidissimo sugo manzoniano di tutta questa vicenda credo che dietro questa pluralità e costellazione di riferimenti che rimanda al sistema teatrale novecentesco che è specchio della pluralità di identità dello stesso Castri attore scomodo per un verso ricercatore e studioso mancato per un altro mancato incompiuto per un altro verso direttore di teatri stabili per altro verso in questa molteplicità di identità sta in qualche modo il segno dell'indebolimento della nozione di regia dentro Castri che spiega per certi aspetti anche la contraddizione che si può cogliere nel percorso castriano in che senso parlo di contraddizione se guardo alla teoria di Femme de Parti che segna gli albori del secondo decennio del novecento mi riferisco all'uscita di scena di Cobelli nel 2013 nel 2012 se non ricordo male di Castri nel 2013 di Ronconi nel 2015 è come se si chiudesse una stagione di regia è come se si compisse un percorso che in qualche modo segna anche la fine di una stagione di una modalità di produzione d'altra parte proprio il dopo è in effetti tutto contenuto nel percorso di Castri che già di per sé è emblema del superamento di quel modo forte tipicamente identitario di intendere la regia che è al centro di quel progetto grazie per questa interessantissima analisi e sintesi del processo della regia di Castri inserita nelle trasformazioni della regia del secondo novecento e con questa sessione si fende in questo momento e abbiamo un 15 minuti di pausa caffè al piano di sopra e riprendiamo poi alle 16 con la parte che riguarda usi della memoria oltre Castri teatro e regia oggi grazie buon pomeriggio riprendiamo i lavori con una tavola rotonda intitolata usi della memoria oltre Castri teatro e regia oggi credo che dagli interventi di queste due giornate sia emerso come il percorso di Castri come intellettuale come regista come organizzatore come uomo di teatro tutto tondo sia di fatto uno straordinario laboratorio di sperimentazione di ricerca di elaborazione ricostruzione della memoria per un verso e al tempo stesso di progettazione del futuro credo che sia giusto come nello spirito del suppongo sia nello spirito di chi ha pensato questo convegno che trattandosi di un uso di memoria e quindi della possibilità di rifunzionalizzare la memoria e di non farne semplicemente un panteon luogo di venerazione ma uno strumento concreto di uso sia importante ritornare a quel laboratorio per usare quel laboratorio al fine di comprendere l'oggi e magari anche di pensare al futuro e questa tavola rotonda ha per l'appunto questa frazione attraverso la testimonianza di chi il teatro oggi lo sta facendo sta cimentandosi in quello stesso terreno della regia per un verso del pensiero e della progettazione del teatro pubblico per l'altro verso di chi appunto oggi sta ricoprendo queste funzioni e questi ruoli arrivare a usare la memoria di castri per intenderci penso quindi che il modo più saggio di gestire questa tavola rotonda sia di iniziare con un giro di sguardi e testimonianze andrei nell'ordine previsto dal programma quindi comincerei con Andrea per un suo primo riguardo si buonasera parto dalla premessa che io non ho mai conosciuto Castel quindi diciamo se non attraverso le sue opere e i suoi scritti dai quali ho proprio oggi ho letto un'intervista molto bella che aveva fatto Sergio Oriotti nella quale diciamo io leggo in quell'intervista uno spirito politico fortissimo che è venuto fuori anche dal tuo intervento anche dal tuo di Marco Pini e questo spirito politico in questa intervista per esempio si trasmetteva attraverso l'entusiasmo che lui dice di avere nella apertura della riapertura del teatro astra che non a caso è il teatro di ora di liggo mentre era direttore dello stabile diceva in questo intervista che quello spazio gli permetteva chiaramente di diversificare di ampliare lo sguardo alla programmazione teatrale in territori più sperimentali più di ricerca ancora più di ricerca che non quanto di quanto facesse già nelle sale principali e diceva appunto che lo sforzo principale in quegli anni che lui perseguiva era la ricerca di nuovi spazi diceva appunto che i nuovi spazi sono la condizione per che un teatro pubblico possa veramente espandere il suo sguardo e programmare in un modo che sia culturalmente rilevante ora mi chiedevo rispetto a queste affermazioni se questa affermazione è ancora valida oggi e mi dicevo forse no cioè per rispondere a una battuta mi seguirebbe che oggi il problema sia gli spazi ormai sono abbastanza amplici sono tanti spazi quello che manca oggi sono i soldi e la dico con una battuta abbastanza avuta perché una delle domande che ci facevano quando mi hanno chiesto di partecipare a questo incontro era il teatro che vorrei che diciamo ovviamente rischia di essere un'esposizione di intenzioni retoriche vuote e se dovessi dire che cosa manca veramente al teatro oggi in questo momento la prima cosa che mi viene in mente ed è la più vera secondo me esercitando questo lavoro in questo periodo sono i soldi cioè sono i soldi significa che non è che ce ne siano pochi ma sono troppo pochi sempre troppo pochi rispetto al nostro bill rispetto al nostro tenore di vita rispetto alla nostra ricchezza rispetto alle vite che conduciamo sono troppo pochi c'è un dislivello che diciamo da sempre lo denunciamo da sempre tra il rapporto in percentuale con il bill che ci sono che c'è in altri paesi e quando tu ti confronti con i teatri come mi stacca parlando in questo periodo francesi per esempio ma anche tedeschi spagnoli francesi più di tutti tu arrivi lì vedi che i teatri che sono più o meno posizionati in una diciamo in una gerarchia simile al TPE che ora dirigo hanno a volte anche dieci volte le risorse per programmare e diciamo quindi gli spazi mancano secondo me non è più così certo c'è sempre bisogno di nuovi spazi ma c'è veramente bisogno che c'è una cosa che direi subito non sono se siete d'accordo ma che la cosa che veramente bisogna sono la quale tutti dovrebbero batterci ormai sì poi ci sono tutti i discorsi da fare sul come vengono spesi i soldi su quali sono i problemi del teatro italiano le riforme e sono tutti veri magari li faremo fra un po' e magari sicuramente ne parlerete meglio voi ma forse la prima cosa a mettere fuoco è quella ci sono pochi soldi e c'è l'Italia sempre di più e temo purtroppo in futuro prossimo andremo incontro ancora a riduzione 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 ora secondo me la battaglia politica vera andrebbe fatta soprattutto in quel campo poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito molto in questa intervista di Castri e in tutto il suo lavoro diciamo notavo sempre questo cioè nel suo lavoro e nella sua azione anche da programmatore teatrale e nei suoi scritti non c'è mai l'ombra della retorica che è una cosa che invece se potessi dire appunto il teatro che vorrei in futuro mi piacerebbe dire questo diciamo un teatro con i soldi sicuramente l'ho già detto ma anche un teatro in cui ci sia meno retorica che vuol dire meno retorica c'è qualcosa che secondo me un po' si è impossessato di un certo teatro del nostro mondo teatrale mi metto tra diciamo chiaramente tra i responsabili di questo problema che riguarda una no un aver perso forse contatto con la cosa non voglio dire la realtà perché appunto diciamo è retorica anche dire la parola realtà ma la cosa la cosa teatrale l'oggetto teatrale è una cosa che sento che le nuove generazioni di registi sono i più giovani i giovanissimi stanno cercando di recuperare ma che e quindi diciamo grazie a loro che dovremmo recuperare questo sforzo per sfrondare tutta questa che io chiamo retorica del teatro che è un po' insomma se è impossessata se è impossessata per esempio nei contenuti del linguaggio faccio l'esempio per cosa non sembra che stia dicendo non so se mi è mai capitato ma nel per chi frequenta il teatro c'è una categoria che mi fa impazzire che si usa spesso tra i teatranti si dice ho visto lo spettacolo era urgente e necessario ora sono sicuro che interrogati questi due concetti nascondono il vuoto perché non voglio scomodare Kierkegaard perché diceva che la vera categoria della creazione artistica non è né la necessità né la contingenza perché ovviamente sono entrambi dei mani ma mi diceva è l'occasione è il momento in cui la creazione anche attraverso il caso anche attraverso l'episodio si fa creazione artistica però adesso non voglio fare il convegno di filosofia dico soltanto che c'è qualcosa in quella retorica che nasconde un volersi proteggere un desiderio di essere protetti rispetto a volte appunto a meccanismi che non funzionano meccanismi che non funzionano nel rapporto con il pubblico non funzionano nel rapporto con le istituzioni che non funzionano nei rapporti all'interno del mondo teatrale italiano c'è qualcosa che appunto si nasconde dietro questa retorica e per esempio faccio questo esempio dello spettacolo Urgente e Necessario per dire per esempio di un film io non direi mai che un film è urgente e necessario userei altre categorie critiche che mi permetterebbero di leggere quel film o un'altra opera d'arte credo che soltanto nel nostro campo ci sia un po' questo girare un vuoto del linguaggio che sia un po' incancredito e chiudo dicendo che ci sono molti ambiti in cui questa retorica diciamo si auto protegge si compiace ed è una retorica che per esempio è un linguaggio di Castel che non trovi mai mai è sempre appunto un linguaggio in quell'intervista c'è un linguaggio diretto ai problemi diretto alle questioni diretto sui limiti che quelle questioni impongono ti impongono sul come cercare di superarli poi fallendo perché molte volte Castel è fallito come tutti falliamo però mai rifugiandosi in un discorso che fosse auto assolutorio o auto compiaciuto diciamo finisco compiere appunto un'altra delle categorie che mi sembra appunto diciamo tornino sempre in un modo che è sfuggente scivoloso anche pericoloso e per esempio quando si dice bisogna recuperare il rapporto col pubblico lì entriamo in un terreno veramente complicatissimo perché il pubblico è la categoria retorica più retorica che ci sia più misteriosa che ci sia perché il pubblico e i numeri io non credo non credo non credo che il pubblico recuperare il rapporto col pubblico non è solo recuperare il rapporto con i numeri bisogna recuperare anche il rapporto con i numeri ma non solo mi faccio sempre l'esempio diciamo e veramente chiudo del no non dico i film più belli che vedo sulle piattaforme per me sono quelli che stanno su Mubi non quelli che stanno su Netflix quanti numeri fa Mubi pochissimi ci sono i film più belli e non vuol dire che non sto dicendo attenzione che bisogna chiudere Netflix né che non bisogna fare i film e gli spettacoli per il grande pubblico però diciamo voglio dire soltanto che questa retorica del pubblico ci lascia a volte sfuggire il dato che il rapporto col pubblico non è soltanto numerico i numeri ci stanno un po' uccidendo i parametri ci stanno un po' uccidendo e dei parametri forse parlerete meglio voi che sono forse il male maggiore che noi dobbiamo tutti i giorni fronteggiare perché abbiamo dei parametri davanti che non reggono più niente non significano più niente meno soldi più parametri meno soldi più parametri sono insomma un po' di decimali mi tratto un po' triste delle cose colpevolmente non avevo presentato Andrea lasciandomi portare dal rapporto di amicizia penso anche che in realtà molti di voi lo conoscono il nome Andrea è per l'appunto il direttore del TPA di Torino e la parola adesso invece a Filippo Fonsati padrone di casa e direttore del Teatro Stabile di Torino sì direttore pro tempore forse indeniamente anche successore di Castri che come Andrea non ha avuto la fortuna e l'onore di conoscere se non attraverso la visione di alcuni suoi spettacoli dal vivo ovviamente dello studio del suo lavoro della sua opera io farò qualche osservazione in ordine sparse mi prendo una decina di minuti magari partendo da un intervento che ho già citato ieri che era appunto la relazione che anche nella sbobinatura rende l'irruenza di Castri in quel convegno dell'85 a Cagliari il teatro che vorrei sottolineando alcuni aspetti che possono essere attuali ma forse anche un po' datati e in questo forse mi pongo anche in una situazione dialetticamente opposta rispetto ad Andrea perché lo scenario è molto cambiato all'epoca Castri esprimeva come ha detto anche bene Plini una contrapposizione netta dal teatro pubblico e privato dal teatro sostanziale e il teatro di Ciro ora io credo che per i tempi che stiamo vivendo e anche dopo l'esperienza traumatica che è vissuto nel nostro pianeta il fatto stesso che la gente vada al teatro è già un fatto di per sé largamente positivo dopodiché possiamo scendere nella declinazione di quale tipo di teatro vada a vedere ma la dimensione della coesione sociale oggi è una dimensione che rivendico come prioritaria rispetto a una dimensione estetica e forse lo faccio da una posizione sbagliata come direttore di un teatro pubblico invece dovrei essere un custode del rigore estetico e della primazia del contenuto culturale rispetto alla ritualità anche sociale della partecipazione per quello che mi pongo un po' criticamente con quello che diceva Andrea perché secondo me è importante che si faccia del buon teatro ma è importante che questo teatro sia partecipato e non dico di adeguarci a quelle che sono le politiche culturali innanzitutto dell'Europa ma guardate che di qui in avanti ed è una tendenza che parte da Horizon 2020 creati di Euro e quant'altro all'Europa all'Italia ai comuni non gliene fotte più una mazza dei contenuti estetici e del progetto artistico tutto ormai si basa su parametri che sono di accessibilità di impatto sociale di SDGs di ESGs e chi ne vuole può aggiungerne per cui noi dobbiamo stare attenti a non sottovalutare l'analisi del contesto per evitare di ritrovarci in una posizione di assoluto isolamento e tengo a parlare molto schiettamente perché poi anche qua mi rendo conto di andare contro di un contesto di analisi dei temi dal punto di vista anche teorico storico filosofico metodologico e insomma tecnico se si parla troppo di teatro poi è un po' come il sesso cioè più se ne parla e meno se ne fa allora noi preferiamo farlo preferiamo dimostrare qual è la nostra idea di teatro facendolo secondo determinati criteri che secondo noi coincidono con quelle che sono le funzioni di un teatro stabile pubblico guardate non vi rubo troppo tempo ma analizziamo questo successo nel nostro teatro in questo mese di maggio noi abbiamo messo in scena quattro diversi spettacoli con il nostro nucleo artistico un direttore artistico Adelio Binasco un regista residente Filippo Dini due artisti associati che sono Leonardo Lidi e Cristal Secchini c'è una rappresentazione di diversificazione generazionale di diversificazione di genere di diversificazione di provenienza geografica diversificazione culturale e ovviamente di diversificazione estetica abbiamo fatto lavorare circa 100 artisti scritturati abbiamo incontrato circa 20.000 persone a Torino in Italia in Francia in Ungheria in Romania abbiamo credo prodotto con continuità spettacoli che sono stati apprezzati dal pubblico e credo anche dalla critica e che intrecciano in uno sguardo plurale ma con un'identità artistica molto ben precisa stili diversi che nel caso di Alessandro Serra prendono le mosse appunto da un teatro gestuale postgrottoschiano che mette l'accento sulla scrittura scenica nel caso di Christa Zecheli che travasa potentemente quel che sta sedendo in Ungheria e che forse qualche critico non l'ha ben recepito forzando la trammaturgia scelsperiana nel caso di Valerio Binasco cito Lini mi ha colpito molto travasa la fase della formazione nella fase della professione portando in scena i ragazzi della scuola e facendo rincontrare il pubblico accanto ad attori esperti nel caso di Leonardo Lini addirittura porta in scena un annaturgo dovutante di 23 anni a ciò aggiungo altre due funzioni importanti quella della scuola per attori e quella del centro studi che organizza il convegno al quale stiamo partecipando ecco io preferisco piuttosto che teorizzare quello che è un teatro pubblico e quali sono le sue funzioni raccontarvi quello che fa un teatro pubblico per cercare di mettere a terra adesso si usa io preferisco dire mettere in pratica le idee della generazione che ci ha preceduto perché se voi prendete quel che è successo questo mese al teatro Stavile di Torino e prendete la relazione di Plini e prendete ciò che ha detto Castri nel 1985 con un briciolo di presunzione e magari facendo qualche piccola forzatura vi posso dimostrare che molte delle cose che Castri auspicava stanno succedendo poi voi mi direte non necessariamente succedono in quello stesso gusto che può avere un artista solo al comando però la storia del teatro Stavile di Torino racconta che a differenza di tanti altri teatri è un teatro che ha saputo conciliare anche una visione plurale in alcune fasi della propria direzione e io credo che quello spirito diciamo che rinuncia un po' alla figura del demiurgo novecentesco che tutto può che tutto dispone che tutto dirige riesce forse ad essere inclusiva rispetto ad una visione necessaria oggi per incontrare tanti pubblici per non rinunciare al rischio culturale però nemmeno rinnegare il fatto che indubbiamente nell'esperienza teatrale c'è una dimensione di partecipazione sociale e una parola che non mi piacerà di intrattenimento che non può essere rifugita rifiutata con disprezzo o con un complesso di superiorità intellettuale continuo anche l'endoscopio degli sguardi cioè delle dialettiche a questo punto passo la parola a Isabella Lagattona co-direttrice del Festival delle Coline Torinesi buongiorno a tutte e a tutti buon pomeriggio io invece Massimo Castri non solo l'ho incontrato ma ho anche lavorato un po' con lui perché quando lui venne a dirigere il Teatro Stabile di Torino io ero una collaboratrice e il Festival aveva già cinque anni di vita e iniziava ad aprirsi all'Europa e qui mi ricollego per il teatro che vorrei perché Massimo mi affidò la gestione e l'accoglienza delle tre compagnie che prima Marco ha citato delle tre compagnie internazionali e che compagnie perché mi trovai a confrontarmi con Lev Dodin in persona preso spettacolo Gaudiamus con Peter Brook che non venne ma con la compagnia di Peter Brook e con Robert Lepage fu per me un'esperienza molto formativa perché le difficoltà che si potevano avere da quelle più banali alloggiare 30 persone in un hotel russe che arrivavano e il direttore dell'hotel mi disse alcuni sono venuti da soli e il giorno dopo comparivano mogli e i figli che non abbiamo visto entrare che erano nella stessa stanza quindi dovermi confrontare anche con diverse assolutamente diverse modalità di preparazione degli spettacoli di movimenti delle compagnie mi aiutò in quello che io stavo iniziando al festival cioè in un periodo di apertura verso l'Europa che avevo iniziato dalla Francia e che poi ha connotato in qualche modo la vita del festival delle colline torinesi fu un'esperienza molto importante che Massimo visse un po' di lato per come era il suo carattere nel senso che Dodin era una persona allegra che beveva molto che amava collocchiare e appena vedeva Castri cercava di abbracciarlo io dicevo sempre all'interprete di qualunque altra cosa e lui mi diceva non fatemelo stare vicino ma insomma fu un po' più facile con Peter Brook che non venne ma per cui non c'è fu nessun incontro e però per me invece è un incontro molto importante perché entra in contatto col suo organizzatore con cui sono in contatto ancora oggi e che per esempio premise al festival poi di invitare uno spettacolo proprio di Brook stesso con le page non c'era nessuno e quindi lui era molto sciolto e c'era Stefania Rocca che recitava e quindi Massimo addirittura lì venne a vedere le prove venne con me e fu molto amabile in quell'ultimo incontro un secondo momento sempre legato all'internazionale curioso ci riflettevo stamattina che nel mio ricordo di Castri ricordo questa apertura verso l'Europa ricordo due cose l'apertura verso l'Europa e quella verso i giovani che poi sono anche le cose che connotano in qualche modo il festival che dirigo con Sergio Ariotti cioè aprirci all'Europa ma aiutare anche i giovani artisti accompagnarli un altro momento fu la venuta di tre persone tre personalità del teatro francese a vedere una prova di Jean Gabriel Borkman io ero molto spaventata le avevo invitati ma poi mi sono resa conto che poteva essere un disastro totale se avessi beccato una giornata in cui lui era di luna storta e invece fu una bellissima giornata in cui Fabien Janel che era il direttore dell'ONDA l'ufficio che era preposto dal Ministero della Cultura a tenere rapporti Italia-Francia insieme a Giussi Tinella che conoscevo insieme niente poco di meno che a Marie Collenne del Festival d'Otom vennero a vedere le prove di Jean Gabriel Borkman andammo addirittura a cena tutti insieme e alla fine Massimo mi disse anche è stata una bella giornata era andata benissimo la prova lo spettacolo era molto piaciuto poi in realtà avevamo un doppio motivo per farli venire Walter lo sa che il giorno dopo avremmo anche fatto vedere il lavoro di un giovane regista che era oggi a di Walter Malosti organizzata ad Ibrea facendo un viaggio però certo a partire da quello adesso io penso al teatro che vorrei in un altro contesto rispetto ai teatri stabili diciamo più libero e più protetto che è quello dei festival che possono permettersi anche di sbagliare o di provare di osare di più quello che a me e che a noi è sempre interessato è proprio aprirci all'Europa perché io invece ritengo che dalla contaminazione delle arti ma anche dalla contrapposizione con altre culture può arrivare qualcosa al pubblico il pubblico il festival lo segue molto soprattutto nelle scelte più difficili questo ci ha sempre stupito e quindi cercavo di dare anche un messaggio un po' più leggero rispetto ai loro due che sono veramente testimoni di una realtà perché anche noi combattiamo tutti gli anni noi adesso lavoriamo con la fondazione TPE non soltanto per l'organizzazione ma anche nello studio e nell'ideazione del festival e ogni anno ci troviamo a combattere con dei tagli anzi in genere mentre abbiamo un'edizione che sta andando bene arriva un taglio che quindi mette le angosce però utopisticamente penso che i due segni lanciati da Massimo Cassi cioè l'apertura all'Europa e l'accompagnamento l'aiuto ai giovani siano due cose che possono aiutarci e a riportare il pubblico a teatro ma che in realtà il pubblico sta venendo a teatro ma anche a creare un dibattito insomma ad assolvere quella che era la funzione mi rifaccio sempre a lui di quello che voleva lui cioè di creare un dibattito nel pubblico e di lanciare dei fili che possono essere in qualche modo tirati da quelle due esperienze col festival siamo entrati in una rete europea che era la rete Iris io ho l'ultima cosa che ricordo una modalità di lavoro diversa dall'Italia fumo invitati ad un festival a Rennes con Sergio e arrivati lì troviamo i più importanti direttori di teatro e festival grandi piccoli tutti insieme senza nessuno snobismo intorno al tavolo che mi chiesero di parlare di uno spettacolo in francese di uno spettacolo di Emma Dante di cui erano curiosi io raccontai vita mia e vi di una cosa che non ho mai più visto tutti con dei quadernini che si segnavano quello che io dicevo e alla fine uno di loro disse faccio da capofila chi vuol fare la tournée di Emma Dante io 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 allora la facciamo in questo mese e poi dicevano questo spettacolo costa questo più viaggi più trasporti più sottotitoli tutto quello che avviene nel teatro internazionale noi eravamo assolutamente ammirati in Italia ci stiamo provando ma è molto difficile però come dice Andrea in Francia vivono molto più sereni di noi con i soldi avevano dei pagini più 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 sanno più 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 e invece sanno che hanno i soldi per farlo da noi è più difficile però insomma pertanto al secondo giro però per me volevo ritornare proprio su Massimo Castri avendolo conosciuto e avendo lavorato con lui avendo in qualche modo anche se da esterno vissuto sono andata spesso anche a vedere le prove sue la tensione sia emotiva che artistica che c'era nei suoi spettacoli difficilmente poi l'ho ritrovata dopo la parola adesso a Walter Malosti già direttore della Fondazione di PIE quindi di casa a Torino e attualmente direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione che l'ho invitato da te buonasera a tutte e a tutti in realtà io non ho preparato nulla per questo incontro vi ascoltato sarei curioso di sapere da Plini chi ha scelto quegli spettacoli stranieri cioè hai scelto i castri direttamente i Dodi di Ambrook dentro una lista c'era uno staff che gli ha invitato lui adesso non mi ricordo se è frutto sarebbe interessante perché una cosa che non ho capito in tutti questi anni io ho studiato molto Castri nonostante poi adesso vi racconto qualche cosa ma mi sarebbe piaciuto tanto sapere cosa piaceva a lui perché io non l'ho capito non ho è una domanda difficile eh infatti è difficile perché secondo me la risposta è molto facile ma la credo non lo so poi di quelli viventi credo l'ho studiato molto perché apprezzavo molto ogni mi piaceva spesso senza che strano ne dubito no no per l'ugare di vabbè vabbè i miei spettacoli io ci ero a bestemmiarlo quindi anche dei miei pesante pesantemente quando dei miei ma questa è una formale quando stava quando stava fino alla fine proprio proprio l'ultima scelta diceva questo no ma lì siamo nella normalità parte non me la preoccuperei questa è una simpatica comunque di fatto vabbè io quando quando era qui insomma non era insomma come sapete avevo una compagnia indipendente mi mantenevo facendo anche altre cose lavoravo molto con le scuole anche facevo dei progetti di formazione tra le cose che facevo era accompagnare i ragazzi a vedere degli spettacoli e poi li esaminavo con loro sotto tanti punti di vista tutte le varie drammaturgie possibili all'interno dello spettacolo la parte fisica la parte del testo eccetera li accompagnavo a capire e molto spesso lavoravo con i testi di Castri quindi ad esempio la ragione degli altri che appunto aveva rimesso in scena la gobetta era un gioiello sotto tantissimi punti di vista una diciamo un esempio proprio di nitidezza registica e di lavoro insieme agli attori formidabile credo anche erano tutti attori diciamo di una certa età credo che quello abbia insomma aiutato l'operazione anche poi l'aveva già fatto insomma era quando poi lo vedevo lavorare con gli attori più giovani almeno negli ultimi anni quando ho potuto vederlo io vedevo che aveva un pochino più di difficoltà forse anche se poi nell'ultimo progetto era molto interessante l'ultimo gentile che ha fatto era molto insomma si stava stava ritornando ma l'abbè sto facendo una digressione che non serve a niente ma nel senso che invece la mia generazione ma io in particolare io sono un po' un po' strano perché mi hanno sempre ascritto al campo della ricerca per tantissimi anni ma in realtà io sono a me piace tutto sono univoro quindi ho sempre cercato di mettere insieme i due mondi sostanzialmente cioè a partire dall'attore ottocentesco e quindi dalla regia che è nata successivamente e tutto quello che è successo nel novecento e quello che continua a succedere cerco disperatamente sempre di metterli insieme non so che è una follia ma ci provo questo mi è utile abbastanza in alcune cose quando ad esempio ho diretto la scuola ho cercato di far venire dei maestri più diversi non soltanto basandomi sui miei gusti personali che sono molto netti e tanto li conoscete tutti chi mi conosce ma cercando di dare quella che io chiamo un po' pomposamente la ricchezza delle differenze che però è davvero così cioè ad esempio sono un appassionatissimo di musica ho collezionato vinili ne avevo tantissimi poi li ho dovuti vendere man mano per mantenermi ma anche lì avevo amavo tantissimi generi ma credo che questa sia una delle chiavi del teatro che vorrei cioè vorrei un teatro molto aperto molto trasversale credo che le nostre stagioni dovrebbero aprirsi a tanti generi differenti la danza la musica in tutta Europa succede noi abbiamo dei vincoli delle leggi che solo in questi ultimi tempi si sono leggermente attutiti ma insomma è ovvio in un mondo contemporaneo come il nostro dove tutto si comunica la video arte ma dico delle stupidaggini voglio dire chiaramente potete metterci insieme in alcuni spettacoli ci sono sette otto drammaturgie quelli di Lepage bellissimi quelli più belli di Lepage di fiumi di diverse fonti che arrivano che si mescolano la musica il video la recitazione eccetera eccetera questo è quello che mi piacerebbe per il futuro cioè avere la possibilità di nei teatri pubblici di dare spazio appunto alle diverse arti ma mettendole anche in comunicazione e poi il recupero ovviamente di quello che dicevo prima di una tradizione noi arriviamo ad una tradizione attorica rilevantissima molto importante che va difesa appunto un popolizio dice che siamo un po' dei panda no? sì nel senso che però va studiata cioè non poi diciamo non fissandoci solo su alcune cose è chiarissimo che è più facile parlare della Duse di Salvini eccetera eccetera di Gustavo Modena ma invece bisogna studiare quello che è successo anche in tempi più recenti e accanto a noi lasciando da parte le idiosincrasie la parte testuale devo dire che oggi riletta un po' quegli interventi di Castri tutta quella parte legata al sottotesto è molto difficile oggi diciamo seguirla cioè nel senso che sono come mondi molto difficili però poi quando io l'ho visto fare appunto quando poi vedevo gli spettacoli molte cose erano evidenti quindi quella parte del sottotesto la trovo un po' intellettuale diciamo e trovo che anche nelle prove con gli attori da quel poco che ho insomma ho imparato perché ho imparato molto più io lavorando con gli attori ovviamente che loro lavorano con me capisco loro hanno bisogno di cose molto concrete il sottotesto è concretissimo no ma adesso possiamo discuterne è proprio una contraddizione cioè il sottotesto è concretissimo non è una recuperazione ma non volevo offendere nessuno no 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 non mi sono offeso se lo potete pensare che il sottotesto è artigianato puro questo perlomeno come ce l'ha fatto il video di Massimo lo immagino ma io sono invidioso ovviamente di non aver potuto lavorare con Massimo Casti ma è successo purtroppo è andata così anche Ronconi stesso no non lo chiamavano sottotesto ma c'era un lavoro sul testo gigantesco no che a volte può confondere secondo me gli attori cioè più che altro dopo non crea quella la grande drammaturgia la grande poesia come quella di Shakespeare secondo me poi ovviamente ognuno dice la sua ogni dice la sua per me è sempre concretissima è sempre anche nei versi vabbè ma insomma per Casti sarà la stessa cosa però suonava le mie orecchie in maniera particolare insomma a volte non è tanto quello che ma non voglio far partire una polemica su queste cose perché non mi interessa quello che diceva invece Filippo secondo me si potrebbe fare anche chiaramente cioè una mia grande ispirazione è Leo de Berardinis cioè che è riuscito a mettere insieme gran parte di quello che era accaduto no nella alla fine dell'ottocento durante il novecento e l'aveva portato diciamo attraverso quella che lui chiamava sperimentazione che per lui è una parola stupida per lui il teatro di ricerca come anche per Ronconi cioè come anche per Casti immagino cioè si ricerca sempre ovviamente però questa modalità di unire questi due mondi quindi di dare la possibilità al pubblico diciamo che poi sono delle persone è un incontro tra persone anche di vedere delle cose diciamo di un certo tipo molto diverse insomma soltanto dall'intrattenimento ma poi Filippo dice intrattenimento ma le cose che produce lui non sono sono così diciamo perché sono incontro nel gusto anche del pubblico che non è una secondo me non è una cosa cattiva anzi è una cosa molto buona no scusate con le persone con le persone poi può avvenire in diversi modi ognuno poi ha una sua progettualità ad esempio quest'anno noi a Emilio Lavagna teatro abbiamo fatto questo progetto su Pierpaolo Pasolini che apparentemente era un progetto suicida fatto soprattutto con giovani registi o anche attraverso l'alta formazione con giovani attori ebbene insomma l'area del sole si è riempita l'area del sole è un tanto molto grande ad 800 posti quindi diciamo c'è la possibilità di di fare il doppio movimento no poi chiaramente bisogna diciamo i talenti sono tutti belli da da vedere da scoprire da secondo me bisogna incominciare ecco un pochino a battere le barriere questa cosa che dicevo della trasversalità estetica deve mettersi in pari con l'altra trasversalità che è quella dei generi noi un'altra cosa che farò di alta formazione a Ert è sulla comicità cioè abbiamo delle tradizioni in Italia fortissime che vengono un po' sminuite perché sono un po' insomma ecco con la vengono trattate un po' con la puzza sotto al naso spesso ma possono stare insieme tutte queste sono diverse tradizioni della scena ecco il mio teatro del futuro vorrebbe mettere vicino tante tradizioni diverse non è giusto che sia in una tavola rotonda e in un contraddittorio credo che sia interessante fare un secondo giro di tavolo per consentire alle persone di interloquire tra loro mi inserisco come spartiacque tra i due tavoli per raccogliere alcune questioni che sono state lanciate e riraccontarle dal mio punto di vista per dare un ulteriore motivo di spunto e riflessione ai nostri allelatori il teatro che vorrei per te Andrea è un teatro che dovrebbe avere più finanziamenti cosa che è però provo a spostare la questione anche da un altro punto di vista che apre poi dei problemi di altra natura sicuramente c'è un un tema economico imprescindibile perché comunque il teatro è un'attività produttiva ricordo sempre le sacrosante parole di Squarzina quando diceva che la regia non è un'estasi dell'espirito ma un modo di produzione e su questo sono assolutamente d'accordo c'è un altro elemento però da considerare perché facciamo teatro dico perché facciamo teatro e qui rientroduco una questione che invece apre alle riflessioni sulla questione del teatro pubblico e della funzione pubblica del teatro ossia nel tipo di ragionamento che fai tu rispetto al sono necessari più finanziamenti c'è di fatto un ragionamento che ruota intorno al teatro pubblico ossia un teatro che riceve finanziamenti da enti pubblici mi chiedo quanto non dobbiamo cominciare noi a essere più consapevoli della nostra funzione e a spiegare al mondo perché esistiamo e cosa stiamo facendo che in parte mi sembra che sia qualcosa che era dentro anche la riflessione di Castri perché i soldi ce li danno perché siamo un servizio pubblico perché stiamo facendo stiamo adempiendo una funzione pubblica il problema è che non sempre è così chiara la nostra funzione e il servizio che stiamo svolgendo e conseguentemente il finanziamento diventa un atto assistenziale per fortuna e secondo me c'è bisogno di più danaro sicuramente forse c'è bisogno anche di una consapevolezza che aiuti a far arrivare più danaro da un certo punto di vista sono questioni che sollevo rispetto alle riflessioni di Filippo credo che il sistema teatrale sia un sistema almeno un sistema teatrale per come lo conosciamo adesso poi ovviamente lo potremmo rifare in milioni di nuovi diversi ma nel sistema teatrale che conosciamo adesso esiste una distinzione tra il cosiddetto teatro pubblico e il cosiddetto teatro privato con tutta una gradazione poi di grigi in mezzo di un teatro semipubblico o semiprivato se riteniamo che questo sistema possa andare avanti o debba andare avanti probabilmente ci dobbiamo interrogare sul perché esiste il teatro pubblico e il teatro privato e quali sono le funzioni dell'una e dell'altra affermano restando che è una funzione pubblica e comune alla pratica teatrale in senso lato perché comunque è una comunità che si raccoglie in un luogo e quindi è una funzione pubblica imprescindibile ma poi dentro questa funzione pubblica c'è un teatro che si colloca e agisce dentro certi ambiti e un altro teatro che si colloca e agisce dentro altri ambiti e non è credo questione di snobismo o di assunzione di atteggiamenti intellettualistici è semplicemente una considerazione funzionale perché esiste una categoria perché esiste un'altra categoria anzi a mio giudizio uno dei problemi grossi che ha il nostro sistema è l'assenza di un pensiero strutturale sulle diverse tipologie di teatri che esistono per cui ci sono parametri spesso quantitativi che distinguono gli uni dagli altri ma poi non c'è un pensiero sul perché esistono i teatri di rilevante interesse culturale perché esistono i teatri nazionali perché esistono le scene private e quali sono le logiche che governano queste singole realtà e che funzioni queste singole realtà esercitano un'ultimissima questione e poi lascio la parola agli amici per riprendere le loro riflessioni Filippo ha introdotto la categoria di intrattenimento e ha in qualche modo stigmatizzato un utilizzo strumentale della parola intrattenimento credo di aver colto il ragionamento di Filippo e peraltro di sottoscriverlo però proporrei una variazione lessicale ossia le parole si portano dietro delle storie che prescindono da noi come diceva Pirandello crediamo di parlare rimastichiamo la lingua dei morti la parola intrattenimento si porta dietro una connotazione negativa che prescinde dalla volontà di chi la usa mi chiedo se brettianamente non potremmo parlare di divertimento e sono d'accordo con brett sul fatto che ogni forma di vero teatro di insegnamento è un teatro di divertimento e che la poesia del teatro è legata al divertimento poi si tratta di capire che cosa vuol dire divertimento e come lo collochiamo ultimissima riflessione tornando alle parole di Walter rispetto alla al rapporto testo sottotesto mi vengono in mente due immagini che forse ci aiutano a sviluppare ulteriormente la riflessione su testo sottotesto concretezza del sottotesto o meno una è un'immagine meravigliosa che ci arriva dalla poesia ed è l'immagine che Omero crea raccontando il viaggio di Ulisse nell'Averno quando Ulisse dona il proprio sangue per far sì che i morti parlino e gli leggano un futuro e mi ha sempre colpito molto quell'immagine quando pensa un attore o quando pensa un lettore con questa capacità di dare il proprio sangue perché delle parole parlino e nel dare il proprio sangue si va a riempire un vuoto si va a saldare qualche cosa che è spezzato e a quel punto mi viene in mente un'altra immagine che è quella di un critico letterario Iser che parla del testo come di una serie di buchi lui li chiama Blanc se non ricordo male comunque immagina il testo come un groviera e peraltro dentro la parola testo c'è l'idea della testualità del tessuto e dell'intreccio il tessuto non è una cosa compatta è una cosa slambrata è una cosa che ha dei buchi come abitiamo quei buchi credo che il tema del sottotesto in qualche modo abbia che fare il tema della recitazione abbia in qualche modo a che fare con lo stare dentro quei buchi e trovare il modo di connettere e dare organicità a quei buchi Andrea ci sono tantissimi spunti di riflessione però diciamo parto dal mio precedente intervento per chiarirlo meglio non vorrei essere stato freinteso se dalle mie parole veniva fuori un risprezzo per il pubblico mi sono espresso bellissimo quindi faccio ammenda non è da quello che volevo dire anzi ho una considerazione pubblico gigantesca e tutti quelli che sono qui sono invitati ad abbonarsi al teatro Astra facciamo spettacoli facciamo spettacoli meravigliosi scherzi a parte voglio dire anche i miei spettacoli adesso non ho mai con Filippo ci siamo conosciuti anche lavorando insieme non ho mai messo da parte l'attenzione per il pubblico volevo dire un'altra cosa rispetto per esempio ai numeri che tu stesso ci raccontavi io gli spettacoli del mese di maggio dello stabile ho visto tutti tranne lo spettacolo di Filippo che recupererò in questi giorni quei numeri non avrebbero senso se non ci fossero gli spettacoli di grande modalità diversificati anche nelle sale che tu hai a disposizione per offrire come dire la differenza di prodotto e di sguardo voglio dire però che quindi tornando come dicevo prima quando facevo l'analogia con Netflix con Mubi mi è venuta in mente una mentre parlavate la scena di Nanni Moretti non so se avete visto l'ultimo film ma è qui la riunione con quelli di Netflix in cui gli chiedono di no gli chiedono di fare anche le parole insomma quelle cose che si devono fare a un certo punto della puntata poi si devono insomma li prendere in giro perché ovviamente quello è il meccanismo che sappiamo che funziona e se ti limiti a quel meccanismo diciamo ci sono prodotti bellissimi su Netflix io guardo Netflix non sto tutte le serie a guardare però so che lì mi aspetto quel meccanismo lo ritrovo mi rasserena mi rassicura e sono felice così vado a dormire felicissimo quando vedo i film su Mubi vedo che ci sono tanti film anche sbagliati però diciamo come dire che cercano di trovare qualcosa di nuovo si sforzano di trovare qualcosa di nuovo quindi sto parlando del cinema appunto per togliere il campo del teatro per fare questo appunto l'esempio che mai mai mi bisogneriai di dispensare il pubblico né di mettermi in una posizione super evidente del tuo quindi questo riguardo appunto forse all'equivoco che si è creato penso soltanto che appunto ecco la retorica del numero quello credo che ci sia quella credo che ci sia cioè se il numero se il pubblico inteso come valore numerico diventasse e ripeto non sto parlando né di lo stabile né di Netflix diciamo se un po' purtroppo nella nostra cultura diciamo teatrale si è insinuato quel mito del numero e allora io dico no io dico no cioè c'è bisogno anche come dire a volte di non cercare il numero perché se cerchi sempre il numero sbagli ti appiattisci diventa appunto tutto uguale ora la serie ti usa bellissima però più o meno perché individua il meccanismo lo vedi che c'è sempre lo stesso meccanismo che l'animoretti infatti prende in giro ora il film di l'animoretti non so che cosa ne pensiate è un film assurdo sbagliato cioè sgrammaticato senza bellissimo meraviglioso e a me non piace diciamo sempre moretti però sto film mi ha commosso perché appunto va contro tutte le regole se ne frega insomma c'è bisogno di qualcuno che faccia film così se no facciamo tutti i film col cliffhanger col colpo di scena con la rimonta sai chiunque che studia colpo di sceneggiatura cinematografica riconosce per meccanismo ma mai ripeti proprio stanno sempre lì volevo dire un'ultima cosa e poi lascio la parola a Filippo e io cerco ancora un po' di estasi nella regia non quando la faccio perché magari ci riuscissi ma quando la vedo sì cioè io mi sono ho provato delle estasi guardando il lavoro artistico di certi registi non è soltanto un modo di produzione mi spiace io non lo faccio per quello perché nella mia vita io ho provato delle esperienze di estasi che erano legate alla regia erano legate molte altre volte in molti altri casi per esempio agli attori non sto dicendo che il regista da solo faccia procuri l'estasi però certe volte lo so che proprio era il regista che mi stava facendo condattando l'estasi e se non ci fosse stato quel regista gli attori per quanto bravi o il testo per quanto bello non ci sa viceversa appunto ci può essere un cattivo regista bravissimi attori e l'estasi la proprio è lo stesso però voglio dire un regista non è soltanto quello che la regia non è soltanto un ruolo se ho capito bene le parole grazie un critico autorevolissimo un didatta stimatissimo che non c'è più purtroppo quando qualche anno fa Valerio Binasco decise di inaugurare la stagione con noise off il ruolo di scena di frame gridò allo scandalo scrisse ma come è possibile che un teatro nazionale possa aprire una stagione con un lavoro tale in quegli stessi mesi Martaler metteva in scena la Bischel a Basilea e Martin Cugley che è uno dei più rigorosi e punitivi registi europei trasferendosi dalla Residence Theater al Burtheater di cui era intendante una produzione si è portato con sé noise off rumori fuori scena io non mi scandalizzo quindi di trovare un feido nella stagione prossima di Claudio Longhi non mi scandalizzo di trovare Claudio Bisio nelle stagioni scorse di Claudio Longhi che fa Zellini TV non mi scandalizzo di trovare nei prossimi mesi al piccolo Slava Snow Show che qui a Torino ci ricordiamo da vent'anni è poesia ma è anche divertimento è intrattimento chiamatelo come volete eppure cosa dobbiamo dire che Claudio Longhi fa del teatro di intrattenimento semplicemente la mia provocazione era questa che talvolta quando si ragiona per schemi manichei e questo forse faceva parte anche della dialettica di Castri che io non ho conosciuto contrapponendo dei meccanismi si perdono certe sfumature si perde la rappresentazione del reale che è infinitamente più variegata perché prevale un approccio ideologico quindi sicuramente non c'è retorica nelle parole di Castri molto probabilmente c'è ideologia allora in una fase in cui le ideologie scricchiano perché sulle ideologie purtroppo si sono combattute anche tante guerre e se ne continuano a combattere sul pregiudizio sulla contrapposizione manichea io credo che una tolleranza estetica sia comunque un modo politico di includere di accogliere pubblici diversi e persone diverse perché come vi dicevo la prima vittoria di chi fa teatro è che la gente venga al teatro che la gente preferisca incontrarsi socializzare in una dinamica che il Claudio secondo me ha definito in maniera piena di grazia un'arte di relazione in presenza quindi la presenza direi che è la cosa più importante subito dopo viene la relazione e al terzo posto viene l'arte per me questa è la gerarchia dell'atto teatrale dopodiché se l'atto teatrale è un testo teatrale quella è letteratura e però non dobbiamo metterci ad adorare dei feticci perché l'opera parlo del melodramma a forza di adorare i feticci avrà una platea di ascoltatori ottoagenari non urla contro gli ottoagenari perché l'ossessione filologica suboterà la capacità dell'opera di dialogare dinamicamente con la società contemporanea viva Dio il concetto di filologia esiste nell'università per quanto riguarda il teatro di prosa ma non esiste nei teatri e questa mancanza di ossessione filologica consente ai testi teatrali di essere infinitamente più vivi e capaci di dialogare e interpretare la contemporaneità per me il discorso è un po' diverso perché come dicevo prima un festival per sua stessa natura è più libero e più protetto ha una piccola missione noi ci siamo sempre dati la missione di avere un progetto coerente e di accompagnare gli artisti e il pubblico verso un incontro propriamente è più facile che il pubblico vada nel la parola stessa festival libera molto la mente dicono vabbè vado al festival vedo delle cose a volte più leggere a volte più pesanti non è sempre così abbiamo appena presentato il programma di quest'anno e qualcuno mi ha detto ah ma qualcosa un po' più divertente proprio non la mettete mai voi alle colline in realtà per quanto ci riguarda il pubblico premia invece l'identità di un progetto noi quest'anno lo dedichiamo ai profughi ai migranti ma anche in qualche modo all'accessibilità abbiamo introdotto due spettacoli accessibili per sordi e per non vedenti uno internazionale e uno italiano e come dire mi rendo conto di come il pubblico viva diversamente un festival per esempio dal fatto che quando finiscono gli spettacoli la gente rimane molto si sente più libera di parlare con gli artisti di parlare con noi noi lo seguiamo da sempre siamo alla 28esima edizione e vengono anche a dirci quando le cose non piacciono però ci hanno sempre riconosciuto la coerenza di un progetto è vero che un festival ha meno obblighi di numeri ha meno obblighi di parametri adesso poi che ci appoggiamo alla fondazione di Pia e poi la fondazione che ce li ha prima quando eravamo indipendenti li avevamo anche noi però in modo molto diverso quindi mi è più difficile rispondere a queste se non che io sono certa che tenendo un'alternanza delle due cose cioè un profilo alto a noi ha pagato moltissimo negli ultimi anni la contaminazione fra le arti il rapporto con la fondazione MERS che stiamo portando avanti un rapporto a tre ma anche il rapporto col teatro stabile per presentare Castellucci che non è propriamente un regista facile fra virgolette vengono visti dal pubblico come un tentativo di aprirsi di in qualche modo inglobare anche loro in un progetto sono più ottimista però di voi perché è in una situazione molto diversa un'altra parte come un'altra parte insomma queste due cose che me l'ho dimenticato ma sicuramente insomma sono innanzitutto questa idea di comunità il problema è che poi ogni teatro, ogni città è diversa e quindi bisognerebbe come mi aveva detto una volta a Ronconi anche se non sembrerebbe così ma che lui faceva i programmi, sceglieva i testi da affrontare i progetti a seconda del luogo in cui lui stava per incardinarsi nel tessuto cittadino credo che questa sia un'altra delle cose importanti non soltanto il proprio progetto artistico ma anche sentire l'anima del luogo che esiste non c'è niente da fare e l'altra cosa legata sempre a questo aspetto del luogo è il teatro che diventa una casa che diventa la casa dei cittadini quello che stiamo cercando di fare ha già iniziato naturalmente anche Claudio che penso abbia la stessa idea di fare diventare luoghi che io ero un ragazzo di una famiglia molto povera quindi quando mi avvicinavo ai luoghi audici quando ero giovane provavo un imbarazzo notevole cioè non entravo se da ragazzo avessi visto il circolo dei lettori non ci sarei mai entrato che mi imbarazzava e così anche il teatro sono andato a teatro molto tardi bisogna invece in qualche modo lasciare questi teatri aperti innanzitutto in modo che i ragazzi a Bologna succeda un pochino così perché abbiamo questa fortuna di avere un chiostro meraviglioso di fine Quattrocento quindi vengono lì a studiare il pubblico incontra gli artisti dopo come accade in molti teatri europei credo che questo sia un pensiero molto importante cioè di far sentire e questo ha a che fare molto con l'acquisizione di nuovo pubblico di far sentire questi luoghi non come luoghi così chiusi ma come luoghi aperti a tutti non è facile non è facile per tantissimi motivi quindi è un doppio movimento bisogna andare fuori del territorio a lavorare e nel suo tempo però insieme a quel lavoro sul territorio anche qui a Torino era stato un must diciamo il laboratorio non gli anni 60 e 70 un laboratorio formidabile rispetto a questo e invece anche secondo me riportare le persone anche dentro il teatro cioè far in qualche modo entrare e vedere qualcosa di verticale qualcosa di non destinato in qualche modo apposta per un certo tipo di pubblico ma fare delle proposte che tutti possono Brucco usava questa metafora della porta aperta che secondo me è facilissima e semplice cioè qualsiasi spettacolo anche il più complicato il più misterico e il più sacro come anche quelli che abbiamo spettato di Angelica Liddell che è un'artista meravigliosa appunto sacra sembra che eri Vidionis in scena devono lasciare una porta aperta devono permettere alle persone che sono con noi dentro ad un teatro di diventare comunità l'altra ultima cosa che volevo dire è che io sono un po' un dinosauro nel senso che io mi considero erede di quella tradizione dell'energia critica nessuno lo vuole capire però io mi sento profondamente erede dei Casti, dei Ronconi e di Strader credo che sia un valore importante che in questo momento si sta un po' diciamo deteriorando sotto tanti punti di vista anche nelle analisi critiche è uno dei nostri grandi valori italiani e che andrebbe recuperato io invece vorrei chiedere una cosa a Claudio Claudio ha innescato una rivoluzione copernicana invece per la storia del più importante teatro stabile italiano è uno dei più importanti d'Europa perché ha rovesciato una tradizione di grandi maestri dei miurghi che lo hanno guidato ha fatto due, tre, quattro, cinque passi indietro e ha consegnato invece la prima linea a una generazione di drammaturghi a una generazione di registi ai quali ha assegnato una responsabilità enorme con tutto lo sforzo di proteggerli nel prendersi questa scena così pesante con delle aspettative così forti ecco, allora chiederei a lui qual è il teatro che ti piacerebbe al di là di quanto non ci hai dimostrato presentando la tua vera seconda stagione proprio ieri il teatro che vorrei è un teatro intanto credo che sia importante come forse accennava Walter nel suo ultimo intervento non credo che esista un teatro in assoluto una forma teatrale in assoluto o un'idea di teatro in assoluto ideale ma che il modello o l'utopia vada calata concretamente in un corretto nel senso che il teatro deve necessariamente è espressione di una città e deve necessariamente dialogare con con quella comunità di riferimento sia essa la città sia essa una comunità più vasta come una regione o sia essa una comunità nazionale però va contestualizzato in un tempo e in un luogo il teatro che vorrei adesso è un teatro che si faccia carico delle trasformazioni che la città sta attraversando perché la nostra idea di città è profondamente cambiata in questi ultimi decenni e c'è stata un'accelerazione di questo cambiamento negli ultimi anni è cambiata la nostra percezione dello spazio pubblico dello spazio privato del rapporto tra dentro e fuori sono cambiate tante cose e il teatro deve dialogare con questi cambiamenti e in qualche modo o assecondarli o precorrerli o consentire di immaginare delle soluzioni che poi saggiare delle soluzioni che poi si possono lasciare cadere è un teatro che credo si debba fare carico di raccontare delle storie raccontare delle storie come tentativo di mettere ordine nel caos della realtà di creare dei messi e delle mappe per immaginare dei futuri possibili le storie non necessariamente devono essere storie nuove di per sé ma devono essere storie che dialogano con con il presente perché il teatro si dà nella nella presenza credo che sia un teatro che deve imparare a dire noi a un po' alzare lo sguardo dal proprio ambelico e guardarsi intorno e dialogare con con quello che sta intorno e si deve saldare con con la società nel nel suo complesso e nelle nelle sue articolazioni e credo soprattutto che in questo momento il teatro si debba fare carico di interpretare la la sua funzione pubblica legata al progetto di presenza in cui mi mi riconosco molto e di comunità e di modello di organizzazione di un di un pensiero democratico credo che il teatro sia il luogo dove si rappresenta la relazione intersoggettiva lo stare insieme lo scontro tra tra i punti di vista e la conflittualità e ci serva a capire le dinamiche della conflittualità del dibattito della dello scambio dei punti di vista credo che sia un teatro che debba riflettere si è parlato di apertura all'Europa di intuizione dell'importanza dell'Europa nel percorso castriano credo che questa idea di Europa sia un'idea che va in qualche modo difesa rimessa al centro delle nostre pratiche non mi sto riferendo necessariamente all'internazionalizzazione mi riferisco proprio al dialogo tra tra le culture e i punti di vista perché penso che il teatro sia stato un luogo fondativo dell'identità europea in fondo il nostro essere europei è profondamente radicato alla frequentazione di un teatro di un repertorio teatrale l'Europa tra le altre cose è un sistema di valori che abbiamo conquistato con svariati secoli di guerre che ci ha consegnato per l'appunto un sistema di valori e credo che il teatro debba essere il teatro che vorrei è un teatro che sia baluardo di quel sistema di valori che incarna l'Europa con tutte le nefandezze di cui l'Europa è stata capace ma che poi in qualche modo sono state metabolizzate e hanno portato a riconoscere dei principi che credo si debbano difendere e vorrei che il teatro difendesse questi principi un soffio di minuti ancora per chiedere se a fronte delle tante cose che sono state dette ci sono delle questioni o delle domande da parte del pubblico che non mi conosce io sono teatro grazie no 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 grazie no volevo solo porre un attimo l'attenzione sulla sulla questione dei soldi mi è piaciuto la scherpezza il teatro ha bisogno di soldi infatti poi questa affermazione mi ha trovato tutti d'accordo e noi con voi però come dice Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo dire c'è bisogno di soldi ci sono pochi soldi è limitativo come dice Aldo nel senso che la riflessione va fatta se se è così è e così è va fatta anche su come questi soldi vengono gestiti allora io ovviamente non è un altro racconto ci mancherebbe altro ma in tanti anni da scritturato quindi da colui come la maggior parte degli scritturati che ci sono qui colui che ha rischio ogni giorno non dell'anno solare ma della stagione di attravo e ha rischio ogni giorno di essere messo da parte perché può chiedere 5 euro 3 euro in più non 500 mila quindi noi siamo costantemente a rischio e questo è già il primo il primo diciamo punto di crisi sulla gestione dei soldi perché gli attori e soprattutto la categoria degli attori deve essere sempre a rischio mettendo a dura prova le nostre coloranze man mano che si va avanti negli anni perché io iniziato avevo 22 e adesso sono i 60 e non è cambiato niente per me da questo punto di vista si parlava della Francia a un certo punto loro dicono più 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 dicono più 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 però uguale quello dopo l'uguale c'è una cifra che se non viene rispettata dall'esperienza che ho avuto io in Francia una volta sopra quindi ero pagato da una produzione francese teatro se quel più quel topo uguale non corrisponde a quel più più che loro hanno fatto salta qualche meccanismo in Italia questo almeno per le esperienze che io ci sono sempre degli sforamenti di base c'è una richiesta costante al settore artistico di evitare di chiedere aumenti l'anno prossimo però ti dobbiamo dare un po' di meno eccetera eccetera adesso lo sto semplificando e poi nello stesso tempo viene a sapere come dato oggettivo reale che ci sono stati degli aumenti negli uffici amministrativi e non sono io credo che quei soldi sono anche i soldi che andrebbero a finanziare uno spettacolo quindi è vero ci sono pochi soldi però come vengono distribuiti questi soldi e nella nostra storia più o meno recente sappiamo tutti poi non ce lo diciamo sappiamo tutti che dei grandi sprechi sono stati fatti sapendo benissimo che l'Italia è uno di quei paesi in Europa che ha meno finanziamenti per la cultura degli altri eppure eppure si è speso a dismisura ecco io volevo solo solo dire questo no volevo dire un'altra ma un'altra piccola cosa non sul sotto testo no va bene non mi viene più niente grazie se posso dire appunto scusa Sergio sul conto devo dire una cosa non in risposta penso dal mio punto di vista diciamo c'è sicuramente anche una questione di come vengono spesi i soldi ma è una questione enorme di cui non possiamo sicuramente parlare ma sulla quale io anche devo dire c'ho messo una pietra sopra nel senso che da quando faccio teatro ormai da tanti nel po' di anni si dice questa cosa no bisognerebbe spendere meglio secondo me ancora si spendono meglio voglio dire la mia sensazione è che è migliorato un po' il mondo il modo in cui si spendono i soldi decisamente migliorato ma questo non risolve il problema degli attori di molti attori che io conosco non conosco te ma ne conosco tanti che soffrono e soffrono davvero allora per questo mi sono fatto questa idea che è molto mistica lo so l'unica soluzione è più soldi perché anche in Francia si spendono male attenzione non è che i francesi li spendono bene cioè loro ne hanno più quello è un puntaggio enorme hanno un rapporto tra il PIL e come si diceva tra la spesa per la cultura rispetto al PIL che è molto più grande del nostro e allora è chiaro che pur spendendoli male hanno tutta una serie di garanzie di agevolazione di tranquillità forse un po' troppo ma insomma sicuramente molto più che gli attori d'Italia per questo dico più soldi per tutti volevo dire una nota piccola perché tutto quello che abbiamo sentito è stato straordinario alla chiusura di queste due grazie alla chiusura di queste due giornate ci portiamo a casa davvero tanto pensiero volevo dire che arleggiavano due fantasmi ieri e oggi ieri il fantasma del regista Ermeneuta in relazione al dramaturg è stata una piccola polemica che si è innescata e oggi è venuto fuori ma lo sapevo il sottotesto che insomma è un modello culturale su cui ci siamo formati un po' tutti e che secondo me ha pure il diritto di esistere ancora se qualcuno lo sa davvero trovare interpretare ma detto questo volevo invece dire un'ultima cosa che è una specie di parafrasi indegna brecchiana più delle cose che ho sentito dire oggi io credo che sia importante la zuppa la zuppa non la trovate nei teatri italiani cioè nei teatri italiani è molto difficile che ci sia la possibilità per il pubblico e per gli attori che si confrontano su temi importanti di mangiare spesso lo si può fare prima ma si corrono grandi rischi perché poi c'è la biocco se tu mangi prima poi la capuzella no e le cose bisogna riuscire a farlo prima e dopo quando sono andato a Vidiper la prima volta ho visto che c'era un piccolo ristorante collegato a questa meravigliosa serie di teatri che hanno loro altro che soldi francesi lì soldi svizzero che sono ancora più significativi bene c'era questo posto dove la gente andava a mangiare prendeva generalmente delle zuppe e c'erano dei tavoli quella cosa lì io non ve la dimenticherò mai c'erano dei tavoli dove degli immigrati italiani giocavano a carte ecco l'idea del teatro per il futuro è anche questa la zuppa e la possibilità di stare in un posto senza che venga una maschera a dire abbiamo finito andate grazie buonasera volevo fare quest'intervento per esprimere personalmente si sente? sono un allievo attore mi chiamo Michelangelo sono allievo attore della civica Paolo Grassi secondo anno studio citazione penso che personalmente sono rimasto un po' deluso da questa tavola rotonda che ho ascoltato perché il titolo mi interessava in qualche modo il teatro che vorrei e allora mi immaginavo certi tipi di interventi o di argomentazioni messe effettivamente in tavola che però non ci sono state personalmente ho visto mi scusi ma ho visto un apologetico ognuno difendeva la propria arte il proprio mestiere in qualche modo e il proprio lavoro soprattutto ognuno il proprio recente lavoro come se fosse uno scusarsi un difendersi personale e soprattutto la difesa dello stato delle cose attuali non la messa in discussione e mi domando su tre punti delle cose non ha un senso costruttivo il mio intervento ma solo un senso di domande no poco delle domande perché mi sono suscitate delle domande mi domando innanzitutto se il fatto teatrale come evento di spettacolo dal vivo sia un fatto naturale come lo viviamo noi oggi cioè in questa Tava Lotonda non si è messo minimamente in discussione la naturalità del fatto teatrale borghese e chibetiale anzi lo prendiamo come un fatto naturale che l'evento teatrale come spettacolo dal vivo sia una cosa che abbia senso in questo momento e in che forma abbia senso pensiamo tutto sommato che le forme nostre siano saturate e mi domando se è così la seconda cosa che mi domando è parliamo di Europa e di aprire allo sguardo europeo ma tutto sommato nella mia scarsa formazione mi domando ma tutto sommato le esperienze europee e comunque teatrali occidentali non sono assolutamente conformi in questo momento io le percepisco tali in quanto forse non mettono proprio in discussione questo la naturalità del fatto teatrale come lo vediamo oggi e terza considerazione che mi viene da fare siamo ancora davvero per quanto riguarda il pubblico siamo ancora davvero nella dialettica solamente che o c'è il pubblico di nicchia o c'è il pubblico di canale 5 cioè portare il pubblico a teatro è per forza l'unica via è per forza perlusconizzare il teatro queste sono le mie domande ma scusate intervengo un attimo nessuno ha parlato di perlusconizzare il teatro dopodiché lei parte lei parte dal presupposto che certo lei parte la dialettica anche su Netflix movie ah ho capito no perché è stato nominato per lo studio adesso non volevo dire questa parola ma devo dire semplicemente che non capisco questo campo così ristretto che il teatro popolare è quasi televisivo con quel pubblico di intrattenimento ma no non credo che l'abbiamo detto non l'abbiamo detto forse ha capito male no io quello che dico vabbè partiamo dal presupposto che per lei il conformismo è insomma un fattore negativo critico bene o male insomma la società è di per sé un grande conformismo noi con quella dobbiamo rapportarci e credo che tra le persone sedute attorno a questo tavolo più o meno vediamo insomma dico decine forse sopra le centinaia di spettacoli europei no e posso dirvi che la qualità media del teatro italiano non sia poi tanto peggio della qualità media del teatro europeo cioè non tutto è oro ciò che luccica io nel discorso dopo aver visto uno spettacolo con Sergio Isabella al Teatro Nazionale della Collina ho pranzato con Wade Mowat che mi diceva che il governatore di Ronalp che è un repubblicano ha tagliato i contributi pesantemente a tutti i teatri della regione Ronalp a partire da Lione che è una città invece in mano agli ambientalisti hanno dovuto interrompere la stagione d'opera quindi insomma dobbiamo stare attenti il modello del teatro di ensemble che quella stabilità non soltanto intesa come stabilità di funzione pubblica ma evocata anche da Castri è ricordata prima nella relazione affettuosa che è stata fatta è un teatro che prima o poi andrà in crisi Joachim Lux uno dei più grandi dramaturgo europei che dirige l'Italia di Hamburgo dice probabilmente il modello del teatro postmoderno andrà in crisi così come l'ensemble e qua mi ricollego a quello che diceva Andrea Claudio fa lavorare il dramaturge e in questo siamo tutti deficitari tranne lui ma oggi decidere di fare il dramaturge vuol dire fare la fame Netflix Amazon Sky hanno delle writing rooms che assumono decine e decine di giovani scrittori stipendiandoli per scrivere sceneggiature per non parlare di tutta la key fiction in Corea che è diventata un'industria gli attori tedeschi più bravi di tutto il mondo che parla tedesco quindi svizzeri austriaci e tedeschi i più bravi non stanno più negli ensemble perché preferiscono fare cinema fare serie tv è molto più remunerativo e quindi mettono in crisi il sistema di ensemble rispetto al nostro on-suite perché non danno più quella continuità di disponibilità necessaria da sviluppare quel modello allora quando lei punta insomma il dito addosso alla nostra autocelebrazione io non credo che ci fosse un tono autocelebrativo diciamo che tutti credo almeno le persone sedute intorno a questo tavolo cercano di profondere il massimo sforzo per ottenere tutto ciò che si può mettendo gli artisti al centro prima Plini parlava di quanto Castri in questa città sia stato messo in crisi dal contesto politico e beh una delle cose più faticose che un direttore di un teatro deve fare oggi è preservare l'indipendenza dell'istituzione prima Plini lo rivendicava dalle ingerenze della politica ovvio che la politica è un interlocutore fondamentale uno stakeholder un portatore di interesse che indirizza anche le nostre funzioni ma è giusto che l'artista possa muoversi con grandissima indipendenza e la responsabilità del direttore garantire questa indipendenza poi io credo che vi siano margini di miglioramento ma contesto un po' quello che lei ci accusa di aver fatto cioè di aver parlato dei nostri modelli come i migliori modelli possibili sono modelli che cercano di tenere insieme tanti fattori esterni di condizionamento molto più di quanto voi non possiate immaginare molto più di quanto voi non possiate immaginare perché purtroppo c'è un apparato burocratico sempre più asfissiante c'è un contesto che ha un riflesso domestico gli incari energetici che si riflette in maniera potente sulle nostre strutture le risorse sono sempre quelle e noi dobbiamo cercare dei compromessi per salvaguardare la priorità diciamo dell'artista per cui insomma se abbiamo dato l'impressione di avere toni autocelebrativi mi spiace perché non credo fosse questo l'intendimento ecco e la mia domanda invece che teatro vorrebbe lei perché anche sempre come dicevo di Castri dei suoi gusti io in realtà forse sono qui e ho fatto questo intervento proprio perché sto cercando il teatro che voglio io no di sicuro vedo il teatro che non vorrei e da qualche parte io penso non sto dicendo appunto io mi sto mettendo in questo momento nella mia formazione personale e teatrale sto mettendo proprio in discussione queste cose per esempio il fatto scenico è una cosa naturale non lo so non lo so comunque non capisco cosa voglio dire ci dovrebbe spiegare perché ne parliamo ma cosa vuol dire il fatto scenico naturale o no non capisco no no perché sento parlare del teatro effettivamente io stesso studio teatro e quindi per me il fatto scenico tutto sommato è una cosa naturale quella comunicazione lì è una comunicazione naturale però forse perché l'ho dato per scontato per un sacco di tempo e forse perché lo stiamo dando per scontato allora per esempio sto mettendo anche con me stessi in discussione questa cosa è un fatto naturale questa modalità comunicativa in presenza con delle persone mi è piaciuta la definizione di nonchi io penso la bella da lei adesso non nonchi nonchi sì e no questo fatto in presenza però è una cosa diciamo piuttosto antica perché era un fatto antico era un'assemblea diciamo che quella cosa della presenza è fondamentale è stata fondamentale nella ripresa dopo il covid per le persone è stata a quel periodo lì pensare ma io non ce l'ho più in indiesa ok è solo per sapere però tante domande però deve fare come Casti deve fare lei come Casti diceva ma fai tu allora bisogna fare così anche io ho fatto così tu ti facciano certo io non so se ho capito fino in fondo la tua domanda però posso cercare di dare una risposta per quello che mi è arrivato non so quanto sia pertinente utilizzare l'aggettivo naturale credo che ci sia una sorta di naturale inclinazione c'è stata anche tutta una riflessione in ambito neuroscientifico rispetto ai neuroni specchio quindi a una sorta di impianto genetico che ci abitua all'imitazione quindi ci abitua tutto sommato a una pratica teatrale adesso sto andando veramente con la falce sono discorsi estremamente complicati però credo che ci sia una naturale inclinazione a individuare uno spazio in cui ci si incontra per capire che cosa vuol dire stare insieme e credo che questo sia il teatro una macchina attraverso la quale un dispositivo attraverso la quale tu capisci che cosa vuol dire stare insieme che problemi dà che conflitti crea come si risolvono i conflitti poi questa cosa come cercavo di dire prima ha attraversato dei tempi e degli spazi e è precipitata in modelli che non sono per niente naturali ma che sono propri di un tempo e di uno spazio c'è stato un momento in cui il drama borghese era il modello di concezione del mondo di fruizione del mondo che è precipitato anche in un'architettura teatrale probabilmente quel modello adesso non corrisponde più alla realtà e quindi c'è una naturale inclinazione che si sedimenta dentro comportamenti e pratiche che sono invece storicamente determinate e dipendono da lì che ti trovi dalla situazione in cui sei per quello che riguarda la questione dell'Europa credo che ci sia una si siano sviluppate in Europa delle tradizioni teatrali delle modalità delle attitudini la drammaturgia francese ha una sua connotazione la drammaturgia inglese ha una sua connotazione la drammaturgia tedesca ha una sua connotazione ci sono delle tradizioni ci sono delle tradizioni che si sono contaminate quando prima parlavo del teatro come luogo fondativo dell'identità europea una cosa che tutte le volte mi commuove profondamente è pensare al mito di Don Giovanni che nasce in Spagna arriva nell'Italia meridionale attraverso la dominazione spagnola poi i comici dell'arte lo portano a Parigi lo vede Molière poi ritorna rimbalza sugli italiani Condaponte Mozart lo reinterpreta e l'Europa è quella roba lì è il dialogo che si è creato ed è quella cosa strana per cui vado a teatro in un certo tipo di teatro vedo una signora in scena che si chiama Irina e non è che è una cosa che me la fa sentire stranea perché fa parte di un bagaglio identitario quindi ci sono delle differenze c'è un dialogo tu prima stavi parlando adesso probabilmente uso una parola sbagliata di omologazione europea c'è un dato che mi colpisce molto è stato da poco da un anno durante due anni nominato il nuovo direttore del festival di Avignone ed è un portoghese hanno nominato la nuova direttrice del festival d'Oton ed è un'italiana noi stiamo un po' facendo la guerra ai sovrintendenti stranieri è un altro capitolo ancora è omologazione quella secondo me è un dialogo e fa parte di quella identità europea che io credo esista esiste qualche cosa per cui quando sei a Oslo o quando sei a Mosca capisci di essere da un'altra parte ma senti che c'è anche qualche cosa di comune e quando sei a Pechino invece perdi qualche punto di orientamento non penso che sia omologazione penso che sia un dialogo culturale quello che l'Europa ci dovrebbe aver insegnato è che si può essere diversi che si possano avere 28 lingue diverse però alla fine si riesce anche a parlare e tutto sommato ci si mette anche d'accordo su quali sono i valori prioritari e credo che ci fa bene dialogare con l'Europa non è esterofilia Filippo Prima è stato buono dicendo che il teatro italiano non sfigura davanti al teatro internazionale secondo me è anche molto peggio del teatro italiano tante cose che ho visto all'estero ma non è la questione della qualità del bello del brutto è la questione dell'apertura e del dialogo del farsi mettere in discussione da un altro modo di guardare le cose la terza questione non mi ricordo quale fosse Nicchia sul pubblico secondo me il problema è continuare ad andare appressa alla dicotomia è appunto in realtà io intendevo quello infatti volevo precisare io non volevo dire che è stato affrontato questo tema non è che avete parlato di interlusconizzazione del teatro scusate dell'estero intendevo dire intendevo dire che è proprio lì spesso la dialettica è proprio su quella di fotomia come se esistesse solo quelle due vie soprattutto perché non esiste il pubblico esistono i pubblici esistono gli spettatori esiste una pluralità di punti di vista finché ci si incista in contrapposizioni non ha granché senso non credo che fosse l'intenzione di nessuno delle persone presenti a questo tavolo di andare in quella contrapposizione però in generale credo che la questione sia di scastrarsi da quella polemica a cui invece non credo che fosse nell'intenzione delle persone che erano sedute a questo tavolo ma a cui invece spesso viene ricondotta la cultura di mettersi su quel territorio lì no quello è proprio un territorio sbagliato grazie a questo punto lascerei la parola a Federica e altre voci al gruppo certo al gruppo di Castri coraggio gruppo Castri che siamo in chiusura di queste due giornate molto intense e molto belle abbiamo praticamente finito direi che è impossibile riassumere tutti i contenuti di queste due giornate veramente densissime e molto gratificanti almeno credo sicuramente per noi ringrazio tantissimo tutti i relatori dalla prima giornata fino a questa ultima tavola rotonda così densa di problemi di domande ma anche insomma di grandi prospettive in avanti voi sapete che nel nostro sito c'è un lemmario in cui stiamo raccogliendo le parole chiave su Castri direi che da questo convegno ne sono diverse diverse io ne ho una non so se le mie compagni sicuramente ne hanno anche loro io pensavo a quello che diceva prima Claudio Longhi nel suo bel discorso relativamente alla democrazia ecco penso che una delle impulsi profondi di Castri fosse proprio un impulso di condivisione democratica basta vedere come lavorava sui tacquini nel senso che sono delle scritture stranissime praticamente uniche secondo me non riesco a trovare un paragone anche per esempio libri molto belli pensiamo per un teatro umano di Giorgio Streller sono completamente diversi Castri prende il suo lettore e lo porta con sé in questo viaggio spesso parlo ovviamente dei tacquini editi quelli che lui ha voluto rendere pubblici quindi ha voluto condividere questo percorso ed è un percorso di perdersi e ritrovarsi di sperdimenti con un sacco di vicoli ciechi di strade interrotte poi di grandi aperture questa scrittura tutte le volte che mi avvicino a queste bellissime pagine anche quelle che sono conservate al centro studi sento proprio questa necessità di condivisione delle metodologie è come se Castri dicesse io faccio così andiamo insieme e questa sua dire tensione mi è sempre mi fa sempre pensare appunto a una sorta di condivisione democratica delle delle metodologie perché non rimangano nel segreto nello spazio segreto individuale ma che in qualche maniera entrino in circolo e quindi siano partecipabili pur nella loro estrema complessità come sapete e quindi mi ha sempre molto affascinato questo aspetto e per me è anche molto legato al tempo della sua giovinezza in cui il tempo del teatro politico in cui c'era questo senso di orizzontalità anche se poi insomma lui era comunque un maestro insomma talvolta si fa fatica a stare dietro anche all'intensità della sua esplorazione ma appunto forse ecco democrazia lo metteremo e naturalmente chiunque desideri dare suggerimenti ci scrivete noi abbiamo la mail sul sito e quindi cominciamo a raccogliere questo vocabolario questo lessico un po' tutti insieme io sono molto contenta ovviamente è stato una bellissima dire uno spazio abbastanza unico insomma nelle vite franitiche che facciamo sono molto contenta che ci siano tanti ragazzi tanti studenti vi invitiamo posso dirlo Anna al centro studi venite a aiutarci a lavorare su Tappini Castri a conoscere questo grande autore e a continuare appunto la ricerca su di lui perché l'altra parola che forse non so se si può mettere esplorazione mi ricordo un esploratore Castri però è un po' buffo quindi magari quella non la mettiamo e l'ultima cosa ringrazio moltissimo Claudio ma naturalmente tutti voi e avete detto tutti delle cose straordinarie queste giornate sono veramente preziose ma mi ha affascinato molto l'immagine che ci ha ricordato cioè dare il proprio sangue perché i morti parlino non esageriamo insomma non si è fatto male nessuno abbiamo dato tempo credo molto passione ma tutti insieme non solo noi che abbiamo insomma costruito queste giornate ma grazie a voi e alla vostra grande partecipazione io approfitto poi lascio la parola alle mie compagni di viaggio per ringraziare moltissimo teatro stabile l'università ma anche due persone speciali Carla Carucci che ha lavorato tantissimo e ci ha affiancato in molti modi Pacro H che non è colo là che anche lui insomma è stato parte fondamentale di questo progetto e anche Davide Giovanni Netti che è il nostro uomo qui delle immagini che davvero ha garantito insomma anche questa conduzione così felice di tutto grazie mille Anna Tea cosa facciamo ci applaudiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti